...e' un po' già il senso di quella che sarà l'aggetto della nostra città, è un'attività di quanti... ...dell'allavvio dei nostri lavori, il perché di questo convegno è un perché che molti di voi conosceranno ed è la necessità che noi riteniamo prioritaria, non solo per l'allucato, ma per l'intera nazione italiana di affrontare quelli che abbiamo definito appunto dei legni industriali ma politici anche della regione paesicata e che sono per noi, per me e la segretaria italiana, costituiscono un elemento essenziale anche per poter dare contenzia e spiegazione all'intero paese di quella che abbiamo definito negli ultimi tempi la peste italiana ovvero la situazione di un paese come il nostro nel quale la violazione sistematica delle regole, l'assenza di Stato di diritto e di democrazia è il frutto ormai di sessant'anni di un regime affidografico, questa è la definizione classica che noi radicali abbiamo ormai da tempo della politica italiana e mi rende urgente, importante e necessario da subito invertire questa tendenza e invertirla attraverso non solo le azioni di denuncio e di documentazione che sono anche il lavoro e il dossier che il segretario italiani ha elaborato il prodotto in questi ultimi mesi e che abbiamo presentato poco più di un mese fa insieme all'onorevole di riproposte in risoluzione alla fine che si esca dalla situazione di emergenza insieme al riempio della libertà della regione spazificata e di connessa che si accettano il segnale all'intera narazio italiana. Grazie, grazie Mario, grazie a Maurizio Colognietti in particolare, grazie ai davvero numerosissimi partecipanti a questo incontro, un incontro che a partire dalla messa a sistema delle varie denunce, delle varie risposte che sulle vicende, sulle questioni ambientali in cane Maurizio come Maurizio Colognietti ha fatto attraverso il suo dossier, le regni ambientali e i politici della Basilicata vuole essere un approfondimento di un'analisi in base alla quale possiamo dire ormai che laddove c'è un danno ambientale, una lesione paesagistica, lì dietro si crea sempre una organizzazione, una criminalità organizzata o politica che gli si voglia con un proliferare sull'intero corpo del paese proprio solo per diffondersi di un'epidemia presidenziale come ricordava prima il segretario dei radicali italiani Mario Stadevini che come radicali abbiamo descritto e denunciato nella peste italiana. Il lavoro di Maurizio Colognietti sarà oggetto di un approfondimento nella giornata di oggi, sarà anche un dossier che verrà stampato con noi c'è anche l'edizione che è importantino nel prossimo ottuno perché io credo che di questo anche il metodo di lavoro di raccogliere informazioni, di raccogliere le luce e poi attraverso pubblicazione la cittadinanza che deve essere un metodo che dobbiamo recuperare e di cui farci porti. La vicenda valutana per noi è una vicenda emblematica appunto di quella che definiamo peste italiana per una serie di motivi che le dossier peraltro sono anche puntualmente descritte e documentate. Innanzitutto la persistente sussistenza del conflitto di interessi tra soggetto che deve essere controllato che si sceglie sistematicamente il proprio conflitto. Noi in particolare questo lo abbiamo riscontrato rispetto a tutte le criticità ambientali che abbiamo registrato e che ci porta innanzitutto a riparire con fermezza la richiesta delle commissioni o comunque della reputa del direttore generale dell'acqua da Vincenzo Sicilito che ovvero non si sia mai visto nel nostro paese il direttore di un ente preposto ai controlli ambientali in tacere per oltre un anno il fatto che un inceneritore il diseneritore fenice inventeva mercurio nelle acque il fatto che lì per sé avrebbe potuto portare all'immediata sospensione dell'attività del disegno. Quindi invece non solo si è realizzato continuare l'attività di questo impianto ma in effetto si è tagliato il fatto che questa struttura inquinava con mercurio le acque, le acque vulcane. Su questa norma di struttura non ha minimamente il proceduto mentre noi abbiamo visto come a fronte di una azione assolutamente responsabile dalla parte di Maudizio Bolognese, le strumenti realizzate per la classificata e di morire, li vedete dai comuni Giuseppe Di Bello, abbiamo giustamente, in un avvisamento secondo me, reso noti i dati sull'inquinamento degli invasi in cane, delle lighe in cane che peraltro forniscono acqua tanto contante quando a pieni irrigazione all'acque l'opo Quindi è un problema che non guarda soltanto la Basilicata ma che riguarda anche altre regioni, ha visto immediatamente queste persone essere messe sotto il processo mentre a punto di numerose esposte che pure sono stati fatti rispetto alle varie questioni ambientali in Italia, c'è un silenzio da parte della magistratura che personalmente mi porta a pensare o che la magistratura è collusa con alcuni poteri che hanno portato una simile degenerazione ambientale oppure semplicemente i magistrati ignorano, non conoscono il diritto ambientale, forse per esempio persone che da 20 anni presidiano la profunda domanda di quella di Matera non era di meriti, non era oggetto probabilmente dei loro studi o forse le questioni ambientali non portano quella visibilità di magari inchieste d'altro tipo, abbiamo visto poco riflettori e ampia risonanza nazionale rispetto alle dati, ma l'hanno commentato con l'obiettivo del suo dossier, i soldi delle persone che interverranno su questo lo sottolineano, il pazzo di inquinamento ambientale luttano ormai incide sulla salute dei cicciadini con un'incidenza dell'augmento dei tumori assolutamente esponenziale che porta da questa regione ai vertici della triste classificata. Per questo per noi è urgente e in questo senso anche rivolgiamo un appello al Ministro della giudizia perché ci siano degli ispettori che accettino come mai questo silenzio davvero assolutamente rispetto alla situazione luttano, una situazione dove le cittatrici infatti sul territorio con inquinamenti pesantissimi penso alla situazione denunciata per quanto riguarda il comune di Toscato dove 250.000 tonnellate, è presente con noi il sindaco che è saluto all'interno della sua presenza, i rifiuti industriali già solo da decenni senza che una politica come alcune dovrebbe farsi visto che è stato definito il sito di interesse nazionale non si procede in questo senso. Io so che si sta discutendo di grande interesse da parte della stampa una proposta dell'introduzione delle bonus benzina con due decenni interno di un decreto. Io personalmente non penso che le presenzioni faranno essere fatte rispetto al consumo di prodotti petroliferi qual è ad esempio la benzina ma credo che rispetto ad una proposta che comunque non ha un impatto significativo rispetto ai reti della cittadinanza lucana la regione bene e meglio sarebbe a proporre che le risorse che corrispondono all'identità da parte della Capa sono fatte anche del capo che si tratta di circa 30 milioni di euro che deriverebbero dalla introduzione di questo bonus venissero invece destinati proprio per procedere alle bonifiche dei siti inclinati lucani a partire dal tito scalo. Credo che la validità debba essere un luogo in cui la trasparenza debba essere pretesa rispetto a tutte quelle informazioni ambientali e anche perché noi abbiamo visto come il processo di industrializzazione legato all'attività, legato al petrolio abbia così gravamente inciso su questo territorio e sappiamo anche che una nuova industrializzazione quella che taglia sui nomi di Green Economy si sta abbracciando e a fronte al punto dell'esperienza pregressa crediamo sia assolutamente necessario che rispetto anche a quello che apparentemente appare pulito e poi ci sia una massima trasparenza perché sappiamo come anche la validità rispetto a questo abbia anche le previsioni di rischio in particolare per quanto riguarda l'installazione di impianti e oggi effetti che possono avere conseguenze davvero interessanti. Noi abbiamo chiesto per altro e sarà importante il lavoro e il approfondimento di questa nostra giornata degli incontri anche con chi governa questa regione, con il Presidente del Pico, con il Secretario del Partito Democratico della Basilicata Roberto Speranza perché allora noi torneremo sotto alcune proposte concrete per inventire la lotta di quello che è stato finora il governo di questa regione. Abbiamo presentato i giustieri, tanto in Basilicata quanto anche a Roma, abbiamo investito in questa gravissima situazione la Commissione del Camerale Federiciuti che per lo meno nelle parole del Presidente del Tano di Corea si è impegnato ad autire alla ripresa a settembre tanto Maurizio con noi di quanto il tenente Rivello. Per noi, chiudo, radicale questo incontro è importantissimo non solo Rivello per approfondire un'analisi e per formulare delle proposte per un'inversione di lotta del governo di questa regione che vorrà presentare un'inversione di lotta del governo del nostro paese ma è importante anche perché ringrazio i numerosi esponenti americani che dalle altre regioni del meridione dalla Campania, dalla Calabria e in particolare dalla Puglia che sono particolarmente numerosi acquisiscono quella consapevolezza dell'urgenza di un'azione che riguardi appunto l'intero mezzogiorno e mi auguro che da questo nostro incontro possa anche nascere un coordinamento a partire dalle questioni ambientali che riguarda appunto il sud del nostro paese. Io davvero vi ringrazio per la voce alla partecipazione e se ci trovo la massima attenzione di tutti gli interventi che ci saranno in questa vita giornata perché penso che ci sono un po' di ridurre di fare un rispetto al lavoro già fatto da Maurizio Bolognetti e direi a tutti di prossima applicazione. Grazie. Bene, adesso procediamo con una serie di relazioni programmate che saranno quella del dottor Carlo Cambiano, Carlo Poliziai Preparati, quella del sottoscritto, in mensale c'è anche il sociologo ed esponente delle organizzazioni che saranno i tre allevatori, a serie di interventi programmi. Sono un breve elemento, perché credo che sia doveroso da parte mia, due cose. La prima vorrei ricordare in questa sala che c'è un compagno che ci ha lasciato, questo compagno è l'architetto Giannino Cusano, che da molto tempo non viene la prima esplicata, però è un praticato storico e io vorrei salutarlo, vorrei venire che voi saldasse. Carlo, qui siamo passati dai furchi del basento di Raffaele Micro ai reni del basento dell'Ora. Carlo, vogliamo meglio prevedere delle cose interessanti da raccontare, la pariera è di rientrare i 20 minuti. Grazie Carlo. Grazie a tutti. Mi dà l'occasione di parlare in una fetta della sanità. nella nostra regione è difficile parlare di sanità a un fuori di certa faccia. parlo di sanità e parlo da netto, ma ancora prima di responsabile di un movimento politico, la grande vita. per cui la mia relazione si indreccia tra un tecnico e un carattere di praticamente politico e un organismo. il primo dato che è stato già imporato, l'incidenza che si muove nella nostra religione è venuto a vedere pensare che, sempre per arrivare in maniera più complessiva la città già dal 1990, la lunga dal trevescita dell'incidenza, che di più verità era piatta dal 1990 e poi è venuto alla scena, e è scena in maniera continua. Nella nostra religione invece non è ancora diventata piatta, anzi, è un momento quindi il cittadino di un uomo nella nostra religione è un momento è un momento che forse perché la industrializzazione di questa religione è partita molto tardi e quindi gli effetti che uscite dall'industrializzazione si vedranno più in ritasso l'industrializzazione, come sapete, nella nostra religione è partita dalla fine all'inizio fino agli anni sessanta con l'industrializzazione della loro pazienza e quindi questi effetti si vedranno, si perdono e si vedranno ancora e poi ci troviamo, e quando abbiamo parlato di qualche altro per il nostro pubblico, in un momento c'è un certo punto con un po' schizofrento delle stranezze schizofrento perché si rivedeva l'aspetto preventivo di quella che è la valutologia più importante al giorno d'oggi la valutologia nazionale e, effettivamente, nella nostra regione sono partiti, ancora più nelle altre regioni, degli screening per l'ambiente precoce e mi riferisco agli screening sui tumori dell'adonna ai screening del colon recto dall'altra parte c'è la schizofrenia che quella cosa che dovrebbe essere la valutazione dei tumori c'è sull'ambiente non è partita assolutamente niente perché non ci ritroviamo con tumori tipicamente dell'ambiente che mi sono io, il tumore delle tipi di aramianto se ne parla l'anno, ma non per le mani delle tipi di aramianto non si è ne parla l'anno, se ne parla l'anno di un tumore che ormai ha fatto le sue tipi mentre il tumore dell'ambiente in questo periodo ha un bello di famezza, lunghissimo, che è il tuo ragazzo a 40 anni c'è un tumore che ormai ha fatto un giocatore e mi riferisco a un tumore della saracometà il saracometatico e un saracometatico è un saracometatico, se ne parla, ha una PQC ha un po' di microrum, ha una sostanza, ha una monomera che mi serve per fare per tutti quegli oggetti e PQC ha anche i tuoi figli di mamma che sono i soggetti che hanno, nella loro attività lavorativo, 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 progettato con i tuoi figli di formare, giusto da una monomera e già noi assistiamo agli mobili da avestosi, cioè da aramianto agli mobili da aramianto, che non assistono più a morte da PQC ecco la stanza che viene in questa regione noi siamo in presenza di un'impedemia, l'impedemia del tumore e non abbiamo ancora un registro per i tumori ecco le situazioni strane della nostra regione non abbiamo, eppure ormai, e comunque l'opinione che vi è una regione molto bene inquinante eppure non abbiamo, per esempio, un'altra spia importante di quello che è l'inquinamento, che può essere l'inquinamento nella nostra regione, per esempio non abbiamo un registro per le informazioni, non esiste un registro per le informazioni io ho trovato dei dati, che in un certo modo ci vengono innanulati ad esempio, ogni 100 mila nati nella nostra regione 11 sono affetti da simbolo e il mondo contattivo mentre nelle linee romane ho 100 mila nati ce ne sono circa due quindi da noi ho cinque volte dell'incidenza di sorgetti, di affetti, della simbolo che mi dà rispetto alle linee romane questo vorrebbe dire due cose o c'è una ragazza della regione o perché c'è qualche forza esterna che va a incidere sul determinismo di questa malattia questa forza esterna lo dovrebbe essere l'inquinamento ancora l'inquinamento ambientale che cosa riguarda questo nostro per quanto riguarda la stranezza di questa maggiore è ormai attività da tantissimo che tutto quello che era vita al livello del peregrino poi rientra nel ciclo dell'amilità tutto quello che era vita al livello del peregrino attivano nell'acqua attivano nell'acqua delle sorgetti attivano nell'acqua delle mani attivano nel ciclo dell'amilità eppure la previsione della mia età non è fatta ma cosa di più noi eravamo attuati a parlare di quelli che erano l'imbondolo l'uomo tossici l'uomo bene all'interno del ciclo lavorativo in passività da essere una donna cioè lo ciclo di progresso abbiamo soggetti soggetti all'attività del ciclo di uomo che non hanno avuto un rapporto all'avvocato con gli studenti italiani quindi siamo oltre quello della normale vicina del lavoro siamo in presenza del ciclo di uomo che colpisce anche chi non ha avuto un rapporto con gli studenti italiani abbiamo soggetti che altri giovani se si presentano alcuni di tumore il titolo delle tipe di amato non hanno avuto e non hanno avuto ma era un rapporto delle tipe di amato insieme oltre la malicina del lavoro tutto questo che cosa vuol dire? vuol dire che ci sono ormai delle forze che è giusto sull'attività del cellulare ma non era di più sul ciclo cellulare ciclo cellulare che è mandato dalla DNA quando si parla del tumore si deve mandare di DNA quando si parla del tumore si deve parlare di DNA non in senso classico cioè il serbatoide della nostra radicalità perché il tumore ereditale sono di 5% solo di 5% le altre domande del 5% dei tumori che risolvono sono secondari all'incidenza alla rapporto dell'uomo e dell'ambiente quanto durerà quanto durerà questo merito questo punto verso l'altro non lo sapevo non lo sapevo non lo sapevo mai riusciremo a raccontare qualcosa quando definitivamente valcherà la raccontazione che temanate cioè in quanto i nostri politici sarà riuscire sulla vita grazie 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 stile non lo stile di approfondimento e nei reti noi ci stiamo vedendo con che nella nostra azione è necessario approfondimento è necessario anche conoscere che molto spesso i cittadini i cittadini in questa regione giustamente come ha detto 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 in questo momento in questo momento non lasciano solo il corso alla questa regione in un momento in cui era di sogno di fare la chiarezza da una serie di situazioni che prima venivano emergati tre siti due siti di importanza due zone di importanza nazionale della politica cittadini e io arrangerei una terza area che rischia di diventare una terza area che è quella di San Nicola da Menetti cioè San Nicola da Menetti ha un'industrializzazione nel dotto o fila eppure in quell'area cioè nel tuo tempo si è determinata una condizione che è da dire in strada situazione anche degli interventi come si diceva sull'apenice qui ha fatto diverso intervento che ha titolo anche delle questioni quindi i radicati italiani e soprattutto l'autizio economico che ha inteso svolgere questo incontro sul tema e poi diciamo che non potrò affrontare tutti gli aspetti di questi detenti cioè chimici che in qualche modo hanno un ritorno sulla politica perché poi in fondo le scelte sono queste che hanno un ritorno sulle decisioni sul sistema di decisioni al livello regionale però appunto chi vuole abbiamo due siti cioè un ruolo ambientalista dal PDT e cioè abbiamo una televisione una TV che da tempo svolge dal 2006 svolge un'azione di rinunciare avanti quindi i temi sono tutti là che è possibile guardare e vedere quello che in questa regione è dentro queste problematiche io diciamo che una cosa su quello che è stata un po' la presa di coscienza un po' di un po' che è anche stata un'inchiesta che ha ora condotto sul canale pur ed è stata un po' per noi anche una sorpresa vedere che a livello di opinione pubblica c'era poca attenzione dei così stringenti parlo di opinione pubblica è una questione che io penso non guarda solo la classificazione guarda il sud Italia soprattutto che vive in una fase cruciale importantissima in bilico tra il presunto di sviluppo industriale e uno sviluppo in altri settori che ancora non c'è stato oppure è tanta essere visto quindi alla parte diciamo questo è davvero interessante come appunto anche i poteri che ci sono locali e questo è un tema politico poi io mi discorso questo e tratterò diciamo nello specifico un tema per dire come in realtà la grande quantità di benefici prodotti nella fase dei cicli di produzione sia notevole e molto spesso c'è poca attenzione sui vari dei salanti che dovrebbero occuparsi di monitorare le sottosegnazioni dei vari dati però c'è un tema di cioè in questo momento in questa regione si è scoperta in tolleranza per chi solleva questi temi i giornalisti che scoprono un'inchiesta su questi temi vengono fatti oggetto anche di come dire isolamento delle relazioni e gli occhi di polizia che scoprono i tagli su questo ovviamente si trovate a capire i termini però è un segnale preoccupante ma ci sono anche singole città questi temi che in qualche modo vivono un isolamento di un portato che forse questi temi non potrebbero salire dalla parte dell'attenzione delle amministrazioni ma vengono al tema di oggi quindi la base di cazzo possiamo avere coperta diciamo in prospettiva anche argomentere i due terzi della concessione dei permessi di ricerca pedologica cioè quasi completamente coperta in pari sono 10 i permessi di ricerca in alto 22 delle concessioni di pedologica 3.926 65 km2 9.999 km2 la superficie è impegnata su questi su questa ricerca e estrazione sono presenti altre 20 nuove istanze 15 15 15 in provincia della materia 5 a cui partecipano 7 compagnie che portano una superficie impegnata oltre 6.599 quindi 9.999 6.550 km2 di conferenza dalla concessione dei permessi efficienti quindi parliamo dell'interno dell'interno e esistono pareti di mentre noi stiamo parlando in regione basificata appunto per la via perché una cosa bisogna sapere che non è che la 1999 ha stabilito che le competenze sono passate al governo centra in prospettiva cioè le autorizzazioni che erano partite in precedenza se devono ancora un'interno presso la regione quindi bisogna sapere che questo fa e poi ci sono istanze sono 471 i pozzi idrocafusi olio e gas prezzi 270 in prospettiva e 202 in prospettiva di potenza solo nella concessione della Val d'Affri cioè nel territorio della Val d'Affri hanno ottenuto da un'estime a un miliardo di famigli come risorse cioè come risorse però in realtà i dati certi eni o altre compagnie di ogni anno però viene raggiunto in Val d'Affri sono esempi 700 tipologi tra oleodotti e pene di l'edizione che attraversano montagne luoghi sorocenti boschi e anche aree di protezione cioè il palazzo nazionale ma appena incominiale quindi sono praticamente un'infrastruttazione industriale che non avviene in zone industriali e questo è il dato anche in zone che in realtà dovrebbero essere evocate alla conservazione delle risorse inaltate in questo caso volontari sappiamo benissimo che il serbatoio dell'acqua fondamentale è solo quella classificata per la lintra pubblica sappiamo come è successo per questo ciclo ma ci sono tante altre situazioni di crisi che poi diciamo che sforrò poi chi vuole approfondirà appunto sui due sigli per dare un esempio per dare un esempio otto pulsi ricadono nel giocacimento del giocacimento voltare ricadono nel perimetro del palazzo nazionale quindi abbiamo un palazzo nazionale in cui è stato dominato un po' di star cioè è partito già un po' di star che si è stata in questo lato è volutamente il palazzo perché il palazzo non potesse esplicare un controllo e una vigilanza su quelle che sono le attività percorrere che ci sono e sono la bellezza degli otto pulsi e poi i numerosi altri che staranno sul perimetro di questo palazzo nazionale quindi sono previsti appunto dei palazzi nazionali previsti nel palazzo in strumento del palazzo dei calanti sul fungore con la costa di Oga quindi appunto e l'interno territorio e soprattutto sono anche quelle le aree potente che ci dovrebbero essere il servatorio della biodiversità il servatorio della vita il servatorio delle risorse fondamentali come l'acqua che sono poi molte sono tre invece il centro quindi noi ci scordiamo quasi sempre il centro oli degli stich ma abbiamo il centro oli di pigiano quello degli stich e abbiamo costruendo centro oli i costi della total accoleto pericare poi abbiamo numerosi polsi che appunto secondo una regola come dire prima si sono rivolotti nella terra di nessuno cioè erano polsi adesso le compagnie sono diventate un po' più osate di più cioè ci sono dei polsi che addirittura sono dei centri abitati abbiamo il pozzo A di 1 nella Villa Tari la 520 dell'ospedale Villa Tari qui prima parlava che il dottor era e voglio dire un pozzo di petrolio a poca distanza però abbiamo anche la Manacogna abbiamo Policocco abbiamo diciamo pozzi di petrolio all'interno dei centri abitati che è una situazione un po' tipica se guardiamo i paesi che si affacciano su Manacastro su quanto la base di legata poi dirò non è molto distante in realtà cioè non è molto distante dalla Manacastro perché quello che si sta per avvenire quindi è un po' quello che un po' di tempo fa accusavano noi di essere un po' dei pazzi di Sionano cioè quelli di vedere come dire e quindi di dire bagionare come lo dice invece ci siamo resi conto che i gasdotti e gli oloredotti del Manacastro avranno una termina in Basilicata e mi riferisco allo stoccaggio di gas russo in Pappasetto nei comuni di Quispic cifra di Salano che in questi giorni appunto abbiamo denunciato si sta avendo una devo chiedere una vergognosa trattativa con i comuni in cui questi accordi che abbiamo parlato segreti sono fatti sulla testa delle persone senza affrontare alcuni ricordare che sono chiave per quella situazione in realtà già differenze esplosive cioè con un giacimento esausto di gas che è in acceduta da questa società ma anche con tantissime situazioni di crisi presenti in quell'arte quindi la bonifica come può avvenire una bonifica se nel frattempo invece di sottrarre compromissione del territorio stiamo ad aggiungere compromissione quindi queste sono un po' le scelte di cui parlava il dottor Garanzia cioè questo stratismo dalla una parte della politica che decide dall'altra parte le scelte del territoriale che non vengono viste perché soprattutto i cittadini non devono e quindi c'è un punto centrale che l'informazione deve giocare a nuovo poi c'è continuando appunto fin qui le nostre linee di riparazione dell'operazione ma adesso parlaremo delle quantità del territorio di estratto ovviamente la proporzione tra quantità del territorio di estratto e sostanze e chimiche prodotte da questa destrazione è un'equazione diretta cioè significa più estrazione più sostanze chimiche c'è da trattare e quindi c'è una quantità direttamente proporzionale di sostanze da smottire da trattare immesse nelle matrici di acqua su ovo e terreno quindi parliamo della lotta in solo 4 anni c'è da 2005 a 2009 questi sono stati prodotti in solo di 4 corsi 27 milioni di donetà di oro e 4 milioni di benedì di gas considerano che la doppietà del petrolio corrisponde a circa 6,8 barri di litri di grigio noi preferiamo calcolare questo non come ne fanno molti amministratori evocati in termini di roviti preferiamo contrarre con lì in termini di vere condensazioni ambientali che sono e l'ambiente e la compromissione dell'ambiente quindi capite benissimo che cosa significa il 76% della produzione italiana per esempio per l'olio e il 12% della produzione di gas quindi non sono piccole scifre una piccola regione che poi piccola da me per un territorio lufoso non è piccola produce il 76% del fabbisogno per lì per lì per lì di gas allora qui ti dico la parte delle privilegiazioni però durante la privilegiazione vengono usate una ventina di sostanze di impiedimento tra cui molte hanno una forma segretta tra cui quel famoso palio di cui parla la probabilità che serve è una sostanza appesantente per creare diciamo appesantire i panni però c'è una ventina una ventina di queste sostanze quindi non sono sostanze che ovviamente candeggiano solo nell'acqua vanno nel suono vanno nelle favole e molto spesso anche nonostante le assicurazioni da parte dei compagniere delle valutazioni abbiamo dovuto riscontrare che queste sostanze realmente la fine che fanno queste sostanze che nell'acqua poi si ritrova in superficie se si ritrova facciamo un esempio il trattamento di cedrio per cedro olio di pigia il cedro olio di pigia a titolo di esempio vengono trattate olio gas massi e acque di strato cioè sono tutte le acque di profondità che in realtà sono tosche e velocive che in realtà non dovrebbero mai contaminare essere messe nelle patte superficiali quindi sono 300.200 m3 abbiamo un aerodotto di 140 km in più che si aggiunge ai 700 km della rete dei pozzi che si conoscevano quindi questo aerodotto che porta il greggio da pigiano a talle da fine nere d'acqua e di qui al porto per rispondazione poi questo è un altro capito su cui farei vedere però non dire abbiamo 2.700.000 m3 di gas frattati 1.800.000 m3 all'anno di acque di strato 8.000 m3 all'anno di terrenaggi volerosi 750.600 m3 all'anno di rifiuti solidi cioè stavano probabilmente fatti questi dati sono stati rilevati da conteni direttamente quindi non me ne ripeto cioè sono quelli iscritti nelle valutazioni di parte orientale qui non c'è un'altra roba che queste parti non il governo patuano ma avrebbero il governo di centro-sinistra in quel periodo sono 100.000 m3 dell'anno appunto annunciati ai banchi che vengono ufficialmente diciamo una parte rendisce un'area di riscattie di cui una delle più grandi d'Europa si trova a quartiere verticale comune più piccole d'Europa 400 m3 alla riscattia unica più grande d'Europa e poi abbiamo una soprattutto appaterno l'ecologia odrivi abbiamo tecnologo in barbacetto abbiamo altre tecnologie che sempre agiscono in barbacetto queste quantità quindi sono i rifiuti che in qualche modo devono aggiungersi enormi quantità di rifiuti che assurdi questi sono mostrati e parliamo sempre delito alla via che è un stabilimento inserito e classificato in base all'articolo 15 dell'epoca dell'esercizio 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 quindi è una industria ad alto rischio quindi in effetti ha ragione ad alto rischio perché gli incidenti ci sono stati alias alla materia di funzionamento perché qua sui termini poi bisogna spiegare noi abbiamo chiamato con un dato tecnico effettico laterale abbiamo trovato un termine intermedio tra cui l'ONI che non è un incidente perché non sono incidenti ma dall'altra parte è solo una maniera di funzionamento e quindi noi chiamiamo effettico laterale che è un ciclo legato alla sottosformazione cioè fondamentalmente alla sottosformazione del zuffo comporta anche l'inizio di una cosfera di gas di norme pensiamo all'indicere solo corosa agli ossidi di azor poi vediamo qui su questo c'è anche una cosa abbastanza se non fosse drammatico è divertente perché bisogna capire se le centraline ha sono troppo vicine o sono troppo distanti cioè bisogna capire a quale centraline bisogna parlare riferimento della serie di azor che hanno superato per me 18 volte 25 volte i limiti previsti dalla normativa e quindi parlare di gas della venecia le poveri sottili l'ossido il carbone l'ozono questo è un fatto in cui la OTA interventa addirittura sull'Unione Europea e abbiamo avuto un'interpellanza dell'Unione Europea dell'Areco in cui chiedevamo se a livello europeo ci fossero dei parametri di riferimento che in qualche modo con successo in Italia ad adeguarsi perché in Italia i parametri parlano di 10 miligrammi a bene profondo e quei valenti in realtà che corrisponderebbe da 30 parti per milione con queste con queste quantità già sono dedicati a noncivere per la salute umana cioè da da eminenti su 11p quindi sono già si vi ha presto arrivato poi c'è l'idrocaracuti con i ciccianomaci e l'idrocaracuti e il benzene quindi i ciccianomaci è importante da questo punto di vista però vediamo anche gli incidenti sono prevenuti e termino sempre che riguarda i ciccianomaci che hanno documentato questo e esiste una casistica ripeto 7 però bisogna considerare quelli che ufficialmente non vengono considerati incidenti però sono i ciccianomaci le cose le cose le chiamate 10 di quattro i pozzi per l'olivio di cui c'è stato un uomo 8 8 punti e il trasporto del grecio con 2 morti 15 che hanno riguardato l'attività del grecio perché l'ospensione esistica sull'assito delle uniche pozze che hanno subito come dire sono considerati incidentali ce ne sono in passività 5 le cose le carali Montefoi Montecrosso che si parla di dare i permissi Policoro 1 Volturino 1 per esempio non si cita del Pozzo da Montianti 1 non si cita c'erano 1 e 2 cioè praticamente le donne distanti anni abbiamo visto risequestrare la stessa area dopo che la gente viene agli sorgenti perché vorremmo capire se questi sorgenti sono terminati o no ma anche su questo parlare che non ci siano risposte e vedete quindi in battaglia che c'è una interferenza negativa anche perché poi esiste la miglia di depurazione cioè che queste attività vincitano negativamente sul sistema di depurazione pubblico cioè nel 1978 dei depuratori sono gestiti e quindi c'è di fatto il cattivo condizionamento di questi depuratori significa che in questi depuratori c'è interferenza anche delle rapida pedologiche per esempio depuratori parlano dell'attività industriale di già per esempio del depuratore di della valutare e quindi anche il sasto infatti è legato a questo quindi un'analisi di depurazione avveniamo le nostre e quindi all'epoca è così l'ultimo secondo la ODA secondo anche Maurizio che da tempo ci sta ancora riguardo in questa pratica devo dire fishe che noi stiamo portando la ricetta su questo su sistema agri istituzionali burogramiche veramente dove è necessario fare le chiarezza e quindi conti che cosa in realtà ci sono un miglioraggio dell'abilità che nonostante gli accordi di programma con l'eleni sono stati disattesi completamente un osservatorio dell'abilità che parte dopo 12 anni ne manca quel punto zero per stabilire come prima era l'epoca e oggi quindi deve mancare l'area di inquinamento quindi una breve volta poi abbiamo abbiamo questa legge 47 del 98 questo silenzio assenso previsto dalla legge 47 per cui abbiamo visto la polizia cioè una legge regionale che permette ai sindaci di non pronunciarsi e quindi di dare un assenso senza pronunciamento questo è un fatto veramente vero di un altro come nel caso delle burcole per esempio abbiamo avuto i libri di Murtoro cioè ha il pregio per l'aglio delle burcole minacciare appunto la religione di denunce anche dei penali e quindi termino dicendo appunto che in Basilicata termine una frase non cittomana però una frase appropriata il funzo delle palattare come metto dalle parole di quelli che ripetono all'oppranza che tutto va bene questa è la presentazione di Stati Sarriano al rapporto delle comandie delle Gambiente del 2010 quindi è una situazione che penso fondamentale 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 che è fondamentale che è fondamentale di intervenire subito però la prima credo una pressa indisperesabile noi dico noi siamo abituati ad occuparci di questioni di legalità sempre e comunque di questioni di legalità per attivare lo Stato dell'Italia tant'è che per anni qui in questa regione e da anni abbiamo ripetuto caso basificata come simbolo del caso Italia i costi dell'antidemocrazia intendendo i costi dell'antidemocrazia i costi di un sistema che nega la legalità nega Stato di diritto nega la democrazia e non se ne dire come ineritabile corollare poi e negare conoscenza e negare la sparenza ecco io credo che quello che abbiamo scritto nel dossier con la Basilicata perenata la Mamacostia sia in realtà un un frammento un capitolo di una storia complessa articolata che racconta lo spascio della democrazia di quest'ora una storia che abbiamo descritto in un documento ahimè è rimasto clandestino che però provate sul sito www.radical.it io non mi inizio a leggere il documento la peste italiana perché poi forse parlando di peste italiana e approfondendo quello che ci ha scritto di quello documento la peste italiana quello che ci ha migliorato è una vera perché no anche io voglio capire questa ragione sul fronte industriale diciamo questo documento che poi contempla la masica radicale diciamo di 60 anni di storia repubblicana che sono stati interventi 60 anni di trattamento del dettato costituzionale passi pensare per esempio questa è una notizia che trovate lì che le pensioni sono state seguite con quasi 30 anni di ritardo non nel 48 ma nel 1970 ma certo se ne parliamo di peste italiana parliamo del reiterato attentato agli critici e politici delle cittadali italiane che sarebbe anche un reato penale solo che nessun magistralato evidentemente in questi anni se ne accordo penso per esempio alla 1995 ai fantasmi dei referentari ai fantasmi dei reticati sui referenti ecco ma la peste italiana è anche la migrazione del reiterato piano conoscere le referenti liberate ma la peste italiana e poi adesso poi ritroviamo l'evento e anche quello che è successo nelle ultime elezioni regionali con le elezioni indiali con le elezioni in Italia per cui abbiamo cambiato siamo stati anche più la legge elettorale l'hanno cambiata da due volte è correttamente non abbiamo solo sottolineato che c'era un problema che era quello che diceva l'Unione Euro l'Altico Consiglio d'Europa ma che era anche un provvedimento anticostituzionale con la lotta per esempio ed è appunto la legazione del diritto del diritto del diritto del diritto del diritto siamo andati alla tribunale in notenza perché se parliamo di legalità scusate ne vogliamo parlare anche di queste andiamo ad ottimare in notenza ci mettono l'accesso agli atti 540,90 a Milano a Milano l'accesso agli atti l'accesso agli atti non è stato l'accesso agli atti e allora probabilmente è detto che già a partire dalla delegazione dal mio punto di vista quello di cui stiamo parlando di biologia è la peste lucrane che si manifesta anche non solo anche attraverso un disconoscito e taciuto inquinamento avverenamento di forze importanti di questo e allora se parliamo di questo io credo che parliamo della classificata delle città senza nome della classificata dei ruoti della classificata primavera dei ruoti che hanno provato a farci dimenticare qui c'è il sindaco di diritto nelle per balle della conferenza dei servizi del 2008 che ripetono il ministerio dell'ambiente se la ricordata non c'era la classificata la classificata poi adesso sicuramente che vogliono risolvere la questione con un topamento cioè con una colata di genente ad esempio ovviamente tra la montezza sotto al tabello poi poi ci direi spesso ad esempio alla gemella della classificata è affascinante dall'area confinata oppure ai due siti di politica dell'interesse nazionale dove è mancato evidentemente sia l'interesse che la politica e dove l'inquinamento è andato ben oltre ma lo testimoniano anche le ordinanze per esempio fatte dalla sindaca ben oltre venerebbe in stabilità dell'inquinamento della terra dall'altra dalle burocrazie che probabilmente probabilmente ci parlerà di 30 mesi di inquinamento provocati dall'incenetore prevenice con i tentativi dei testaggi della parate dell'alba e non solo dell'alba dove tutti sapevano quello che diciamo è il segreto di bucinella lo sapevano dove dovevano sapere per 13 mesi hanno piaciuto però vedete poi abbiamo un procuratore dell'alba pubblica che fa la televisione dice io sono una persona responsabile mica potevo semestrare il buono rotante e da 16 mesi si dà e non solo da quanto tempo il dottor Arminio presiede quella presidia allora magari abbiamo sentito dei motori ma c'è sempre magari poi il nostro Zotto questa recente non può scappare magari ci illustrerai tu e come diceva il dottor Galapiano doveva farla conoscere morale in base ai dati e in base alla valorea opinione gli altri medici che sono qui in sabato c'è il dottor Mazzio Cicchetti il dottor Pisaro li abbiamo sentiti li abbiamo anche intervistati a un momento diversificata nella parola della parola della parola della parola della parola della parola però il problema è che quando poi si raccontano queste cose c'è la tendenza da parte di qualche ambiente a ti percepiscono un pochino come uno che va a compromettere l'intorografia della parola della parola che dice che non c'è o forse non c'è ma adesso io provo ad entrare nel vero sulla vicenda in particolare perché una vicenda troppo che era molto interessante questa vicenda è evidentemente la vicenda acqua e succede che quando denunciamo il decadimento della parola 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 ma prima di entrare nel vero io vorrei leggervi un intervento che credo sia davvero interessante sia il consegno di prima che il consegno di poi si tratta di un intervento fatto dalla senatoria a vita e io colombo nel 1979 era la settimana della legislatura e perché in quello intervento il senatore Vittoropopo parla cita Giustino Fortunato dello spaccimento geologico pochi anni dopo tra l'altro ci sarà la prana di sedizie con i suoi morti e con la stranità da noi distanziati di 26 miliardi di spese di consolo di dannamento e con un altro problema che ha detto il senatore del gruppo ci intera Giustino Fortunato e poi si rivolge di parte dell'ore e ha seguito quello che dice c'è poi un altro tema dice il senatore su cui pianiamo le opere igieniche del loro complesso le opere di adattuzione delle acque i problemi sono due vi sono gli scarichi di acque sporche che vanno nei corsi d'acqua questi corsi d'acqua la mettono gli invasi gli invasi alimentano libertà di diviazione ma danno anche le valimentazioni idriche ai cittadini vi è il problema l'esigenza della recuperazione vi è il problema della deviazione di queste acque di rifiuto dai corsi d'acqua che le mettono e qui sono notate che 30 anni dopo noi ci siamo ritrovati e probabilmente decidi o centinaia di milioni di euro dopo ci ritroviamo a parlare di acque sporche che ne finiscono negli invasi e della necessità di interrogararsi su cosa ha determinato un decadimento della collocazione però io torno su quello che dicevamo prima io ho potuto un'impressione che non si comprende o meglio non si voglia comprendere per ragioni che mi trovo evidenti che in questa regione c'è una risorsa bene più preziosa del loro rito e che questa risorsa si chiama e che non si tratta di essere a favore o contro il pericolo non è su questo piano che abbiamo mai visto il ragionamento ma si tratta di interrogarsi se sia stato sensato l'estrazione dell'estrazione dell'erogine in un territorio che non è il deserto del salato che è il delicatissimo dal punto di vista del geologico che è un territorio in molte parti fra l'uso si sia stato usaggio consentire l'estrazione in una zona che le risorse idriche e magari in prossimità di un po' tanto in mare certo però parlare di acque in basificata parlare di acque in basificata significa anche parlare di acque prodotto con chiese significa parlare di acque prodotto con carano che è la spagna nata da 107 anni e in diventabilmente a quel punto la memoria accorre a chiese della età cosa appena e io ci ero avanti una volta che il Decempio diceva al teatro più da mangiare che da bere si riferiva dall'acque prodotto con chiese ma evidentemente nell'erogine del sesso atteggiare questa frase la possiamo attribuire anche a altre situazioni e poi con l'organe non ricordavano ma è bene ripeto di seta la macchina e in particolare gioverà entrerà sempre la media che con l'obietto qui ci sarà valutato che ci parlerà magari anche di quello che succede a sedi secoli di scala di sedi secoli la media che con l'obietto è la più grande del terreno dalla tuta d'Europa che è uno dei più importanti pacifici d'Europa che è in base a circa 540 milioni di cubi d'acqua e con la l'angolo di quella migliore 40% dell'angolo di quella migliore in base a quello che trova scritto sul sito della quantità di pacifico finisce il punto il 65% dell'acqua del terremusivo finisce il punto e quindi venuti votati ma allora il problema è che i procurati avanti in una situazione vedete consapevole di questo consapevole del fatto che è improbabile che le distrazioni per l'unitere non abbiano avuto un impatto sulla razione salita consapevole della criticità che caratterizza la maria telefoniale di depurazione l'8 gennaio 2010 siamo permessi di porre delle domande che sono le varie dubbi non avessimo mai fatto ci è estragnato il finimondo provato l'armi poi detto da chi? dall'ex assessore dell'ambiente di Cenzo Santoglietico che gli smessi i bari di assessore che si è ricordato del suo problema e della trasparenza sulla gestione del centro di un terremusivo dove sono stoccate 64 bari di un piano che non deve avere alcune di elettore ma però da assessore queste cose non si è ricordati siamo arrivati con l'attuale perché io lo devo dire anche per la stessa più con l'attuale portaloce del presidente della regione basificata il dottor Pino Grasso che mi ha detto che eravamo facevamo aggiuntaggio a favore delle compagnie delle compagnie e così il 21 giugno abbiamo fatto un giro su tutti i bazzi i compagni di Anzi il segno di Spello abbiamo fatto i prevedi scontentoristei ci siamo messi in macchina siamo andati all'autorato di Osana di Basto Chieti in Abruzzo che abbiamo segnato l'acqua 7 giorni dopo ci hanno risposto e la risposta del Dottio San hanno diciamo trasformato i tubi che avevano certezze che è inersa dall'unione analisi della presenza di bari che è un'infinanza chimico da 2 a 3 volte superiore ai chimili previsti dal terreno che ci sono atti nel 2005 e nel 2006 il bari è sicuramente riportabile e ricollegabile alle situazioni per vivere ma è inersa sulla presenza del bari è inersa anche una presenza indice evidentemente di un carattivo funzionamento delle analisi delle prassette dalla vita del 1979 evidentemente è cambiata assai fuori a quel punto che abbiamo cercato di affrontare abbiamo paracosamente documenti anche dei fatti uno di questi documenti è quello della megamontum ma è un virus del pubblico e in questo sistema non è un pubblico che è una società che era partecipata alla ragione basterna gli eserimenti della vita del Pelluzillo sono stati riscontati riscontati senza fidocarburi policiclici pezzo altracene e pezzo riretta noi arriviamo al 2004 e c'è un documento preparatorio nel piano regionale di tutela peteacque di un gruppo di lavoro pensate che è un po' presi tutto dall'arquadre direttore dell'ARPA dopo il tempo si dice purtroppo allora il direttore generale si farà tenere e in questo momento il tema 4 non scrivono ciò che scriviamo noi dicono si evidenziano di diverso e la qualità. A partire dall'altro con il lavoro, tutte le arco di invaso passano dalla categoria a 2 e alla 3 e aggiungono che bisogna disegare, bisogna capire che c'è stato questo peggioramento. Ma andiamo avanti. Altra relazione, questa, sono tutte grandestine di fatto. Chi le conosce? Non mi fa sempre, se ne provano da Ponti Marco Pio, se ne vedete bene cosa scrive. Le concentrazioni analitiche è veramente superiore. Nei siti di siti, arco di confluenza per il sito, canale di comunicazione industriale, arco di confluenza per le varie, arco che sono con gli alari, nei siti industriali. Appalto che nella vita del per il sito confermano la presenza, insomma, di emissione laterale, più neanche di carattina, arco, civili e industriali. Ma non basta perché dicono anche che una cosa di più è qualcosa d'altro. I siti risultati maggiormente interessati o rilevante, l'impatto ambientale, segue le orientazioni. Il primo presente è l'elevante di un'alità del carattolo organico. Il secondo, il canale di scarico del centro e il terzo si trovano a parte dell'alto industriale, uguale che a verticale dove vengono smalativi i bandi rileviti alle estrazioni del previ per il risultato, forse un'azienda che si chiama serena, ma un po' presto. Tutti e due entrano poi sempre in classe terza, ovvero ambienti molto inquinanti o comunque alterati. E poi dicono male, condurito il cielo con alcuni, sono stati discontrati, lo dicono ovviamente. Valori di concentrazione di biocarboni pesanti, superiori ai limiti previsti per le aeree, lo dicono. E poi parlano di business. E poi andiamo avanti così. Poi magari arriviamo alla marpa di uovo, all'arpa basificata, che ci viene appunto che su 241 territori ereditati da quei prodotti di un canale SBA funzionano solo 178 carabinieri. Ciò che è 179, è la 100 di questi dettagli. Noi, a mangiare il velo, e magari anche qualcun altro, lo trova come meglio, come l'intervento, lo è stato di funzione. Abbiamo dei seri dubbi anche sul funzionamento del 173 del nucleare agitivi. Anche perché ci sono anche solo queste ignorazioni che rendono la parola di ucce di potenza sul funzionamento della l'integrazione da parte di acquetti. E poi andiamo al titolo di quei stranamente agenari, quando ci hanno fatto, ci hanno cominciato, nel silenzio generale, e poi tutto quanto si sono sfruttati, queste cose che pure erano disponibili. Poi abbiamo il presidente di Angelo Quantozza, dell'Aatro, ha una volontà d'ambito territoriale integrato che dice, ci sarà un problema sulla rete idrica, sul servizio pubblico integrato per quanto riguarda la depurazione, che poi abbiamo negli ambienti, come questi, che gli interessi sono sfruttati. Quindi questo che fici, se ne eravamo detto, eh, non so che ne fai così, è ragione pure. No, perché poi ci sono i soldi, le raupe. Ma facciamo stare. Intanto questo documento, però, dice che in Basilicata si hanno portato un piccolo posto per riempirizzare le depurazioni. E poi ci sono dati di cronaca, pure questi si sono identificati tutti, estremi. Vada prestato, interviene nel maggio del 2009 e dice che ci sono scagli di dinero urbano e industriali. Deve potete rendere, ah, eh, ma c'è poco da dire, all'interno della pianeta di Monti d'Ottorio, dove esigencia l'ha messo il decoratore di un sortile, che se l'acqua raggiunge nei dati di questo, preparato a prestare, quindi una notte, una defuccia di cinque tecnici di agricoltura, che se l'acqua ridisce, no, se l'acqua raggiunge una certa forma, il decoratore riderebbe perché l'acqua, come quello che continui lo vuoi immaginare, finisce dall'interno della vita. Diciamoci la verità, stiamo parlando di merda che non sono di merda. E poi magari... Sono di tutto meno inferiore all'interno dei massimi. Bene, ho l'ottima precisazione dei finanzii. E poi, per altri di questi, che cosa ne voi sapete? Che non se le pongono nelle domande, no? Poi abbiamo delle tragedie, come a Soperato, come a Starno, come a Semise. Magari dovremmo andare all'ottima, andiamo proprio indietro. Il sesto idrogeologico, quello che è il sesto idrogeologico di cui parla Marco Panella, il tema della peste italiana, della peste lucano, se vedi. No, la riscaldia che si inizia a pochi centimetri in linea d'aria dalla diga. Sono i mercolari che servono e finiscono dentro alla diga e incuinano la diga. Se sono sfruttate pure questo, e se sono sfruttate le caratteristiche, noi ci siamo tornati. Ci siamo tornati, io te che non c'è la più, ma adesso credo se è qui, in Sars, che è un ottimo geloso. Dall'avvio un punto di vista. Ci siamo tornati, gli strumenti che abbiamo visto lì, nell'alloggiamento della pene, attuale, attuale e indiricente. Sembrava un tipo di caratteristiche, ma perché iniziavamo riconosamente un lavoro di una pubblicativa. L'avvio è sempre stata una domanda, poi l'avvio è sempre stata adesso, quando l'avvio è sempre stata un altro. Però non c'è mai niente. Magari gli intagini rimanano in prescrizione, per la vasca abbiamo scoggesi di diritto. Ma io non so quanto l'ho fatta la funga e mi abbiò a concludere per lasciare spazio agli altri, a cui tutti che siete più presenti. Io dico che forse questo è donna. In una regione dove il Presidente, che però nomina la Giunta, e lui, se ne lo siede, noi abbiamo avanzato una proposta sulla nomina, non solo del diritto per l'altra vasca. Qui la dico il Presidente dell'Agenzia regionale, deputata dalla protezione dell'antica, che può permettersi, si può dichiarare, che se dichiara questo vuol dire che si sente forte, impunemente dichiara un'altra, non è tenuta ad una denuncia che investiva, che è uno di chi mi dovrebbe dire ciao, perché mica voi siete l'Agenzia regionale per l'antica, voi siete l'Agenzia che parla di qualcosa, magari l'Agenzia è tutta la loro stizzazione e la sfattizione dei posti insieme a quella Agenzia, perché poi, diciamoci la verità, all'antica delle quali sindacate è l'interno di quella Agenzia. C'è un punto, poi c'è la sua parte, i suoi potenti, i suoi possedimenti e attività. E allora come non vedete che funzioni? E allora l'altra potrebbe andare a raccontarci quello che non dice a noi, ma che pochi mesi fa ha detto la provincia interna, chiede dalla Presidente Stena, l'inquinamento indotto in quel sito di politica di disinteresse nazionale delle aree amicole. l'inquinamento indotto, ma ce lo spiegassero bene che sì. E qui lo va bene, il dramma, però vedete, e speriamo che non continui così, è che questa è una ragionista, una ragione che riparà sempre per un modo dovuto, anche se gli dati hanno diventati. C'è l'evoluzione uno che sbaglia da leggere i dati, perché se tu vuoi capire l'impatto di un pedofilo su un territorio, viene da portare il numero dei dati all'automazione del sedere. E se per questa provincia il territorio va a pronunciare in materia, al secondo posto, pensatevi un po' con i dati appresi, pure voi è stata abbastanza inquagliata, come ho avuto questo perdere in un giorno di tale, come la nostra età, siamo al secondo posto insieme a biglottomi bolezzi, a auguri pure a voi, a auguri ai compagni di Lagattani, a auguri a te che non sono tecniche imprenditoriabili, che non sono tecniche imprenditoriabili, perché noi crediamoci su cos'è e com'anche, mica se non sono quelli che hanno un po' con il testo, ma se ne fanno un disagio, magari sono quelli che hanno un po' con i due bambini industriali, capito? Cazzo se ne è conto, no no? Poi ci mettono un cemento, io per il resto rimando a quello che abbiamo scritto, e vabbè speriamo di integrare nel dossier della sanità o della nuova politica, io chiedo solo una volta ancora, dove sono dividite le rinunce agli esposti consegnate dalla procurata della Repubblica di Potenza, dall'ottor Colangelo, sul diritto, sulle omissioni di abitudini a parte dell'arca, su una moda a sedento, e su tutta una serie di cose, dove stanno, cioè qualche eccessivo, noi comprendiamo che il dottor Colangelo, provvedente dalla procurata della Repubblica della Teca, dove fino a qualche tempo fare il servizio ad esinio, il dottor Giuseppe Chievo abbia avvertito l'esigenza per perseguire gli associati alle lingue che hanno parlato dell'inquinamento degli bambini che hanno sollevato delle domande, con l'acquisizione, con la sospensione del tenente di petto, o una deduccia per il concorso di rivelazione di non so qualunque, e le deducce, le altre dove stanno? E dove sta la deduccia su Echiettino ha fatto un ribello, su un felice, a ragazzi, che fa? 16 mesi non succede bene. Allora, tutta questa grande, la testa educante, io credo di contere di mano, assolutamente, una frase di Marco Vandella che dice la strage di federalità a sempre per comunare nella scolovia la strage di popoli. Grazie. Mario, dove sei lì? Mario Vettieri, che qualche anno fa, vorrei ricordare il corosso, se ne fa piacere, ha fondato una cosa che si chiamava Pino Riccato. Il Pino Riccato è un fossile, un albero, che rappresenta il parco nazionale del Torino, che come sapete è il più grande parco nazionale d'Europa e che copre le due regioni la Basilica e la Capabria. Grazie Mario Vettieri. Grazie. 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 E esprimo anche la grazia di mantenere viva l'attenzione di tutti. E' un solo di troppo di grande diffusione e conoscenza e con questi strumenti tecnologici che osservano la celebra digitale. Quindi, al diare del ringraziamento da cui vedete se vedete, ho un senzantale poi la viscita e il rigolo è la particularità del tecnologizionale ed è particolarmente quando è il primo il piacere di conoscere quando è la prima volta e il parlamento nel figlio del 92 quel palasamento la cucina e ci vediamo la noaglia per lo scopo Panella e il risultato più possibile allo scendimento delle camere per il motore ma non per la maniera contro perché si era chiaro che il fenomeno per lo scopo ed il fenomeno lea stanno per esplodare quel particolo in quale io mi ritavo in quale se c'erano un attimo il risultato un ottimo governo e quel governo c'hanno di cui di fuori salini faceva parte Cante se ciò ci farò e ha il conto e lo scopo ora stiamo per ripetere lo stesso e l'errore lo dico lo dico a Marco Panella perché ha la proponezza per incidere la guerra nazionale questo parlo non fuori bene a paese Italia se si va a votare subito il rischio è che il fenomeno bene lo scopo abbia probabilmente successo ma c'è di più è il mutato con lo scenario mondiale c'è una crisi finanziaria globale con una speculazione che sta a Wall Street e nella Cittadina che prima la guerra nazionale la guerra nazionale soltanto come dire le società votate e rinforse ora la vicenda della Grecia dovrebbe esserci di modico l'Italia che voi lo sapete bene entro dicembre dovrà rimettere sul mercato tipolo di Stato da ripotere e quant'altro per almeno 120 miliardi e la speculazione la speculazione finanziaria non aspetta altro che aggredire in un problema che si è parlato di tanti il debito rischio grecia ma non la devo tornare io per questo però ci sono un dipattito come questo che è tutto politico che le 40 sigla sono basificate e io non sono basificate perché i miei che sono stati ammortati i miei datori incapaci dei loro molti diritti dentro il quale si avevano scontrato un'incontro di questi decenni di cosa lì mi ha fatto vedere come era una questione del governo della garantita già nel 1993 fu affrontata la volontà a vivere di governo adottata e la volontà di governo così sono le questioni che decoratavano legge in base di carta ma l'unico è avuto la modalità città il pino loricato quando uscita dal partito comunista mi inventai questo simbolo del pino loricato è un nome i democratici poi ho concluito un po' con una serie di licenzi di gestitudine successiva ma il pino loricato aveva significato poco io sono andato ad ascoltare un buon bambino che fece nel 1998 dove dicevo cose di consenze che la regione e allora che la competenza della regione successivamente c'è stata l'espropriazione e l'analizzazione delle competenze a livello del governo ma allora è esclusiva la competenza della regione noi diciamo delle cose semplicissime certe autorizzazioni certe non possono essere dati sulle montagne ma che spezziamo le leggende del carabello le leggende del carabello le leggende di quei posti meravigliosi erano loro tali di buon senso ma adesso non ci sono perché naturalmente eravano impreparati e dall'altro c'è stata una subalternità della regione del basilicano nei confronti di queste poterità che era in ricerca e noi sappiamo perché per il petrolio nel mondo si sono verificati cordobistati web che ne sono ancora punenati corruzione a non vivere questa è la storia delle sette sovrani americane e la storia è andato a andare a mandare a farvi leggere il ruolo di Mattei dell'Italia anche se Mattei era altra rigura di altro spessore e anche di altra attenzione allo sviluppo di alcune comunità delle quali andava con la linea perforare il territorio per cambiare la pace della società con i finti e i finti portavano l'obbligo nel vantaggio ora noi troviamo il rischio che quando il vaccino dirà sarà esaurito oppure abbandonare perché non ho più competente avremo semplicemente un territorio e un poterito scassissima occupazione io sono abbinito e leggevo oggi con grande piacere attenzione d'altro dal consigliere del giornale e medico il mio amico il consigliere Mazzello Cicchetti di critica a un consiglio comunale che ha l'autorizzazione ai a fare delle pericolazioni ad aprire un borsa in città ma in un senso che non ha riperimentato non c'erano neanche le raccomandazioni di carattere scientifico e pubblicamente pubblicamente non ha ragione sulle questioni che sono state solo da io ho detto che c'è soltanto da parlare tre consigliere speriamo che avvenghi la consapevolezza del fatto che oggi non solo in Barsini ma soprattutto in Barsini il business è basato sulla ideologia e sulla ideologia con tutti gli indici verversi che essi comporono e il Basilicato lo dico a Palaccio Pardella la parola la parola la parola la parola la parola la parola tutta la scontriare per cambiare dalla costa del Terebricolo che sembra una bella eccetera se raccontiamo un po' di più le grandi scontriamo che c'è molta la bella questo dal punto di vista della democrazia vi preoccupavamo perchè spesso e lo dico voi avete messo giustamente la questione ma la non è la calda deve diventare una convinzione di tutti è l'essenza della democrazia è l'essenza della democrazia quando le regole tengono io dobbiamo sapere che c'è di una società e io credo che ripunto non solo le regole nazionali ma anche i pazienti la nostra democrazia pur è una democrazia mi si basse di tre interesse grazie 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 me grazie 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 Ci siamo scocciati, vedete presente che io vengo, alcuni di noi mi hanno fatto un'esperienza di sinistra, altri mi hanno fatto attività politica diretta. Io personalmente, come altri, in Svezia nel 1984, nel 1983 era l'IGC, quindi c'è tutta un'esperienza politica alle spalle. Tornato dall'Università di Salerno, dove pure lì già combattivamo con il sistema dei poteri venita in Mastella all'interno dell'Università, ritornato a questo anno pensavo di avere tutti gli spazi possibili e immaginabili di democrazia, partendo dalla sezione, il mio PDS, DS, eccetera, eccetera. E invece, mi sono andato a conto, vivendo in mio paese, come tutti i miei amici, figlio, bisaglio, pesce, tutti questi miei amici volenterosi e coraggiosi, perché ci volevo raggiungere, comunque a fare certe battaglie, non lo hai di trotte, un sistema di potere, che non è solo un sistema di potere, ma poi avete parlato di un sistema di potere molto più grande. Ovviamente, all'inizio del locale, comunque c'è un sistema di potere, che poi coinvolge sindaci, che coinvolge chi ha dei due all'interno di questa istituzione, che coinvolge chi deve fare i controlli legali su determinati enti, e quindi siamo andati a toccare con mano che nella nostra realtà praticamente non avevamo assolutamente spazio. E quindi abbiamo deciso di costituire questo comitato, che abbiamo chiamato Comitato per l'Emergenza Democratica, che è nato un GIP per anni fa, e praticamente, che cosa vogliamo dire, Comitato per l'Emergenza Democratica? E non si tratta solo di questioni ambientali, ma di una emergenza di tipo generale, che riguarda la legalità, che riguarda l'ambiente, che riguarda gli spazi di democrazia, del controllo, diciamo, dei consigli comunali, degli atti amministrativi, di tutta l'azio comunale. Ovviamente noi ci costituiremo con una semplice associazione, facendo una prima battaglia, perché qualcosa dovevamo cominciare, e a nostre spese faceremo, grazie alla presenza del dottor Di Sani, del dottor Di Sino, faceremo delle analisi, delle nostre spese, diciamo, del fosso sotto questo lavoro, delle attue regole, e di lì è uscito tutto un qualcosa di indagente, abbiamo fatto una denuncia, abbiamo fatto gli ordini conferenti, sia l'ARPA, ma perché tutti gli enti, diciamo, di polizia, giudiziati, e di lì, diciamo, si è scaldata, diciamo, un'inchiesta, che ovviamente noi non sappiamo che punto è, ma che comunque hanno anche loro verificato che comunque tutto quello che avevamo detto era vero, quindi c'è un po' il terminamento, c'è una voglia che ce l'ha detto. Ora, io non mi voglio evitare semplicemente al discorso della Pogna, perché la fortuna di aver incontrato Maurizio Colognetti, quando noi ormai ci sentivamo accerchiati, senza avere giustato, perché quando all'interno di un paese non ci sono più le sezioni che funzionano, non ci sono politici che gli danno la possibilità, sono attuale alla fine, al di là di parte di un bambino, ma in questo non ci sono capito di informazione che mettono in evidenza queste cose, voi capite bene, da una piccola realtà, come si fa a far conoscere la propria vicenda e soprattutto quello che succede sui territori. E quindi, diciamo, Maurizio l'abbiamo incontrato, l'abbiamo conosciuta alla fine dell'anno scorso, e poi è stata una cosa veramente eccezionale, è venuta nel momento in cui è venuta a fare la carriera di quest'anno a conoscere di che cosa era successo, a nostra denuncia si è voluta al sito, ci ha venuto a fare un servizio, che è stato messo sul sito della Piazza del Capo, quindi è una cosa che ha fatto molto piacere, diciamo che ha cominciato a dare una certa possibilità a certi sbattati. Voglio sdiggere, perché ne so che non sono 7-8 minuti a disposizione, io rispetto a quello che riguarda la realtà di quell'azzo, quindi l'avete già citato, e ci saranno altre persone che ne parleranno in maniera più settagliata, il discorso del depuratore di Senizia, e se ci sono inconcepibili alcune cose, avete parlato di 173, il depuratore, come è possibile, quando poi 8 o 9 comuni dovrebbero essere depurati da un solo depuratore, che è in quella condizione, del depuratore di Senizia, dove 4 o 5 comuni non sono proprio attacchiati, come è possibile che una piccola legione, da tanti anni non si sia pensato, siano soltanto 600 milagatti, e non si è mai investito una lira su queste cose, mentre arriva da giro la Pacifica del Bello, puntualmente soldi buttati spesso, per riparare sempre lo stesso pezzo di strada, e i soldi invece non ne sono investiti, dove hanno 3 o 2 investiti, per risolvere queste cose qua. Nel mio comuno la raccolta differenziale è a 0%, non a 8% del regionale, com'è possibile una cosa del genere? A che cosa sono sentiti tutti gli enti che sono stati fatti a cominciare dall'altro? Che cosa ha fatto l'altro in questi anni? Però vogliamo sapere, allora che qualcuno venisse da noi e cominciasse a insegnarci, o a insegnare, come si cominciava a fare la raccolta differenziale, che sta a far mai iniziato? Allora, giusto velocemente, citando solo delle cose, quindi il problema della legalità del nostro territorio è da che cosa si vede, si vede anche dai conflitti di interesse, voi parliate dei conflitti di interesse al livello regionale, i conflitti di interesse al livello locale, laddove un sindaco, è il fredditore, è il capo del partito del cipo del zonario, fa il 80% del lavoro sul territorio, nessuno controlla, denunci, nessuno se ne occupa, non si capisce di dire se nessuno ha la legalità, poi quando un concerto di dire delle cose, ovviamente non si viene consentito. Chiudo le vicende delle benedette centrali a Pio Master, tutte le battaglie per ciò che riguarda quella delle ideate che poi non è stata fatta, quella di guardi per piccari, sono nazionali, appigianati, sono stati per piccari, si stavano la protesta e le sindaci di quella zona, perché? Perché in questa regione io pensavo, dovessi essere una regione in cui la piazza, la trasparenza dovessi essere la cosa più importante è che io ci prendo conto che non siamo bencioli delle regioni vicine, perché non si dica, perché non si fa un piano dove andano delle province d'Italia, dove si riferiscono, si riferiscono, gli insurgenti che ne capisce veramente, per fare un ciclo di pubblico per fare i materiali, non è stato fatto mai lì, la centrale ha più masse, che cosa è la centrale? Come va a sostenere la centrale a più masse perché non può bruciare tutta una legna in una città di un masse del genere e quindi ci devi portare qualcosa d'altro, ma perché non si fanno ridere i progetti e non si approfondano con i meritori e con l'accente e queste cose. Vabbè, devo chiudere perché non si può parlare di un fisico grazie. Grazie, 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 grazie a tutti, grazie a tutti, la check link nell'ruzzo e nel 2010 ma la posizione non per la positiva adesso ne vedo ha感varsi premiers de course più altres there grazie a tutti. Ma la grazie per la ricCotta sappiamo che le acque della んな di Erin è utilizzato per uso in in Lico, in Basilicata, ma soprattutto molto portabile in Lugia. Ovviamente quello ci ha immediatamente preoccupato, io rappresento una piccola parte su qualche modo della cittadinanza di sinistra, io credo sia nel Comitato che nell'ambiente sinistra che nell'associazione di Militiamo. Ci siamo preoccupati perché conoscevamo in parte già delle difficoltà relative a un depuratore che non funzionava al massimo. Un altro elemento fondamentale che ci siamo più preoccupati è il fatto che già alcune analisi avevano dimostrato una presenza di inquinamento da varie, una presenza anche di quelle proprie di 4-5 volte, come già anticipato, superiore all'invento di legge. La cosa che più ci ha preoccupato era l'artificazione di questa discarica, la che dovrebbe venire costruita su un po' su parampara, dove esiste già una discarica di RSU, di istruzione di compagni, che aveva già un po' sulle cose negativi anziane nei monetari nel 2009. In questo caso ci sono state delle robe pericolato, che sono urlato da questo composto e sono scese in una bagnita. Immaginate quando la robe a caratteristica sia ovviamente preoccupata di un progetto di riscarga di diritti speciali su questo territorio. Ancora, gli aspetti che più ci preoccupano sono anche le atteggiarie dell'amministrazione, ma la atteggiarie è decisamente molto vago, nel senso che non è stata presa posizione né a favore né a conto questa riscarga, tendo da un po' di minimizzare, non si è organizzato come sindaco di città di informe ovviamente le difficoltà come potete immaginare. L'amministrazione non si è preoccupata di informare la popolazione, però che non si può fare noi, minimizzano in qualche modo, questa è la nostra rispressione perlomeno, continuano a sublinare la non pericolosità di questi film. Io ho sentito parlare all'amministrazione il sindaco parlava di succiolato, legno, addirittura di acqua per lavori comuni, ma sappiamo che tra i rifiuti social che non pericolosi sono scenari di centerni che va a riazza, di notte inzambie, rispondenti, rifiuti della ferra, dell'acciaio, rifiuti dell'armigazione, del petrolio e del rinunci sanitario. immaginate l'ubicazione di una sfera di questo tipo di rosso, di una giga, che ripeto, porta a porta, inesplosiva, con questo uso in riguo, ovviamente, in base a casa. Io vorrei leggere le due riconsiderazioni che ho scritto un gioco di soluzze, che sicuramente sono probabilmente delle considerazioni più utente, che non sono le più veritiere. Abbiamo in un ciclo di un gioco di sinistra e di generale con la vizionale, in situazioni di digloca e pubblicazione della sfera, che non sono sicuramente state dal punto di vista dell'autologico. I garani sono infatti come la diversa vera comunicativa da un ambiente di infuzione, soggetto da nuovi infrastrutture. Oltre a tutti i fattori di pericolo dalla tese di pericolato in superficie, bisogna considerare anche rischi legati agli attività in situazioni di pericolato e di interesse costanti dalla discarca, da cui il risultato è fino alla tua parte e pericolato in effetti nel primo registro ultimo. Assolutamente necessaria quindi la presenza di un terro interme agile che possa mantenere nel tempo con un centimane della discarca. Lui però ciò che è finire, ed è il sito di Siosanossi, con questo risultato di Sline e anche il Tore, in franzo, potrebbe causare fenomeni quali dalla ruptura del telo, la linea di definizione della COFID, con l'interruzione dell'automotività del strato di argile impermeable, le pericolari di provviso a posto di volumi di materiale o niente dai versanti circostanti oltre alla propria parte di conflitto dalla discarca, e chiaramente fino all'interruzione di stabilità dei macchi di costa di mente dalla stessa. Si vuole ovviamente una serie di quesiti, quali interessi attireranno le esce e no le scariche dei rifiuti come quella di vista? Chi è il terreno controlli? Soprattutto quali sono i grandi rifiuti giustiziali che provranno i nostri rifiuti, ovviamente i nostri particolari, che non sappiamo, veramente questi rifiuti dove arriveranno. Perché un'iniziativa Odeo è come quella della raccolta differenziata insieme a cosa più di un'iniziativa Odeo e come dice dice, si contano che si preparano ad appoggi in maniera di scarica, vanificando gli sforzi per cercare di migliorare l'ambiente quando lei ha un esame. Ovviamente, sicuramente, gli informi del Consiglio comunale avevano proposto prima di prendere una decisione in merito che ricorderà le delle quelle che saranno a 2008-2010 e siamo venuti come cittadina conoscendo il vostro progetto nel maggio, sicuramente, quando andiamo a cittadini. Io ho venuto veramente con una sua frase, la conclusione appena di questa sua dichiarazione. Ci sono tanti luoghi, ci sono tanti luoghi, ci sono noi che hanno dato l'ascolto alla loro economia che hanno fatto su seri come istruzioni, con la loro straviologica, la natura e l'ambiente. Sono un esempio costruoso che hanno prescritto. La gente ha il diritto di vivere in maniera di più sano e deve avere il diritto di rispettare lo stesso. in domande come questo su tutti i vostri lavoro e i prodotti economici saranno avuto. Voi lo giuggerete, non ci riesce a costruire nel non senso della nostra situazione. La parola al Piero Pisario Pinguini Lucani L'evento non ci sia la piazza che ha cambiato noi europee si fa un po' di rispettare in cui ci si fa un po' di rispettare C'è un elemento che diceva che mi ha cambiato di nome e mi ha compitato come la conclusione dell'unità che si sta all'iniziativa per i cani con il bagnone. Io sono dietro l'esatto, sono Presidente di questa associazione dell'individuo di cani. Quando mi presento a un dittorio nuovo, normalmente nel senso da sinottico di scrivere perché questo nome è strano, pinguini di cani, cosa c'erano i pinguini di coloni di cani, ma il nome è stato determinato da un miposi. John Cotta, che è uno dei più grandi studiosi del cambiamento e della strategia del cambiamento di vendita al mondo, che ha scritto una favola, la cultura è una contagera che consiglia di tutti quanti, dal titolo il nostro Einstein che si sta sciogliendo. E nella storia è una colonia di pinguini, i pinguini che soffrono e come l'aria, cioè questo pinguino, la propria casa si sia sciogliente. E quindi hanno una necessità di cambiare, che muove in sigla di vista, per avere il potere soffrono i pinguini. Beh, io la locania la vedo un po' come questi pinguini, la locania la vedo un po' come un'idea che si sta sciogliendo. Si sta sciogliendo sotto l'onda di una decompressione demografica da molto forte, e mi chiedo a volte, dopo tutti gli interventi che ho sentito oggi, se questa decompressione demografica che per molti non sia una manna da cero, non sia che una aiutatura, no, cioè che i possi diventa l'altro esempio, no, Carabone, io sono il santiere tuo papà, per essere il cucino che si sta completamente spopolando, no, e magari con una manna, per chi vuole fidare, se non si farà c'è qualcosa, lasciati qualche, non so, qualche definicolo di posto. Si sta sciogliendo sotto l'onda di una decompressione economica drammatica, drammatica già a livello nazionale, molto più forte di quella che è specificata sull'evoluzione ancora più drammatica, che sotto l'onda di una crisi sociale, io sono rimasto sparrotito, scoppito, perché non è bene, ci sono dei giorni che quando mi sono costanti, l'altro, le droghe, le imprese che hanno comunque un tessuto fondamentale, che io mi ricordavo sacro nella mia gioventù, è sotto, è stata scoperta che non sotto l'onda, che è la pressione del tutto. Io sono, personalmente, sono uno dei tanti di un cane, la trove, no, quelli che per un certo interesse della vita non possono lasciare questa ragione, la ragione, che è la carattitudine, paga la trove, la compra, la città sono, e diciamo che questa associazione non fa l'attacchere perché se le tivano questa grossa anch'ezza, la loro politica, la loro canna, del contributo di questi bucani, la loro canna, che sono un po' follow-up da una grossa anch'ezza perché sono con la loro politica della grossa, anche in mano, da un altro paese, che diciamo poi delle cose che succederebbero, anche di queste delle nostre situazioni, di questa e della nostra storia che si riconoscerà ieri, che c'è un po' il concorso di una risorsa. Oltuno mi dò nel Montesepi con le categorie procenduali che a disposizione. Le mie caratteristiche individuali sono quelle dell'economia, del mio lavoro, che ho fatto con l'economia nazionale. E con queste categorie che io ho ricevuto, lo servo con una realtà, con una volta due o con una testa, da quella degli ordini che mi hanno ricevuto, e con questa è una economia, ed è una realtà che invece le può devolare, che può devolare chiaramente con una nuova politica. Abbiamo parlato con queste tecnologie, con queste tecnologie c'è un'altra dimensione del tecnologo che può devolare, che è quella dell'economia, che costituiscono una risorsa aggiuntiva per il territorio lucano e per sviluppare il territorio lucano. Per chi voglia approfondire che questo sistema, come l'è crescita dall'associazione per la Lucania, qui voglio solo ricordare che il Pio della Valdarca che ci citiamo i documenti disponibili su internet pubblici, che il Pio della Valdarca dice che per una comunità del terremoto che ha fatto parte del Pio della Valdarca erano disponibili negli ultimi sette anni 360 da milioni di euro. Ora 360 da milioni di euro, per un'area di significata caratteristica da abitanti, il percento dei debiti e le proporzioni, come se ne sono conti, avresti a disposizione per rilanciare l'economia dell'intero per esse una cifra paghi a 720 milioni di euro, un terzo dell'intero debito pubblico nazionale. quindi quando uno si trova poi in questi paesi a avere tanti di ossificazione del 25%, giovani che continuano a lanciare lì, anche vuol dire un inquinamento delle cose del sentito, che mi hanno un po' accapponato la pezza, no? e allora il confinamento non è possibile, no? e vi chiedo cosa succede a tutti? il confinamento non sbalassi il chiusura vuol dire che solamente non conosce il primo il tema della indeconsezione con lei delle cose del Pio perché non si mette in alto questa indeconsezione, no? allora, per dire solamente per le disposizioni del Pio della me non ricordo ma volevo solo dire che finalmente qualche giorno non si mette in alto questo posto aperto per le temi si ricordo alla poesia ma come non ce ne incontriamo al popolo e se ne incontriamo alla me non bisogna ne incontriamo alla foe andiamo all'impatto se l'improva ASUS si può rilassificare beh, il fonte delle lezioni del Pio dei bibliotechi di Ritalcom in relazione economica legge il fondo e dice nella macchina quindi in realtà della macchina non vi chiedono come voi ma prima abbiamo avuto da riconosciare Poi abbiamo avuto le decisioni regionali, ma la cosa non c'era il tempo per riuscire a fare. Insomma, con questa politica non si fa molto contare. E l'ultima cosa, a volte mi chiedo cosa succeda con queste operazioni. Nel 1966 è stato portato l'avvio e la logica della Salerno per Giocavallo. Nel 1972 è stato riuscito sull'ultimo quartiere e è stata considerata l'opera all'interna nazione. Nel 1996 è stato portato il partito di Radoglio della Salerno per Giocavallo. Giussù, alla finezza dell'articolo del 2013, in tutto 16 anni. Insomma, a questo paese cosa sta succedendo? E spero che uno di noi, non per la passione civile, sia per controllate, ma anche per poche soluzioni utili allo paese e agosto. Grazie. 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 Grazie per essere stato invitato a partecipare a questo incontro che io definisco attivo, nel senso che sono intervenuto con tanti e quindi ho sentito parlare dell'interesse per la legalizzazione dell'ambiente del Consigliere della Cicchetti, svegliate il Ministro del Sogno, cioè quello che hanno detto questi redattori, c'è l'ultima volta che ho reso un'intervista relativamente ad alcune indagini in materia di archiette, svolte dalla Direzione del Sogno di Marte di Basilicata, della quale c'è una parte, l'attuale responsabile dell'ufficio studi è post stampa del Presidente della Regione, allora editorialista, mi definì il capopopolo perché avevo inteso ricordare alla gente che tutto sommato in materia di legalizzazione dell'ambiente ci giocavano il futuro dei nostri tipi, è che l'inadeguatezza di alcuni strumenti legislativi è la particolare natura contravenzionale di alcune lezioni ideali applicabili alla materia. Forse l'abbiamo su un altro momento reso inefficace, ma non tanto per lo di doni di più un articolo, l'azione delle mosse dell'ordine della magistratura, e quindi quello che è stato succedente alla Ferradina con un movimento di persone che spontaneamente si dedicavano ad una nota sociale era costitabile che erano in tante parti della regione basificata. Quindi il capopopolo, lo vengo definito dalla Stapa perché mi dimorgo al popolo, tutto sommato sono sempre orato di cercare di amministrare più o meno bene di giustizia per il popolo, quindi quotidianamente mi dimorgo al popolo. Vengo fatto oggetto di tre tre persone parlamentari a parte di attuali, ancora attuali, esponenti politici della maggioranza governativa, alcuni dei quali invocano a chiedere una mia amministrazione presso le competenti commissioni in materia di ambiente. Si trattava, e pubblico, fu di amata da tutti i giornali, si trattava del senatore di Ucidio, perché io, insomma, tutto sommato ho un recapito di posta elettronica. Sono facilmente nevenibile verso l'ufficio dove, dove verso servizio, perché io non sono stato invitato da nessuna commissione a confermare quello che dicevo in quella intervista. Ma soprattutto, guardate, avrei detto in quella commissione, dicevo in quella intervista, e dico a voi, con veramente una raccoglata traduccia di quello che le parole di esponenti politici della regione, la vera volta che io sento queste parole in 12 anni, circa 14 anni da quando sono orientato dalla carattere in basificato. Quindi sono parole che veramente lasciano adito a un minimo di fiducia che io ritenevo di avere per le sue prese strade. Beh, comunque sia, insomma, alla commissione, a voi, avrei parlato di atti giudiziari pubblici, avrei parlato delle inchieste dell'allora procuratore di Guadalaccio di Madea, avrei parlato di quello che le inchieste hanno accettato, all'interno della vena illisoria che i dirigenti delle leni hanno ricevuto in quello procedimento. Beh, in quello procedimento attestava l'illegittimità dell'operato delle leni in maniera di tenuta non di risulti casalinghi, non di risulti tossici, non di risulti speciali, ma parliamo di risulti avventi in una valenza benedica, ecco, radagliattica. Quindi quella condanna, quelle indagini, quegli atti hanno accettato questo. E poi agli atti dell'ufficio presso cui ho prestato servizio, ma nei mani di partimenti pubblici sono presenti sbagliate dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno definito la Basilicata, ma non che fosse bisogno, per me, scusate la mia traduzione, come un procedimento di affari illeciti in materia di ambiente, in materia di rifiuti. Quindi, recentemente, prima di lasciare la basilicata, cacciato o no, ma comunque... No, 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 affrontiamo il discorso con l'onore di essere cacciato per una causa giusta che entra dall'altro anche nei vostri argomenti. Ora, senza scendere nelle notizieze normali se c'è stato o no il provvedimento di incompatibilità o se è il sottoscritto che non ha anticipato il provvedimento, il provvedimento a stare... È tutto chiaro, è tutto liquido. Ci furono le condizioni perché avvenisse il provvedimento in una regione, sono parole della notizia del Tieri, dove parlare di questi fatti fa paura, in una regione dove le istituzioni non coaggiano e non coaggiano e non coaggiano le vostre ordini, in una regione dove le istituzioni ogni quattro volta si afferma, io ritengo, la verità, grigliano a lavorare sociale, ti dirigiscono a una vista, dicono che in sostanza la verità di falso, ma abbiamo appena detto che non ti chiamano poi nel senso di competenza che ha confermato. Bene, in questo, nell'ultimo procedimento da avere trattato, anche quello conclusosi con la fermazione del riconoscimento di un ulteriore numerato criminale in fase di cata, quindi visto proprio che il basilisca, questo ente criminale adottano che si era formato in fase di cata, sono stati depositati i verbali di collaboratori di giustizia che fanno riferimento alla formula e al giuramento di questa associazione criminale di questa associazione criminale di progetto a gestire i rifiuti che passano nelle strade di Basilicata. E quindi la storia delle indagini in materia di organizzare l'antra ha sempre portato alla scoperta di interessantissimi film e di indagini in questa maniera. Ma in quella formula di giuramento si dice anche altro, cioè si dice che intanto è possibile occuparsi della gestione invece di rifiuti nella regione basilicata, perché l'espressione che cito è letterale la sbirraglia torne. E quindi ora non è un problema di riconoscere meno l'identità di sonno a cartinieri, polizia, ma è il problema di capire il perché questo fantomatico, scusatevi dall'espressione brutta, odioso, falso, mito, veredicione, ha determinato quella fine di riconoscere la presenza di pochi carabinieri, la presenza di pochi insediamenti dalla parte della nostra regione, la presenza di pochi insediamenti specializzati, perché sono molto recentemente il comando generale di carabinieri ha ritenuto di investire la regione basilicata del nucleo specializzato in materia di tradizioni, perché prima le nostre indagini e i nostri campioni con tutti i pubblici devono andare avanti. Quindi tutto il coacerbo di queste brevi notizie mi invita ancora una volta a dire che se questo è stato il risultato, beh, insomma, tutti voi quotidianamente siete dei miei voi perché lavorate, perché come partete, perché vi opponete a un sistema che ha i caratteri, per una volta da tanto, vorremmo dire che lui si chiedeva un cito sempre prima, ma per una volta da tanto poterci dare una persona che ha detto delle cose che nel sottoscritto a tenere che ha scritto negli obiettivi tradizionali è veramente uno sfatto che io ritengo altamente significativo e mi permette di dire che se questo è il cammino intrapreso probabilmente, ma è il mio augurio di Lucarano, anche in Basilicata abbiamo ancora la speranza che legalità che legalità e criminalità le possa finalmente raffermarsi. Grazie Vincenzo Montemurro Adesso la parola all'avvocato Vincenzo Montagna dell'Associazione Autonomia Forens Grazie Vincenzo Montagna c'è una scassa vicinanza per l'assistenza che è un po' una regione ideale c'è il territorio della scontorrasco c'è un'opulazione assai limitata c'è il rischio di desistificazione per altro gradito all'aggiunta regionale di fase di carta c'è poi c'è una scassa vicinanza per le autorità manca la prevenzione e qualche volta c'è stata anche una consapevole acquistenza da parte delle autorità c'è poi c'è poi l'insufficiente repressione di cui ha parlato pochi minuti fa io non so molto ora c'è un paralelismo sconfortante per questa regione il nostro amico Nicola Leonardo Sacco ha scritto un libro di recente Matera provincia di Confino credo che noi oggi potremmo dire la basificata regione di Confino solo che nel ventennio fascista si confinavano nomi politici in basificata adesso si confinano i rifiuti di questa di questa e di molte altre regioni non c'è stata una battaglia riguarda rispetto a questi fatti se si esconde la battaglia coraggiosa e generosa di un'inizio questa battaglia però va sottragata va organizzata di più e va quindi promossa una mobilitazione e una indignazione per quello che sta accadendo in questa regione e io potrei parlare di due argomenti specifici quello di Montella e quello di Scarazzano quello di Montella che ne guarda le cellule nere della Tisaglia e quello di Scarazzano che è un altro centro destinato a ospitare rifiuti vedete il centro della Tisaglia non è da questa decente che è un centro di istituzione per esempio Monteguro ricordava le indagini del dottor Palaccio da quelli indagini che cosa è che nel corso degli anni oltre a 64 battaglie ancora non trattate sono state depositate le ramette dei paracorni di con per delle monologhe di della 1880 che sono ramette radiative sono state poi depositate rifiuti di un edicare la stampa con camera non ha mai riportato di donne interessantissime e che questi rifiuti di un edicare venivano portati in risale da una società che era estritta alla camera di con mezzo del paletto e questo è quello che è poi abbiamo qualche altra cosa abbiamo attualmente il padre in piscina che vuol dire il padre in piscina sono padre che fanno calore quindi devono stare nell'acqua deve essere raffreddata e l'acqua di questo piscino deve essere saracata nel paletto dove ci sono migliaia e migliaia di turisti perché parlo a volte di consapevole acquiriscenza delle forze di coberto delle forze politiche di maggioranza in Brasilia voi sapete che nel 2003 ci fu la proposta per realizzare in cristaglia il romeo a Scalzano il cilitero delle storie latiattive con un inviato di riprocessamento cioè tutte le parche dovevano essere riprocessate poi la vision del portogno che viene portato a trovere ma quel che rimane di questo si doveva essere continuato anche qui ma sotto terra a Scalzano quando la popolazione si è ridellata fosse nata letteralmente tutti hanno detto noi non ci sappiamo noi del roscone che ha prominato questo detenio a l'immunitazione io ritengo che loro dobbiamo ristabilire la verità che fa perché non sapevano e c'è una frase non potevano non sapere so c'è il terremoto di poi era del 23 novembre ma il 23 se ne ricorda ne abbiamo passato il 23 novembre il 4 ottobre che cosa diceva si fa con me da l'ottobre 4 ottobre qui 8 a cui attesta porti del consigliere con un giallo da un saluta il presidente del portico comunità relazione cercano con niente non con niente con niente relazione la socia in attività e sospettive dai potessi locali nazionali internazionali io trepunto direttore di salvatizzazione degli impianti i programmi di socia per la salvatizzazione degli impianti internazionali e poi un'altra forma vantaggi per l'interritorio dopo la politica e ritorno al Prato Verde della Pista e allora se l'oggetto era la costruzione e la realizzazione del Pio la Pio questi signori parlamentari che stavano di voce dell'antri hanno partecipato o dovevano partecipare a questo momento nel momento nel cui si discuteva come politica e il centro si erano posti il problema dove sarebbero andati questi rifiuti oppure hanno partecipato così come la lega per il in una trattoria a fare una distruzione sulla politica dell'accento dell'antri sato e che era partita la campagna promozionale per riassunzione alla telepresso che erano passati in lo moderno in quel televisso in tempo erano state presentate 465 domande di assunzione questo per poter preparare il terzo di ma anche se alzano è finalizzato assolutamente sistemazione definitiva non vogliamo indicare che il risultato di 60 80 si vogliono fare un materializzo di gas deposito di gas dove c'erano le caverne o non in massimità quindi questa è solo la previsione o la bancata di detenzione o la risposta delle o le questione ma c'è una carta di detenzione solo una carta di data dall'altra parte do andate che non non c'è le parte che non può essere una strumentazione come possiamo vedere ad una just di che funziona e funziona quando per 17 anni un carattere in una chiesa non viene scoperto o viene scoperto solo quando si ha scoperto Amizio Comandietti in uno dei suoi scritti dice nulla viti nulla sentiti nulla so e poi dice che devi mettere manco vento nulla augurati perché persino i capigliori in questa regione c'è di non sentire o in qualche grande cosa si costruisce attrezzatore per non farle sentire vedete qui le questioni riguardano da un lato l'operata di tutti i dirigenti e l'altro il modo del funzionamento della magistratura però ci siamo dovuti di oggi nella gruppa di cazze per presentare perché presentassero una internazione parlamentare perché qui cosa mai è accaduta un procuratore generale che aveva instaurito gli uccani di sua direzione degli uffici veniva mantenuto lì una speciale prorocazione che non si era mai identificata una cosa di questo genere devo dire che quando la internazione e di suo rispetto l'ha un po' poco dopo il Stato nominato perché la risposta non sia mai arrivata probabilmente c'è un burone da parte dell'autore di destro che non sa piegare le ragioni di questo internazio ma guardate c'è un altro le esperienze ci dicono che in base di carta magistrativa opera fino a un certo livello non si opera più c'è un qui a porte c'è un elevato livello di l'innalda c'è un basso livello di l'innalda il interno perché sono potenti tranne poche gestioni dei magistrati qui verso la persona potente che si dà perché se non faccio un interno non si non si non 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 si e c'è anche la totale complicità o se ne vogliamo a tenere in termine una impedibile comprensione da parte del Consiglio Superiore della magistratura internazionale in particolare qui si fa la morte delle denunce si fa però lo cittadino non lo sa di terra che fine abbia fatto per denunce e la luna della denunce tu non lo puoi sapere e perché la persona offesa molte volte a lei siccome lei che registrata non ha nessun interesse il cittadino deve rimanere a nascuno di questi fatti ma c'era addirittura un'altra cosa qualcuno ha pensato questi magistrati non sempre fanno il loro dovere e allora interessiamo l'altra magistratura ad esempio quella di caralanzà per vedere un po' cosa cosa succede in questa ragione 10 minuti 2 minuti e 1 e allora che succede in questo provocatore della repubblica di maledetta in quel periodo fa un provvedimento e dice se voi ufficiale di poluzia e tutti anni oppure se lo se io permesso le dati del contro la pubblica amministrazione non le dati che non le pregate ma le dati di contro la pubblica amministrazione non le potete fare senza anche altra autorità fidiziaria vi fa la del che cosa potete raccontare o e mai i contro e magistri avesse incaricato un commissario di polizia madera di fare un accertamento su questioni che riguardavano il procuratore della repubblica questo ufficiale di polizia fidiziaria che cosa avrebbe potuto fare bussare nella porta del don ottimo e ci sono che le di domenica o ad un madera per fare certamente nei suoi confronti e loro questo fatto come l'avvocato diritto lo abbiamo portato di persona al ministero e al consiglio superiore della magistratura lo abbiamo rebalizzato davanti all'acconcilio giudiciero non ci è mosso un gare perché questi propri evidenti della procura di madera o di altro venissero sottoposti a chi insomma o chi successe e io devo concludere dicendo qui c'è una responsabilità grave dei uditi del genere della ragione e dei uditi del genere della nostra c'è una responsabilità altrettanto grave di chi ha tollerato che solo pochi magistrati facessero indagini di un certo tipo altri invece se ne stavano piedi e tranquilli sanno a mettere i pastori tra ruote tra le contro che sono in quadri indagini operati allora qui questa situazione che va a essere locata non è impoverabile perché adesso impotenti le indagini non ci spacciano immagino la proposta della politica è chiude e la proposta è questa come diceva il dono che è un proficcio e pocoso materiale con impressione che non tutto questo materiale è stato utilizzato e allora dobbiamo riprendere alcune indagini giudiziari anche se dal punto di vista penale non si potrà più fare niente perché sono prescritti le indagini in termini sono scapputi tutto quello che si vuole ma dobbiamo rilatorare quella documentazione per vedere cosa è successo e solo appunto un'indagine conoscitiva perché bisogna sapere questa ragione che cosa è avvenuto dal punto di vista del confinamento delle scorie che cosa è avvenuto nell'ambito della magica natural e quali possono essere rimedi perché in futuro non si verificano di questo applausi un messaggio Marco Vanella è salito in camera e sta seguendo questo promenio perché c'è la dieta di grazie di casa viene spesso in diretta in questo momento la preghiera che vi faccio da bello cerchiamo di rientrare nei tempi perché sono tanti gli interventi e c'è Marco Panella deve intervenire intervenire in conclusione ci ha detto di questo momento quindi vi invito anche ovviamente a restare i vostri posti la parola all'ottor Pino di Salvo così ricontiamo la questione anche sul fronte diciamo così che vi chiede oggi non merito Pino Risale grazie Maurizio Poglietti che ci ha dato con me e gli amici di gastronomologo se brigare la casa di questa partea sono anche un po' di salire in l'inverno perché solito non parlo alle malattere di scusa di sfamatori allora quindi voglio leggere Grazie, Paolo Sio Polognetti, che è venuto a trovarci nel caso nuovo qualche mese fa, che è molto, diciamo, documentale con i dati, dalla Sky, che c'è proprio il resto di riuscire erano occupati. Ci siamo occupati anche noi nella malattia che aveva citato il programma Musi, che c'era c'era insolveranza per risolvere a alcuni tipi di loro, quindi parla anche noi nel nostro Paese, siamo stati tracciati di, diciamo, interpretanze, ci siamo occupati di cui non ci dovevamo occupare, per essere che con la ognatura non c'erano più altri problemi e questo Paese fa figlio di 200 abitanti. Quindi ci siamo andati in difficoltà da questo punto di vista, però non abbiamo, diciamo, che abbiamo continuato interterriti sulla nostra sala. Poi quando mi fa, mi ha detto che aveva vettuto da un anno all'inizio, che forse poco si sta facendo nella nostra regione per quanto riguarda la prevenzione primaria, anche il nostro Presidente dell'Ordine, Matteo Cicchetti, che è già avuto, quindi nella nostra regione si farà poco quella della prevenzione primaria. Quello che mi fa pensare a me come medico, io porto, diciamo, la testimonianza di un Paese di lì di 200 persone e posso affermare con granabilità che gli ultimi 10 decessi, 6 sono morti per tumore abbastanza aggressivo, insomma, dalla diagnosi alla morte sono passati due anni. Quindi ci sono, ci possono essere i fattori di rischio, e dall'altra indicata due possono essere, a mio parere, i fattori di rischio, l'acqua e i prodotti di estrazione. Io non sono un controllo di rischio di estrazione, ma ho un genere, un controllo più, diciamo, puntuale sull'attività estrativa o sull'attività coberata di estrazione del petrolio, che potrebbe sicuramente, diciamo, far diminuire l'incidenza della coriopatologia nella nostra isola o sul nostro scoglio, come diceva il Signore dei Vinguini. Quindi, grazie di nuovo, intercambiare l'area che mi ha dato questa possibilità, e grazie anche a voi. Io vi ringrazio per l'attenzione che avete mostrato, ma grazie di me, perché sono l'unico, come dire, nazionale, in carica, invitato a quest'evento, e credo di questo unico, non so cosa di altro, come quello che ho detto in questi 90 giorni, non posso dire regionale. Io, oltre a essere, non posso dire regionale, sono un reale, non è un medico, che si occupava di personalità, di più uomo. E non ne ho ancora, ovviamente, non è un tempo parziale, ma ne ho ancora di questo. Quindi, fare tanto da dire. Quello che voglio dire è questo. Io, in questi 90 giorni di attività politica, ho avuto l'occasione di essere contattato, avvicinato, avvicinato, alcuni giovani, laureati, italiani, che mi hanno aperto queste problematiche. Mi hanno fatto vedere un cd che riportava, un video in via, che portava una conferenza su questi temi, e quando mi hanno ascoltato quelle affermazioni, ho detto questo. O quello che dicono è uno dell'orismo, per cui i suoi decimano, erociati, e andai, oppure se ne fosse vero, ma non ci sarei molto semplice. Ci sono avvicinati a questi temi, sono usciti con alcune comunità città, e anche questa mattina ho cercato di fare un modo velocissimo questa mattina, non senza disforzare questo mio articolo, questo tema, e mi mando a chi vuole, ad esempio, a dire quello che ho detto stamattina, che spiega il mondo del organico. Poi il risultato è il risultato di quattro pazienti. Io stamattina ho ricavato alcuni problemi importanti. Uno è il problema della quantità minima, saggita dalla legge per alcune sostanze notoriamente tossiche. E voglio ricordare, una cosa che non posso dire nell'articolo, che la quantità minima è una convenzione che sappiamo, e la sappiamo sulla base di una operazione del danno a breve e a medio termine. ci sono moltissimi studi sul lungo termine, per cui noi non sappiamo, con certezza, le emissioni nell'ambiente e nelle acque, nell'aria e nelle acque, in certe sostanze, nel tempo che io mi sto riferendo, a quello che mi stanno facendo, c'è un ruolo di vigiano, fra 30 anni, dopo quella dell'innalazione, che si stanno facendo con le formulazioni, che cosa avremo? Ma questione del tumore, lo stiamo dicendo, c'è un dato a dire, noi oggi non possiamo dire molto con certezza, perché il registro tumore, in parte di ricada, non è di fatto ancora attivarlo, c'è un embrione di registro tumore, io ho chiamato il responsabile del registro tumore, e mi ha detto che può navigarti, per quanto è attendibile, dal 2006 o, quindi il punto 0, questo tumore che va dedicata, non l'abbiamo, al momento dell'inizio della registrazione, ma ce l'abbiamo già nel 2006, nel dato molto inattentibile. Quindi sono tutti a vedere, perché sono venuto questa mattina, con questo posto di viciano, con la cosa che mi ha scandalizzato, sapere che il Consiglio di Romano, non ha dedicato, con l'esplosione di uno solo, che va a citare, Giovanni, Nazioni, che ha votato il fondo, se lo ricorderemo, la storia, ha votato il fondo, il fondo vicino all'ospedale, ma tutti gli altri hanno votato la parola, sono queste le nostre società. Io ho posto il problema nei consigli regionali, dipende, io sono consigliere della quarta giornata, quindi normalmente c'è un mio amico, che tre giorni dopo quello stato elettor, passeggiando con il potente, se le cedono vicino alla padezina, fuori di cilare, ti girò con il sedimento e ti c'erano, dove è? Io sono, sono tre giorni, sono tre giorni, allora, allora, qual è il ragionamento? io ho posto la questione del Consiglio regionale, che pensato di fare una situazione doppia, che avrebbe trovato il consenso generale, ha detto, ma io ho pensato veramente, che deve fare il petrolio del punto, abbiamo i migliori acqui minerari, abbiamo il migliore vino, su cui ha avuto ragione, aspetti miliardi di investimenti, di contributi, di tutte le altre, perché a me non è diventata così, solo per noi, di tutti gli altri, tutti gli investimenti, famiglia, pensate, io ho pensato, come dicevo, sono tutti i desigli, ma io ho visto, la maggior parte, non è lì, che non andiamo dalla grado, ho finito con quello, che mi ha risposto, che mi ha detto, sì, però noi non possiamo dare, l'opportunità del petrolio, con la battaglia, con la cantina, non è che la battaglia, che vogliono fare, in città, delle soldi del petrolio, ma non è addirittura, non è, io sono rimasto, sconcertato, nel silenzio, sono rimasto, sconcertato, in queste, le serie, le riscarate, ci sono i carattoli, non è il nuovo, se è uno spogliente, in cui il moderatore, ho avuto la, 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 in cui, la, di polvo, il problema, le cose, la battaglia, con un detto, più particolare, delle cose che ho detto qua, tutto di me, parla continuamente, della battaglia, tutto di me, con tutto, ma non è, diciamo, il catalogo, di quello che abbiamo detto, per i 5-5-5-5-5, io ne ho detto, solamente un'altra cosa, scusate, ma è il comune mio, quando divide i soldi, per quanto riguarda il ristoro dei danni a vendita. Allora, il primo è detto comunque, fattene queste lepre di notte, fattene queste lepre di notte. Io voglio dire che il problema è un po' lì. Il problema critico è che in una situazione di profonda crisi economica in cui i comuni non hanno più soldi per niente. Allora, quei signori di parte dei malattari, i malattori, e questi si fanno la cacca sotto e la cacca sotto. Questo è quello che è stato riduceremo. E dei problemi con cui avviene i miei cittadini e di quale patificata andiamo a consegnare alla generazione del futuro, perché io vorrei ricordare a creerenti e no, che stiamo a rinforzare su quella generazione, e che a un certo modo, quale patificare la generazione del futuro. L'altro aspetto è il silenzio. Perchè io qui di sera, in un'altra città, in cui c'era anche il gruppo pubblico, io ho composto questo problema. Vedete? Noi ci siamo quali diffusi. Ci siamo quali figliati a livello nazionale dove abbiamo fatto la battaglia. Un po' di gente rita, capace di ministri. Io non ti ricordo così. Non avviene la stessa cosa quando si parla del petrolo. Cioè quando si parla del petrolo, o l'uno ha fatto dall'altro l'altro, allora direi che la ferro lo faccio. Io ho registrato la difficoltà da avere i dati. Io per avere dei dati, ho difficoltà all'interno del palazzo, a avere dei dati. Perché così i dati hanno una più enorme difficoltà. Ho fatto una domanda a quanti eroi che sono state pagate in più di 10 anni. Ho potuto fare 300 del palazzo. Nessuno sapeva niente. Allora, il risultato è dura. Io credo ora. Se dobbiamo combattere una battaglia seria, dobbiamo fare nuovo. Prima che i dati siano felici, certo. Perchè uno dei modi più spontanei, chi parla di questi argomenti, è il padre che dice una sola cosa, quando il padre ha fatto 10, siamo veri che regolati. Quindi i dati certi. bisogna una disposizione per ricevere i dati e per fornire i dati. Creiamo un movimento di opinione, che sia per interessare, che sia per nessun interesse, né elettorale né paratitico, a questo che faccio, perché non faccio veramente perché crede che sia un altro gruppo nei riguardi i cittadini. Però, ingorniamo la gente, perché i centri di più voltare siano a parte complicati di ciò. Cioè questo è quello che mi sono dato. quando si parla di te, c'è una cappa che si rega. Allora, ingorniamo la gente, un po' finito. e che è tutta la faccia, il 4 Stelle, che è autentico. Già mi pensi, no? Già mi pensi, no? Già mi pensi, no? Già mi pensi. Già mi pensi. Già mi pensi, né? Chi, sull'attuale scenario politico si deve essere la persona più selezione queste sono i dettagli comici che devono scegliere il capo delle basate noi siamo stati definiti a più di prese con visti gente che non capisce di politica, di politici però nel nostro tempo abbiamo contribuito in diverse battaglie una di queste che vi voglio ricordare quando ancora il convivimento non era stato fondato l'associazione di più materiale albera è stato un'induzione durante il convegno perché si usa la morte si è e frarsi la vita dei convegni prima per torcire la piccola come la sfossa perché si è stato abbiato di sfosse quando vediamo certi tipi che riparano c'era delle tematiche come questi sono gli incenditori e c'erano esperti preisolati perché preisolati posso permettermi di dire perché lui stesso questo professore dell'università che vediamo di Napoli ha detto abbiamo detto di relazionare e ho relazionato però il fatto che è un incenditore non lo vorrei mai costruire allora una persona del genere che cos'è se non disomesso intellettualmente ecco quindi quando fa questa nostra impulsione è anche con l'informazione che poi viene seguita sarà riuscito cosa che mi può trasveritare una nascita di un secolo incenditore della materia perché ricordiamo che c'è già uno che si è stata con la città e che è la geneteria di ripiano dell'interacenza che è un'altra bella un altro perrelao che ci hanno fatto con questa terra di sgraziare io mi riesco a capire mi riesco a tacitare il fatto che non si riescano mai come ha detto la ministra dove prevede il precedente mi ha anche ceduto l'intervento non si riescono mai ad ottenere dei dati certi io non si riesco a toccare dire perché sono genie quindi io so che se si seguono le prossime che si possono seguire per qualsiasi procedura che di carattere scientifico non so come si possa a un certo punto dire che i dati non sono giusti ecco quindi se si si fa una politica in cui gli amministratori hanno veramente voglia di rendere pubblici quelli che sono i dati e quello che è gustato dell'ambiente queste sono cose che si possono parlare tranquillamente non c'è bisogno di carattomani per risaltare a quello che è costato dell'ambiente cioè non è che per fare delle indagini la gente deve sospassare i cancelli di notte e deve prendere il lavoro di essere sparato a posto per fare dei campioni per fare delle analisi cioè queste aziende queste lobby devono dare assolutamente la possibilità anche sotto la pressione di questi registrati locali di analizzare quello che accade ad un terreno già ci sta da vivere e quindi ci siamo spancati io dico quello che è perenzione e quello che è perenzione per fare delle persone che vedono che trovano a quello che è come questo è la basica ovvero qui noi siamo stati delle battaglie politiche in questa regione perché ci sono persone che vengono isolate lo stesso povanzietti dei ministri che cosa sto parlando quando toccano c'è di che allora questo è un tema centrale per quanto riguarda la politica in base in data e i nostri grandi stradoli che non riescono niente a trovare dei tempi per le politiche perché questa è questa gente che si inerme e che si appiccita alle proie attive perché deve prendere degli aerografici di 2-3 mila euro accaduto in un comune dove hanno preso subito anticipo da parte delle compagnie petroliche perché non hanno coprire una faccia determinata che hanno subito avventato su questi soldi che erano messi a disposizione da queste lobby che tra l'altro vanno ad inserirsi anche in quella che è la promozione turistica del territorio cioè tra un po' proprio siamo nel più grande piano non che scappiamo come diceva di un malizio io voglio vedere una mostra con un film e il film è finanziato dall'azienda Pott dell'Italia o da quest'altra azienda e su tutte aziende che hanno un impatto anche in Italia nocivo sul nostro territorio quindi io non cost per me cost 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 sì quello è uno per esempio è anche la nostra internazionale da affermare il territorio scusami andiamo vedete per compiare per lei di trovare scritto il strutturale con la loro restituzione per la mediteria veramente ecco sì si fa anche pubblicità a queste canzioni per invece di essere contanti sì sì cosa da dire io ho contato un figlio condizio che però vi rimango al nostro sindaco che è Basilicata 5 estere con 5 un 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 sicuramente c'erano tante cose da aggiungere però tempo si dirige e lascio lo spazio alla data e ringrazio grazie 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 5 non so se sai e stiamo parlando della legale che io ho fatto racconte se non sono sospetto di nostri costumi ho fatto racconte soprattutto a bene per grillo posso dire le date le speranze le per esempio quando abbiamo avuto perché abbiamo spero possiamo andare a firmare anche noi quello straordinario successo andando a firmare le miele da dentro e ricordare non per quelli di prima no per ricordare e lei si guarda e non se in tempo tutto questo viene a sprecciare come ma domino domino si sta rubando da qualche anno io non c'è c'è e infatti viene sentito recuperare qualcuno ha chiesto a vero che come faccio io contro i milioni di firme che non si 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 Allora, adesso spero che, visto le notizie di Dio, mi applaio di Domo, appunto, perché Dio Domo è una linea nostra ufficiale. Allora, noi l'ho detto a Dio, io personalmente, non credito all'ora che so che lui l'ha apprezzato, in un libro che era su di lui e non era lui favorevole. Credo che in tre anni fosse alcune cose le stavoluzioni. Dicevo anche quando la questione dei clienti locali si fa per conto, perché possono essere pulitissimi, ma bisogna sapere governare i problemi per riconoscere e poi essere messi alla prova. E' una parte, forse una parte delle ragioni per le quali noi, come radicali, continuiamo ad esserci. Siamo senza interruzioni di lotta ufficiale e reale e personale. Noi ne abbiamo mai smesso dal dicembre 1955. Mai. Quando hanno scelto, no, hanno litigato il contenzione comunista, avevano letto tutti i scrittionali che il loro progetto è di dividere i 3.750 locali, appartenenti, che avevano in Italia. Io ho la terezza di dire che quando noi decidemmo, in un momento molto favorevole, la serie del pubblico è veramente felicitabile, è tradizionale, di non partecipare mai, se non in situazioni interselezionali, a elezioni, nelle quali non, soprattutto con l'amministrativa, di dire, è quando non avessimo una conoscenza di istituzione di persone e dei fatti. Tante le garantizioni, sì, te ne ha. Beh, ha detto che ci sono un po', che riconoscono che noi siamo riusciti a essere presenti, sulle vittorie. Ma, studiate, è quando noi, nelle condizioni di erdo, riuscivamo a raccogliere le firme contro il decretico SICA, quando noi riuscivamo a raccogliere le firme, tante, fino a 20, come le raccoglievamo noi, con il silenzio più assoluto, e con, intrentandoci i modi di raccolta, fu una notte trovata, convalidata poi da Ando Moro, perché un giorno andai a scelte i poligli e gli occupai la sala internazionale della riunione, lui, più o meno, il terreno internazionale, per i figli, lui, gli dice, vabbè, se questo appena visco la riunione, parliamo. La sera, Moro, invece, una circolare con cui si convalidava la nostra prassi dei cancellieri che potevano andare ad raccontare, gradualmente anche, a raccontare il filipino, altrimenti non si sapevano la nostra prassi, l'abbiamo diventato da zero, e l'abbiamo smesso solo quando un golpe continuo di quello che noi definiamo, io lo definisco, vi dico, in televisione non c'è la città, ma insomma, in televisione come la cupola della maggior città, perché nel 738, con i sondaggi che ci danno gli incendi con una media del 68-70%, a due del l'organizzazione non del trattatole, ma del concordato della lenza, e dei codici blocco, noi avevamo stravito perché eravamo di dire oggi, a dopo, chiudere un incontro, tutto questo, per la condizione di conoscenza, di 62 anni, ha divinto lo Stato prendendo una camera, andandosi in quattro, no? Andando lì, c'è intuendo note delle quali parleremo, istante, questa sera anche, ma noi a quel punto avremo compiuto la rivoluzione liberale, dei credenti di questo paese, perché è una cosa della scocchiata, che sono usciti dall'indice i grandi teologi cattolici, i grandi scrittori cattolici dell'800 e del 700, in quel momento il mese di settembre è stata allora, giorni, ma anche noi che è trovato per la ragione, per esempio tutte le religioni italiane di libri di 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 eccetera, tutto questo era l'indice e la libertà religiosa, credi cattolici e cattolici, si è conquistata con la rivoluzione liberale, democratica, certo, poichese che qualcuno era delle stili che trasse che in quel momento non impedivano anche di salutare questo come appunto le direzioni religiose che i vandesi non riuscivano a farlo, non erano riusciti e se sovrappivano non lo sono avessuto coloriosamente e grazie per la libertà religiosa che il risorgimento della nostra linea aveva stabilito l'Italia per i tattolici innanzitutto e non per i ma vediamo anche in un altro modo presente della Lucana prima cosa già noi dobbiamo documentare e tutti parlantali chiederanno che si sia andato di questa comunicazione che con rispetto parlando la magistratura Lucana nelle sue istruzioni di potere maggiorizzate è indefinibile e chi lo fa è stato con tutti i magistrati in calaccio non esti che esistono e quello che abbiamo sempre detto con le notti che è per la giustizia sulla responsabilità la città sui incanzi e il certo giudiziale sono sempre stati come la evoluzione liberale la liberazione dei credenti cattolici e la lotta per i magistrati capaci e onesti che avevano fatto perché non gli venisse tutto corruzione del regime persecuzione di decanomini di felicità alla legge non all'orientazione generale che dà interpretazione della legge e tutti sanno come per gli amici si interpreta per gli amici si seguono se le ci stanno perdendo però una cosa devo dire per i succedi in Lucano che per andare a trovare il palazzo di un ricardo per fare la manovizione i carabinieri abitano subito ma non ogni 4 5 mesi ora non credo che sia una vendetta vi diremo perché dell'arma dagli carabinieri nei confronti perché una delle volte che sono venuto qua sapendo che la gran parte degli carabinieri e anche i ufficiali erano e sono probabilmente le molto politiche ancora a Murugano è sempre entrato un ragazzo vivo colpevole ti avete indicato il nome di un boss che era un boss e la famiglia comunque c'era ancora del boss e dissi occorre felice convizio non è accettabile che un ragazzo entra dalla riserva dei carabinieri ne esca molto quando qui ripeto il problema la finestra è socchiusa e possono sentire il signor e la famiglia di pincerà occhie mandate come a cos'era il problema i carabinieri lo conoscevano le mandate poi di quella stazione probabilmente molto 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 bene vista la varianza del tra di per dire due cose ed è uscito a morta e non per scimura cominciano con un luccato mi si avvicinavano con l'avracciato non si avvicinavano con quello dell'avracciato invece no niente in spazio del era il boss e c'erano tutti i carabinieri e i cattori quindi questo l'abbiamo fatto e vi deve essere raccontato io lo dico sempre racconta queste cose non essere geloso non capisci che è lo stesso humus non allo stesso tempo era successo dire di Dio perché lo stesso ragazzo sospetto la notizia viene entrato dalla cestura di Paderno e domani mattina aveva trovato meno addome che è buono delle gotte come cadrava e buttato giù e allora c'era becchiavano percino scavano e fu fischiato perché è prima di questo una roba quando avremo una notizia che è un dalle di Renato che nel momento in cui avendo le pierre fatte da credito di viene a becchiavano generale dedicato avrebbero che si scoprirono subito con te cose e allora dedicarono anche l'enerato perché poi deve essere scoperto per dare parte un senso ampio e mi ha preoccupato quando ho saputo che cosa devono fare la notte vicina poi alla mezzanotte le portate il campanile ha chiuso nella notte dice il sottario di elevazione per venire sperantare perché quello che era normalmente rivolupato già allora la parte giusta quando l'OAS nella guerra dell'Algeria usava a fare questo allora già di su cosa abbiamo fatto sei mesi dopo nella televisione italiana essendoci fratello delle tribune politiche autogestritte Emma Bonino ha accettato fratello di rarugare ha accettato capitale tribuna in questo l'elepato qui sopra c'era il membro di Leonardo come indesamente per l'autorato dietro perché rettano non si stanno sul baraglio siamo alternati in tutte le antologie che riguardano la comunicazione televisiva ecc ma non ci fu un cane di giornale che ha detto per caso per dire che le valutate comportano naturalmente le compagnie e le un'altra passate però voglio dire che dire sempre ma con affetto a Nicchi Nicchi dice c'è una ragione io sempre preferisco la narrativa alla saggistica perché quando si capa se la tua compagna o la tua compagna mi diceva che faccia ieri tu rispondi con la saggistica solo un po' lascia stare e dimendi se tu gli stavo contare e dici non la venga e allora è chiaro come quindi sono d'accordo con Nicchi il pubblico è una narrativa del sogno è una narrativa del futuro è una narrativa delle speranze no perché altrimenti dovrebbe spiegare come è possibile che questo cretino solitario radicale mi ha voluto lui scopre che l'inquinamento che è il più grande ha prodotto dell'Europa quello di pubblica quello di Nicchi le fonti sono inquinate la posta la può narrare lui a Nicchi voi non siete racconti che invece è mago avviene in pepe o totino il problema narrativa di ma del passato narrativa della continuità di un'alternità non c'è alternativa di fond se non su un'alternità divina di come manda il trato con demuro con me come fa l'avvocato di mettere l'altro questa e dire come risponde in realtà poi si chiama poi gli e si ha potuto fare e su questo perciò cerca cercate ve ne vediamo cercate mi sono traccato di Dio di Narcissi no pur per qualche motivo per fare di Lucane e di Dio Dio diciamo prove di abbracere confronti non solo mancare a parte no a parte non non che la c'è non di conti di mara di questo nuovo e per esempio io sono convientissimo che voi diciamo stelle come dire se sapeste voi quello che quel pietino pazzo di delicale sta per dire per fare di concreto vi ricordazereste di quelle cose per il paladario come si chiama lì in altro luogo del russo non solo ma di poi addirittura poi tutte le volte una cosa che si riuscisse nei prossimi mesi di fare una carta lucana secondo Maurizio e gli altri che parlano e il medico consigliere generale io quando l'ho sentito ero più fuori come non era un capo quello c'era sempre di far ma Maurizio il genoso di me capito quindi stavo qua lo sento perché sono stato felice quindi davvero mi sono sentito lucano che sono da un sesso di nensi le cose più indegne e le mani esportate a livello cinese dunque siamo di sinistra soprattutto no abbiamo un presidente di sinistra tanto è vero che è stato evocato qui dalla magistrale accusato di essere un po' cavolo e che accusava Maurizio di essere prezzolato dalle ricorse dell'acqua di minare perché diceva che vi lascia l'acqua e chissà dell'equipo si è preso subito la caggia la poteva mandare qua per leggere la menzola non ne ha fatta giornalivo comunque non ha scelto l'equipo per tutti i uomini e onore a l'equipo per questa scelta cioè sarà discusa non dire che non ha ma ancora che vergogna dei medici lucani che come le maggioranza avuta dall'assilista ho pieture di coscienza di portarci i vostri prestigio alla domanda ho pieture di consenza ma noi dovete dire la pieture di consenza l'abbiamo fatta e in posta e l'anno sette avrà riuscito da merda perché il medico non possa pagare la possibilità di stare e la cosa poi i 70% le fondate le portantini in locale sono piutture di conoscenza e infermieri se dobbiamo assistere vedere quanto il sessantelio è anticracista per virgolette io dico il sessantelio è un partito cratico che seguito l'infame è interagno fascista ma dicono che sono andate le cose ecco cos'è il portantino che fa la gestione di coscienza per mettere ad avanzare qui tutto qua facciamo una lettera sulla 194 per evitare queste cose non vedremo perché nessuno capiva delle cose no ma 70 per 100 del 80 70 poi mi vedo che nel centro di cani o meglio questo questo l'Italia qui siccome è una zona piccola si vedono meglio le cose e si vedete anche che è normale camminare nei giorni di lavoro conosciuti come rotanti di sinistra come comunisti ed altro e non perdonarsi di girare da un viettore di coscienza non vedete piuttosto a comprendere quanta potera della moralità della scienza della libertà c'è in quella legge che riuscimo a saltare ecco allora c'è il mistero e il nello compito come come mai arriva da Maurizio stesso e non si risponde la c'è la parola di dire Laura o no o noi lavoriamo con te è problema di essere compagni di spartire il pane e l'acqua e magari della giocola della sede e del giocola della pane insieme e poi dire appunto chiede ma è vero rimando costantemente che hai seguito che hai detto assieme possiamo fare tante di quelle cose meno a Montonino perché ancora non ha credito un cavo avete visto come succede perché come succede i cantati e poi gli hanno detto non lo dico perché la migliore ma la migliore è toccata quotidianamente e questo è fatto voi potete dire ancora vedere un'alternità futura vedete padolini mi aveva definito panella è uno scandalo non è non integrabile no no non integrabile sono ce l'ha cercato che continua a essere con scandalo mi pare mi pare che la situazione è indicata la nostra però ma davvero se ne pensano le dire se ne pensano se ne pensano il presidente non lo deve dire che umanamente fanno dire con fiducia ma non mi riconosciano spiegate perché non mi riconosciano sbagliate perché cerco una volta che mi sfugge anche che non sia solo miserabile state fatte per dietro per i portatini dei infermese più chiarissimamente il problema è di non togliere il pane per i comandare così poco per i propri figli non facendo la pensione di coscienza e con rischio perché non possono facilitare la carriera nelle strutture del telemubile della sanità locale e allora però su questo consentitemi un'erettazione di carattere generale che sono contento di fare per non mai fare in questo modo magari la mia dovrà stare a americare ma perché sono qui oggi vedete è chiaro che il grado di omogeneità all'origine del partito democratico è anche democratico qui è la caratteristica dell'evoluzione quando si parla forse come sono fatti presentati e stamattina è necessario sottolineare più di metà del territorio dell'anima che mi è dato che ha fatto la relazione è 66 due terzi del territorio che in realtà segue strato per gli enti che si occupano di queste droghe le cose i due terzi e allora se si va a scalare il problema che appunto solo mi è stato detto dal 2006 dicono di avere delle statistiche sui problemi del tumore quindi ma confronti della progressione però alcune cose particolari stanno spunturendo che è pieno di militari tutti chiarissimamente moribondi o morti chiarissimamente per motivi di inquinamento dall'avviato e ancora adesso si devono fare delle notte lunghissime perché il ministero non li riconosce sapendo che vogliono e convinti che i familiari poi non è una altra cosa ce ne stiamo occupando ce ne stiamo occupando però ne sono occupati non da soli perché da soli si diventano compatti come solo io come un altro sicuro ma è vero è un elemento oggettivo si diventa quasi ossessionati e una visione però per fortuna il fatto che assolutiamo le nostre radici da coloro che da 150 anni almeno hanno trasmesso alcuni valori perfino serverebbe una rispontata omogeneità rispetto ai ben pensati non rubare ma manco che per partito c'erano soli a dirlo no sarebbe partito guardate il furto ufficiale della partita cioè dei partiti è un 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 ufficiale a miliardi di euro da le cifre che fanno una componenza grossa anche della multinazionale guardate sono per la lega che sta diventando lega drona è sempre stata i loro militanti non lo sanno perché non lo sanno perché vediamo una garanzia dalla sinistra e dal centro che i radicali a 5 milioni di persone da San apostolo o 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 non ci danno ai 5 milioni no 500 mila se intanto non fanno opinione non parli ai soggetti dei quali parli completamente e la partita preziesi invece dagli anni 50 su questa riflesso vitale loro non devono parlare di destra di sinistra guardate c'è un grazie politico personale sì io devo dire oggi è l'elettronica ha fatto un lungo articolo ideologico ma l'antiglia di erat d'anio franceschini ho avuto occasione ecologicamente di dire il fatto su una notte che avevo incontrato in televisione mi aveva detto ma come se quanti anni sempre di non essere in televisione io la prima notte c'è la luce la mi parla allora mi avevano detto che era vero ma se non lo faccio con il culo è la cosa non è stato un anno dopo mi diceva ho perso il 2% dei conti con quella tua ma sì perché noi diciamo è vero noi abbiamo conquistato credito per quello mistero di DNA il fatto di essere gente abbiamo vissuto come gente il profe di 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 mezzogiorno e contemporaneamente eravamo gli unici a dire guardate nel 66 67 tutti i giornali dei soldi di qualcuno o del loro erano pieni di generazione di morte dell'atto giuridico di generazione di morte per tutto c'è perché perché erano fatto di classe gli enigrati delle condizioni in cui erano avreste certo poi non si creeranno più dopo 40 anni ed erano il nome delle piante il nome di questa situazione che ci muovevremo a con questi problemi se adesso completamente questa è la fatale il problema di non distrutto la famiglia oggi in 1.750 di famiglie esiste una prevenzione di negozio quindi donne uomini e figli hanno una condizione civile al limite possono rischiare davvero di essere niti da uova invece dei cartinieri usati in modo e trovo come prima e ancora a livello dei quei eventi ma quando noi andiamo con la legalizzazione dell'amor che siamo passati dall'organizzazione mondiale della sanità che ci siamo bisogno di 200.000 all'anno adesso 100.000 120 tovano quegli ossessi radicali lo dico felicisti senza fede altro che nei strumenti di Cesare che impediscono alle bambine e alle ragazzine a scuola come in Francia e tutta l'Europa non dire di educazione informazione nelle scuole della cattolica branca la pillola del giorno dopo non quella cottiva è a disposizione degli assistenti sociali quindi noi gli età dalle farmacisti o piettori di cosezza che portarci loro rispondono alle farmacisti loro hanno come noto delle concessioni dallo Stato dove se utilizzano noi i nostri obiettori di consenze c'è una serie nostra di condizioni non avremmo mai usato l'album una pagata di inchiesta una famata da cà era una serie di consigli per poter essere obiettori di consenze di cosa questi programma no i soldi di ritorno per il perseverativo per il genere di red ma la prima la faggione dopo la di di rendere il mondo per pazzi e lo dico che si avevano di stegno di 100 120 mila che spese le pezzine e faranno ancora l'apporto con il destino magari con quello che comporta allora questa è la attività potrebbe dire potevano avere ragione i credenti e alcuni cardinali miei amici che mi dicevano ma siete parti a assumere questa responsabilità perché bambini che avevano a questo punto la porta adesso non posso guardare infatti e dire abbiamo distrutto un flagello sociale tremendo di avere il sangue il sangue di classe l'abbiamo fatto scomparire incarnate a meno di voi questa lunga continuità è alternativa chiedo amici dipende da coscienza chiedo qui di prendere coscienza ma davvero quando sentiamo io preverò anche della giudizia europea visto che noi per volontari il PD diciamo che siamo problemi e abbiamo una faccia da interculo nel senso che noi dopo un primo scato dopo un secondo capace poi tutte le altre la terza la quarta la quinta e siamo stati così istruggiti dal Parlamento europeo il Parlamento europeo ti riconoscono dall'universo ma adesso le antifizia c'è tonino c'è gli altri ci sono allora e quelli altri ci sono allora io non sarei come finito il fatto che un organo il che viene racconto per terra perché i boss mi lascano dare un punto magari solo per un punto niente e continua però subito ingratidirli e non andare a casa di ma ma mi sono diretti per intimiderlo sperando che fassi una cazzata però ti hai fatto che qui ormai non sono persone è stato detto giustamente prima il dottore del consigliere ma sarà 30 anni senza avere questi dati sulla crisi dei dolori dell'impegamento ecc quanti saranno e dire un cisco dove c'è strage di legalità c'è strage di popolo non di riconoscere persona non guardate il fascismo non il fare aveva la legalità fascista ma l'aveva e quella ignobile legalità rispettata questi non hanno devo dire pronunciando una parola che non c'è Dio non c'è l'anno per sopravvivere devono mentire di essere dei grifo di sinistra ma che è sinistra ma che è tanto di sinistra non lo vuole spesso ma tu credi davvero che vieni tu sponi con i tu fassoni con la comunitaria tu sinistra che tu è per un indipotere o no gente può portare il tipo oggi credito e siamo sempre a prima perché fino alla fine degli anni 70 i dici erano pochi e se tu riusciti ad andare come noi con ciò che la giudizia si dava a gioco una sera al DG2 o DG1 andavamo 12 milioni ma sono interessate ma io vieno 14 milioni di persone e oggi non possiamo mai andare ai telegiornali attive io quando vado telegiornali in genere fatemi vedere con la parte un po' di poi sono non percevano i miei momenti di silenzio di perdere e di soluzione delle immagini puramente sedere poi vado in giro la strada ma come vengo ma come mi sono vengono e e e e nessuno sa che è antropologico allora allora in fondo torniamo alla inizio alla fine con l'aiuto del suo partito che ha delle vocazioni all'amantire una voce del partito perché non sono i regimi ma pure il non privisto adesso in casa non ha fatto questo non ha fatto questo stavano questa cosa e non sono hanno fatto un in quella santa stavano un vento dentro e proprio dire andare alla santificazione senza la santificazione sarà la santificazione però grazie a Maurizio le cose di Maurizio sono scritte a metà in atti giudiciali in ceduzione e che vivono la verità c'è nessun angelo ma non so stavano diventando demografico dice beh la fondamenta eh sì tutti stanno loro e l'università che l'università è è l'altra allora vedete c'è una cosa impressionante sulla quale vorremmo regolata a me stessa e tutti quando snocciolano i successi contro la mafia contro la camone casalesi enormemente di certo può di ciò per vedere impressionare i primi venti latitanti le drenta le corsi le foto eccetera però se per calodissima ragionamento di dire che l'unico cesta della partidocrazia è l'illegalità un'illegalità in un tempo di tipo borghese non fatta più commissioni che di non delle effettive colpi e poi è generale adesso un modo di partiti per partiti tutto una costituzione di merda come ridotta grazie ad alcuni virus che erano stati introdotti nella costituzione non avevano riconoscendo i giudici le partite dei sindacali e non era un caso comunque vinceva bene scusate da una parte loro creano sicuramente un'atmosfera di rispetto per l'idealità per gli artisti per quelli che riescono ad avere con i loro condoni in terreno in casa ma anche quelli che possono andare all'asta dei beni cannolistici e poi se ricomprano roba in Italia del genere e comunque quando tutto secondo Tremonti deve essere messo in vendita a chi chissà leggere chi lo sa lettore chissà c'era tutto quanto e bene come ci vende no non ci vende allora devo dire c'è una cosa e cosa di l'Israeli loro i Marocchi e Coppa l'Averga ormai ladra Milano più ladra di Roma noi ce l'abbiamo noi dedicati capitale con rotta nazione fretta ma qui capitale della tecnocrazia se davano a loro potenze parere le realità di cici di bosche nell'abito allora questa loro casa vuol dire una sola cosa mi ti dico ottima venne fuori anche perché c'era la nuova famiglia in mondo che stava vincendo tutte le vecchie famiglie in sintonia con il potere partitocratico per il momento che cosa vanno bloccano e risolvono la morte di eseguito al servizio dei verdenti negli 800 uomini c'erano guardate caso questi accusati persone in economia di totale non erano 340 delle poste perdenti e in grosso modo quelli che stavano alla casella pastrengo i grandi traditori infami eccetera erano i grandi post delle cabole perdenti che per origina da lì ad champagne e puntanea alla casella pastrengo che continua ripetendo niente e da lì si organizzano per il volo addirittura chiede da stanza vicino i vizi per tutti i commercianti come stavano lì la cadena pastrengo dei carabinieri è questo si cantava puntane puntane anche pare cioè si cantava una cosa completa per c'era la paura c'era la bestia o animale con gli altri quali altri cosa voglio dire oggi se noi teniamo presente a livello tecnico attenzione se siamo radici non dobbiamo mettere passione alle cose che comprenderanno dobbiamo avere la certezza tecnica a livello tecnico questa è a diversi livelli comunale provinciale regionale soprattutto associazioni per delinque contando spesso le altre parti dello strato la ripetizione la polizia di ortogamia bisogna prevedere questo e la pignere dei tappi ed è questo quindi quando ripeticano questo semplicemente vi prego non è un eccesso è letteralmente che loro oggi seguono estremamente la testa perché loro sono la cosa che incerta e fanno fuori quelle altre con quella diciamo carattere che c'erano qualche problema perché la c'erano ancora e forti come multinazionali loro come multinazionali c'erano sotto il controllo nominato da Perlusconi deve comunitare quei servizi servizi naturalmente da Perlusconi dato a Massimo Dadella visto che bisognava compensare dal fatto che Perlusconi dovrebbe candidato al ministro dei scheretti di di interlocamento questo niente è solo di pratica se ricorda l'autore che credo sia un unico che resti davvero non ha affenato una storia di rapporto per contare ma lo vedete adesso non ha titolo per il Partito Democratico lo vedete in televisione parlare per due o tre minuti mentre si fate i conversati non si chiede solo camminare no fatte il caso e è il risultato che dice il risultato di quello di mentre se c'è Nicola l'autore pari la legge gestione di Teneuropa quello ingegnero lo ingegnero io voglio dire la magistratura delle memorandiche del pari ha fatto una cosa ha del privato di un peso sono tutti inserendo quelli di grande ma sono comparati in una storia più comparativa l'arma deve rupir cadere e quindi sono andati in presunzione chi è una moglie ma chi più c'è la tabella è massimo la è un fatti e devo dire che qualcosa in questi vecchi imprenditori quello lo era davvero ma non so chi è parlare un e no me piace dire riuscire a dire ed era vero adesso abbiamo trovato con forza maritana che si è vero sono io che lo fate dire addio un minimo come dire di coraggio delle proiezioni ma anche probabilmente sapendo che nessuno lo avrebbe scritto che ne raggiate che si aveva lo fatto come quando il foro che non sono riuscito da portare le altre gare a portare le aracce generale era dovrebbe tutto sospitendo il primario per morire su che ha un fatto che non disminava per questo e a questo punto il problema era di portare le aracce anche molti compagni in democrazia di magistrato democrazia era un quale siamo più su di tutti gli altri allora sono una madre altra lo sbaglio è quello e occorre la durata vedete noi lo cazzo di un minuto dall'ultimo di che venerà di persone che ci lascia senso per il verità il sciogri era il sciogri era i processi non per garantarsi mancare l'idea viene un momento che il ragazzo che è solo generoso non solo l'intelligenza delle dice per fare di tatuale che come per l'avento che ripartito sta morando per l'italia gente che non mancano di arrivare. Allora, non è questo che accade. No, pensate in questo punto. Noi abbiamo come un portaluce, come un portaluce, come un portaluce, come è sempre definito la partita del legale internazionale, come tanti della sinistra e della testa. E è benedetto delle ore, è invece di un pochino, ma è lo spirito, c'è una braccia, è una storia che forse viene tenuto da più per sé. Chi viene contro, come portaluce, invece addirittura di un portaluce, è 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 una cosa che già finisce. Chi ci andiamo? Abbiamo sentito, in fondo, vice di nuovo gruppo, alla camera, sempre in televisione, strategica, nella destra della primaverità, guarda il tempo. Io, l'unica volta in questo stato, segretario del partito, ero i quattro vice segretari. Il più giovane, diciamo bene, era quale è l'esercizio. Poi c'era Giovanni Nick, poi c'era una moglie, Maria Teresa di Caccia, in cui non chiamo nessuno, non dica lì, che è in l'esercizio. E poi è stata premiata, una premia strega, credo più vicinale, un male che non fosse comunque chiaramente radicale, e poi non c'è l'esercizio. come mai? Perché da noi non ci riesce. Da noi, l'unica cosa che si chiede all'iscritto sono gli scale. 200 euro. Cioè, se ci crede, il ragazzo che non c'è soldi per fumare, nell'anno, 200 euro di scaccia, e quel ragazzo deve essere dato in accordo con la del ragazzo, eppure delle 200 euro. Perché questo non si trattano le cose. Perché è vero, se ci credi, le negozioni, vada a capare, ecco la terra di sé. Come scusso, nel senso 200, per questo, da noi, invece, no, bisogna mettere per i poveri, per chi? I ragazzi, i perfezionati, gli preoccupati, eccetera. No, non è così. Noi sappiamo che quando si crede davvero quella cosa di proprio, a quel punto, un tempo, la chiesa, l'elenosina, si faceva. Adesso ci si deve fare delle contendine di mentale, a propagandosi, a tutta quella realtà simoniale, oro, 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 ma che è l'elenosina, è tutto fondato sull'oro, l'oro, 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 l'oro. E l'oro, quindi, lo si dà. E nel mondo che non lo sassi, come diceva, nel mondo che non lo sassi, se non viene l'opulo di un trascimento. Perché non lo sassi, se non lo sassi, ma non lo sassi, che non lo sassi, invece, ma non è il Allora, il mio bacio senza occhio, senza moralismo, dobbiamo essere capaci con questo momento del diritto, della parola e della difesa e della conquista dei spazi democratici sapere che oggi al potere non è un fatto solo in maggioranza. Tutto il Parlamento degli uominali si riconosce a fare i soldati di quelli che sono i migliori parlamentari e i loro parlamentari. Allora, la prima che mi è venuta a sedere di oggi, la seconda mi è venuta a sapere di oggi, o di sedere di oggi, non abbiamo quindi molti assistenti, di partiti, di cosa c'è. La terza è in questa attra, riveda, per me, insomma, nei primi, in dieci, cinque, o quattro, cinque, poi ai primi, sono tutti parlamentari, compagni, perché penso, non c'è anni, usate di più che quattro, cinque parlamentari, con una notizia, sicurissima, eccetera, come saranno felici di poter qui, in qualche modo, avere il tuo contributo, con questo l'interazione. Poi, perché, ecco, parlo in peccolo da lì, ancora ci sono stati tutti quelli, nel sito, oh, perché è il palazzo? Però, a lunga, non ci consiglierei di fidarvi di quei consiglieri, che non lo sapevano nulla prima, medico, che dopo quattro giorni, 90 giorni, ci dice sto facendo queste cose. Sì, perché in questo, guarda qui, c'è la forza della parola, della coscienza, che non è distrutta, giusto? Che ne sappiamo, c'è il consiglio, un consiglio di questa lettura, almeno uno, pronto, libero, felice, di dare la voce alle verità, che si distrutta. E in questo, è giusto che magari sarebbe la voce alle notte, perché pensate, Maurizio, che è Maurizio, voi non avete idea di cos'è Maurizio. Però, te lo dico, sono sicuro, per esempio, salutare, dando il morto alla realtà, non alla verità, perché sarà con una luna che lo scuola, no, alla realtà, alla verità del trama, che viviamo tutte e tutti. Sì, perché in questo dettaglio, per la missione dell'intelligenza, dobbiamo sapere come si può, tecnicamente, la partigiana, vincere la selezione per delinquere, perché ha la legionezza, deve continuare a dichiarare che non saranno gli stessi ideali che noi abbiamo. Ma non veramente le hanno le riuscita a fare l'espl體, è una forza. Grazie, grazie, grazie a tutti. E in autri o a tutti, per i risultati, 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 per i risultati. E certo che non ci sono comunque che da domani a Roma facciamo la grande informazione della ritorna delle leggi elettorali. Voglierà la legge elettorale un'innomigna a? Sì! E' come la? Non lo controllare! Con le ritorni che allora non sono le, non sono le storie che allora uno contro l'altro si riconoscono quello che c'è il suo padre, il suo padre, l'ossidio, il telepropietario, come hanno vissuto prima della zona, ci vorranno tutte le generazioni. Ma questa è una ritorna, perché è la cosa più grande in rivoluzione dell'ambiente racista. Cos'è quel sistema elettorale? E' la specie umana che sceglie le sue rappresentanze di il telepropietario, mettendo le due soprattutto, l'uomo non contro l'arrenza. Qual è il tuo compito? Sarà, alla fine, quello che sarà meglio e lo guiderà del comodo. Certo! La specie umana del suo territorio, ma anche delle sue specie ammigliette, che sono strumentali. Certo, se sei nell'alto atlantico, vicino al Polo, che da un millennio ammazzi per l'alto, lì magari ancora continui in Roma, c'hai tutti gli altri stati che ti dicono con il caldo, se il barbarano, da un po' da un compagno, si può fare. E anche nel mondo minerale. In questo viene il buddismo e le collezioni di Paretini e del nostro compagno, e di te, il partito di Manejo, che sono sempre questa bella fase, in un modo un po' troppo appassionato, ma io, chi mi ha detto, oggi deve farsi dare con più, anche di sotto lo suono, lo capiamo, no? C'è anche la pelle di Mane, di quella animale, di quella città, di quella vegetale, e solo questa è la visione. E in questo, la visione è uno spazio, del territorio, della persona responsabile e conosciuta, sempre più conosciuta, la prima cosa sarà qualcuno, ma la seconda, bisogna far ridurre questa scelta, che è una scelta che ha dato vita alle uniche democrazie che sono riuscite in questi ultimi cento anni adenni a salare il mondo, del eraluzione, di unicumumum, ca-ca-ca-ca-basco, e adesso a di un progetto, forse non cazzo, doveva il progetto, dovedrò la prima, e poi lo par la prima, e ho detto, do parli, manchi di un terzole radicale, e stanno facendo un grande carattacco e vi metterli ad una la verità che non vi ha lo tengono in questozione. Grazie. La parola, per un saluto, per lei, c'è la Fai Nantone, segretario principale dell'EPGS. Marco è ribadito con lo suo nome, parlava di lui e Massimo, però Marco diceva, buona mattina che portate voi a me, perché buona mattina i socialisti di Basilicata, insieme ai radicali, o meglio, i giorni socialisti che in realtà sono sempre stati ragionabili che paroletano non ha mai avuto, per soluzione e concessione del partito hanno fatto questa iniziativa che non è un'iniziativa a tutte le qualità, però che non è un'iniziativa a sicuro, nel senso che il cammino dei radicali, che è iniziato, o meglio, personalmente, come percorso politico dei ragazzi che l'hanno, si è manifestato come progetto politico per l'Arosa del Pugno, e percorso le visite alle carceri, l'ultimo abbiamo fatto insieme con gli radicali e con il nostro consigliere regionale d'Italia, insieme a Maurizio, il 4-11, come facciamo sempre, con il ferro agosto, ogni Natale tentiamo di utilizzare di altri video, all'iniziativa organizzata per le radicali, e non per niente, oggi sono presenti qui, insieme al segretario nazionale dei giovani socialisti, che diversi, sicuramente i socialisti educati, fra cui il segretario regionale, anche perché c'è una grossa attenzione verso il percorso politico che Maurizio Bolognetti, verso le battaglie che Maurizio sta facendo basificata, infatti in alcuni momenti, quando il silenzio era forte, e i carabinieri bussavano a casa di Maurizio per chiedere le spiegazioni che tutti sappiamo, in che modi e in che forme e perché li hanno chiesto, in quei momenti, non lo dicono solo i socialisti, ma i socialisti disegno a qualche altro approvato, hanno dato la loro solidarietà a Maurizio, però io non vorrei, diciamo, partire dal punto di vista personale, anche perché il vero concreto, diciamo, delle polemiche, come quelle delle battaglie che Maurizio fa, è che quando Maurizio parla e basificata, automaticamente il dibattito si posta dall'oggetto della polemica al soggetto che fa, che dice tutte le cose, e quindi si parla di Maurizio, però no, se mi dice, spesso sono anche i giornali, le mettono da braccia. Io, nel mio primo risaluto, vorrei dire solo una cosa, la basificata è chiaramente una data dei paradossi, perché noi siamo una ragione di inclinizzata, proprio quando questi per strada, cosa mi avrebbero dato, questi caratterni messi dalle istituzioni, al momento della battaglia, per scazzare, e poi abbiamo le scone di uranio, le barbe di uranio a essere libera alla tristaglia, no? Siamo una ragione che non vuole i rifiuti soli di urbani della campagna, ma che non importa 300 mila tonnellate all'anno di rifiuti speciali e industriali, da tutto il mondo, e si parla di lavoro in una ditta che finisce i conti al 40% e di proprietà dei pubblici, che viene provato. Ebbene, su questi paradossi ha avvisuto il mito che provano a diventarlo, solo perché provano a diventare il mito della base di caratteristica. adesso, siccome penso che, in particolare questo, in realtà non sia da un punto d'archivo, ma sia da uno dei successivi inizi che ci sono all'interno delle battaglie politiche che, come diceva Marco, vanno nel passato, dal passato, al futuro. Quindi, io credo che rispetto alle proposte che Maurizio ha fatto all'interno del dossier filiale politico della base di caratteristica, sicuramente, e questo, anche come socialisti, è un nostro punto, non da oggi, perché ci siamo spesso scappiati le nostre opinioni su questo punto, c'è da dire, per inciso, sui carabinieri, che quando invitavano Maurizio, le preparazioni dei carabinieri che sono dovrebbero fatti svolgiare dal luogo dove eravamo applicando, c'è comunque quel pezzo del codice d'occo che è quello che c'è rimasto. Quindi c'è un rapporto del carabinieri di Maurizio, questo è stato un attimo apporto. Però, una cosa da detta, in base di caratteristica il problema, per parlare, almeno dal punto di vista dei rifiuti, sono gli un pari che ho promuovuto la possibilità di corrondire, ripeto, anche in uno dei paesi che ospita le rischiate, una delle rischiate più grandi della base di caratteristica, che dovrà essere una di 100 mila repubbiche che significano 15 civili d'euro. No? Quindi, purtroppo, questo è veramente un altro fatto. Cioè, la situazione per cui la politica, o meglio, il corpo amministrativo urcano, è per i caratteristica di attaccare dell'eurovia. Cioè, in base di caratteristica non esiste più fare un'attività senza l'appoggio di una forza politica. Perché il terreno è un po' come l'Unione Sovietica. Nel senso che il terreno dove deve andare è quello che deve andare. Chi deve costruire è quello che deve andare. Eppure chi deve lavorare. E su questo si legge l'economia e su questo si leggono, o meglio, da questo fungono molti ragazzi che magari acquisiscono competenze e conoscenze in Italia e all'estero e poi non rimanono proprio qui. E questa cosa applicata pienamente nel settore dei rifiuti. Perché siccome nel settore dei rifiuti noi siamo, diciamo, in emergenza, noi avevamo questi due dati, questi due ambiti territoriali ottimali, che per la parola ottimale, di limitare la situazione che è dei rifiuti in Basilicata fa affondere. Poi, a un certo punto, abbiamo pensato di dire da due cose inutili, che hanno fatto andare in crisi, soprattutto dalla provincia di Palenza, facciamo una cosa utile, cioè la tonica. No, ma qui non vedete, due cose inutili, inutili, otteniamo proprio per una cosa utile. E come dice il primo inizio, a chi l'affidiamo questa cosa utile? Al Presidente dell'Ente, che ha fatto andare in crisi con un periodo provinciale sbarrato, che ancora va bene dalla piscala, che era da 100 miliardi dei cubi, a sinistra, vicino la diglia, in terreno franoso, gli affidiamo la pubblica. E all'assessore dell'ambiente su gli affidiamo l'altra, che è la società che gestisce il bacino dei rifiuti di potenza, che è per tenere di tutti i rischi, perché aspettiamo che la rivolta, questa grossa multinazionale, che ha la fenicia di giamefi, ha la partecipazione dell'interno parco, che ha l'interno dal centro, ha la reta di questi genitori che non parte male, un altro ce n'ha in Moisele, altri due li vogliono costruire un'affeggiatina insieme ad un'altra una grossa scarica di rifiutori. Però il problema è che questo è un'obbligata, ma queste cose non si discutono, l'unico che provo a parlarne è il modifico, e sappiamo quello che succede, e anche perché effettivamente non c'è un consiglio che devo discutere, perché mi ha abbassato il minimo buio, ha anche il rivolto per le infatti, ha anche il mio potere. Allora, ha anche il mio potere, ha anche il mio potere, dicendo due cose, sì, alla proposta che vedo faremo anche dei nostri consiglieri, cioè alla proposta della totale internazionazione dell'arco, qualcosa che avevo votato contro, all'interno dell'arco, perché questa è la ritorna della vittoria dei socialistici, anche per i socialistici su cui noi ci sono spesi. Quindi la parola internazionazione delle funzioni tra APAP e Agrobios, che si controllano, perché quando si controllano la vicenda, due, l'applicazione di uno stato più regionale, e qui sì, dove ci sia una legge elettorale maggioritaria americana, come quella che diceva Marco, ma soprattutto dove si dia a luogo ai cittadini per poter parlare. Vi ringrazio per l'attenzione, rivolgo il dito oltre che si chiama Marco, anche agli altri rappresentanti radicali per la domanda via, veniremo comunque ad organizzarci e insomma sicuramente ci saremo essere contenti della loro presenza. Grazie. Grazie a tutti. 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 inter forze sui regni illustriati e politici del giorno, però ogni tanto non so se c'è ancora Pio, più si c'è? Pio? E no, un saluto, un saluto, un saluto, per cui lo ringraziamo di essere stato qui il paziente, ha seguito tutto il convegno, un saluto del sindaco, di Tito, di Stavone. Grazie. 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 spesso, l'altra propria, anche in questo democchio, in questo convegno, vi rappresenta l'ultima conferenza provocata dall'Amministra dei Bambini, nel Prevento della Repubblica di Salerno, si è convenuti di realizzare, per quanto riguarda il depotico di Foscologesi nell'area ex di Visutinica, il ritornamento, così come ha detto Maurizio Bolognetti, di questa pasta di Foscologi, perché, attesa dai funzionari del Ministero, in una parte d'Italia e d'Europa, c'è la possibilità di poter smaltire quella straordinaria mole di schierizza che c'è in quel contesto. E per me, dobbiamo rimarcare che la liquidità risale agli anni del 60 e del 70, per cui si è creato un inquinamento, in gran parte, perché c'è davanti dello Stato, perché altrimenti quella azienda era a managgioranza partecipata dallo Stato, per cui noi facciamo queste battaglie, così come fate voi, straordinariamente qui in questa azienda, e i sindaci quotidianamente, presso quei loro segni, ai quali io non ho bisogno di fare il difettore dell'ufficio, perché non mi incompete, però posso assicurarvi che di fare il sindaci, di una amministrazione, oggi è una cosa, francamente, quasi impossibile da portare. Perciò io non ho capito di fare il difettore dell'ufficio di nessuno, però mi mi ricorre l'obbligo di rimarcare, io ringrazio, non ho risposto niente che mi hanno invitato, mi è dispiaciuto che sono stati chiamati in casa dagli miei collini, però per quanto mi riguarda posso rimarcare soltanto con questo. Noi stiamo continuamente e costantemente alle persone con problemi senza risorse, e fare pubblicamente tra l'altro in questi tempi, se ne so deve contare, su un minimo di risorse che ti portano ad avere anche un minimo di consulenza tecnica e scientifica, perché immaginando che non c'è un sito delle due e tre comuni più significativi, c'è tutta l'interno di Basilicata, che dispone anche sul tuo domando di risorse le proprie per poter affrontare alcune distruzioni sul piano che ci sono attivo, sul piano tecnico, sul piano tecnico, ci sono la maggior parte dei comuni che lo hanno assolutamente nelle strutture tecniche per poter affrontare questi problemi e nelle risorse economiche. Noi, ad esempio, ci siamo costituiti per quanto riguarda l'allicinamento delle parti attivite dell'azienda Hetz, la Ranch, parte civile, sottotanto il Comune del Tito si è costituito parte civile, quello che è stato l'infinamento delle parti attivite, più volte abbiamo di mancare questo caso, per esempio, i pubblici ufficiali, che è abbastanza deprimente per una comunità essere dalla sola su questa battaglia, speravano ed attivavano un colpogginetto anche della provincia e soprattutto della regione palazzina. Come noi avremo fino in fondo ci posso dire che il territorio ce ne chiamo, ce ne chiamo con tutte le nostre forze di prendere e di conservarlo e di difenderlo, e ne ho scelto delle distribuzioni a rifarlo, e lo faremo fino in fondo. Tutti i temi di cui avete lungamente ribattuto probabilmente meritavano qualche giorni di più di ribaccio, per dire ai risulti, all'infinamento, alle parti, alla prodotta lunga, a tutto il mondo che ci circonda, ovviamente è qualcosa di interessante perché probabilmente quando inizio dovrai programmare immediatamente un altro gruppo, io a Tito, e perché no, per Cicchia, come mi ha fatto che ha Tito, non troppo tempo fa, e non ho bisogno di più ma non è niente Euro-Lucan, io sono un figlio. Chissà, chissà, perché no, anche Euro-Lucan. Perciò io chiudo, ringraziando i polonietti per avermi evitato, ho porto, insomma, su la sua iniziativa, e quanto riguarda il Comune di Tito, sarà un anno pubblica tutte le ordinarze, tutte le documentalazioni che ci permettono dalla Ministrazione alla spazio della italiana, si parla di me, e pubblichiamoci un altro ditto. Perciò, Dario del Maurizio, che è stato utilissimo, perché francamente, per quanto riguarda le strutture comunali, ce l'ha sfuggito, non perché ce l'hanno di quel particolare, ma l'intenevano che non dovevamo essere noi, voi dovete pubblicare tutto il documentalizio di documentalazione. Non dico pressione, ma con vari confronti che abbiamo avuto con Maurizio, noi da un anno a questa parte pubblichiamo tutta la documentalazione. Perciò, quello che è a sua coscienza, che è una distrazione comunale di Tito, potete trovarlo sul nostro nostro sistema. Grazie per aver invitato, buon lavoro e buon lavoro. applausi. Grazie davvero, sì, meravigliato e già sta arrivando, vi ho chiusi dell'Associazione Materana Città Plurale. Grazie. 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 modificato. Marco scusa, non ho sconoscere tutte le vostre negoziate ai tanti anni, ma in realtà sicuramente forse più esperienza di tutti. Non ho fatto un articolo e ho un intervento per acquistire i gruppi di domenica. Non mi dilungo perché ho visto che non c'è così il registro, altrimenti abbiamo parlato e ci sarebbero stati tutti sulla domenica. Una cosa che io volevo credere, e questo probabilmente da tutti, visto che abbiamo fatto un minimo del riferimento e seguire questa linea, è vedere che disponibilità ne ha da poi di TV su una richiesta di inspezione alla procura della Repubblica di Mersi. Io, su questo intervento, la dirittura è uno dei temi che non mi riceravamo di parlare, però voglio vedere la dirittura, è bellissima, è appassionata, è anche la dirittura, purtroppo queste relazioni non sono presenti, però va a dirittura, è una lettera utilizzata dalla procuratore della Repubblica di Mersi. che ovviamente non ha avuto alcun rispondo. dirittura alla salute, è un comitale di Sistemi di Ardaleno, l'etere ha preso da sostituto procuratore della Repubblica dei Mersi di Ottobre Grado Arminio, il riuscissimo procuratore. il sinistro sociale di queste settimane, che eravamo all'inizio di gennaio, ormai non erano queste settimane, e chiaramente questi mesi, poi ricerteranno questi anni. l'inferitore che dice che è, alimenta le inquiettitudini della popolazione residente e comuni della zona a punto delle difese, così come alimenta le inquiettitudini degli attivatori che lavorano nella zona di Sardicola di Mersi. Le poche notizie di cui disponiamo ci chiumano attraverso il breve interazione della città di Orgine di Stato Locale. all'inizio delle mediterranea abbiamo appreso il suo ufficio nominato un condomente dell'Università di Bari per ulteriori informatici ai dati. Attraverso il mio avviso delle PCN classificate nel 25 settembre scorso, abbiamo appreso le sue ordine di chiarazione, sulle quali sostiene che rinoccare l'attività del direttore sarebbe da renta espontanile. Dopo le sommarie sporadiche tessi posizioni, alcuni politici locali, proprio contro, operato il direttore dell'agenzia Alfa, di silenzio istituzionale continuo. Dopo l'unico atto dovuto, ossia la mantenanza del sindaco di Mersi Navazio, della curva temporanea in edizione al condiviso del poste a base dell'incenditore, non ci sono state altre iniziative in merito. Inoltre, l'isperazione del direttore Alfa, intende di queste commissioni, permanente regionali, nei quali, che era la mancanza dei dati di monitoraggio dell'incenditore nel periodo 2002-2007, non parla altro che la mancanza della nostra seguititudine. Abbiamo avuto, in modo sommario, l'approssimativo di un attivo pubblicato sul giornale Il Quotidiano, che il giorno 11 scorso del 2021 è una terza conferenza dei servizi, sul Fenice, non ha bisogno di dare alcuna comunicazione ubiciata sul contenuto dei comuni. Dottor Armio, il cittadino Ucranico, in progettualmente spazienti, silenziosi e previsivi, non posso risolverare il silenzio istituzionale sulle responsabilità di un atto quotidiano, come l'Italia. Vi chiediamo di fare attenzione. Su questa vicenda, accettando tutte le responsabilità, sia di chi lo ha provocato, ma anche di chi ha omesso le informazioni. Ma soprattutto, come vediamo, ed è spiegato tutte le azioni di suo potere a finire di evitare che la tua situazione di danno ambientale sia limitata alla sua conferenza dell'ingeditore che lì continua a produrre aggravanto ulteriormente. Dall'altro, tutto questo chiaramente non è accaduto a nulla. Dall'altro, il Comitato, la nostra prima, che è tutto il carattereggio della terza commissione, quella che è relativa all'ambiente e che riguarda la verità dell'istituzione dal 28 di ottobre fino al 10 di novembre, in cui ci sono state varie attenzioni su quello che è accaduto a Fesì, è stato attenzione anche questa la procura della Repubblica e non è accaduto più nulla. Di palipasto, poi, c'è la denuncia della procura della Repubblica di Maurizio relativa alla commissione d'arte d'ufficio che si fa una discusione sul 244 del 152,96. Nomini dunque su questi argomenti, chiaro. lì a limite la stessa della denuncia che deve essere fatta alla procura di Maurizio ma la tutta la pena è tornare una cosa di suonarmi. Secondo me, che ci sono i militisti che è composta sul ministro della Repubblica del Partito della Repubblica su quanto accade a tutti. E prima, tra l'altro, quello di sbagliare dei articoli sui giornali o di interventi se ne dovrò su un porto nei competenti o nei parametri dalle 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 dalle. Mi pare che qui si tratta di avvisare il ministro Alfano chiaramente ci succederanno quelle cose. Bisogna le necessarie perché se no le domanda ai carabinieri ... ... ... ... ... ... ... Vabbè, io ne ho più delle stazioni che voi. No, 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 ma la c'è una cosa. Poi questo non è un intervento, quindi non mi diceva, ma è un intervento di tutti. Per questione di, diciamo, di territorio, visto che si è parlato di 179 dei repuratori, che erano un gioco, o molti dei repuratori che erano un gioco, ricordo che a Madre c'è una situazione tutta strana. E' esattamente su dove voi vedete i primari di televisione che andiamo a lasciare a capire. Abbiamo un gioco dei repuratori che non funzionano più scarichi e diretti dalla città nella gavina. Praticamente i turisti che parlano di sotto sapete una busta che non si capisce. Tutto documentato, tutto fatto. Tutto per la rendere locale. Domani, in modo di cercare una telefonata, dovrebbe uscire un articolo, sono caratterizzato, sono caratterizzato. E' un'altra cosa, mo' caravire, e ci vuol capire. Domani, quando vi ci dirà un articolo, sono caratterizzato, dopo domani se le caratterizzate la punzione. Quindi è, un'altra cosa, ultima, una scusa, una maniera dell'intervento, doveva andare in alto, 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 doveva andare in alto. Beh, allora, ci sarà, ce la fa. E' la deduzione della Costaiola. talmente sta succedendo una sorta di corsa all'oro e per cui bisogna fare molta attenzione perché tutto quello che è accaduto fino al 2006 è stato perfettamente registrato registrato perché la natura sarà questa conclusione a porti dei finti magari dei finti e ripartendo non è stato mai riparato quindi la soluzione va drammaticità adesso che si è venuta verificata è la focce del baseretto quando è accaduto la focce del baseretto riviene chiaramente dalla posizione dei perdenti del posto ci riappacchiamo delle fotografie e non te le posso far vedere perché il computer è stato smontato e non te chiaramente è una storia molto simile a Mariani e Mariani ha adottato delle risorse di compensazione per questo però ci sarà fino a che punto arriveranno a essere compensative e non avvolgiamo la presenza di una specie meno sensibile rispetto a quella di metaponto perché ci siamo attenzione alla donna però chiaramente sul metaponto abbiamo una situazione di collasso è chiaro che adesso la regione che l'ha dedicata ha banito la gana per lo studio che noi abbiamo visto e sentito e l'abbiamo in basso l'ha restituito e l'ha discutito che c'era un mese che per il topolino è chiaro, è del topoloso e dobbiamo vivere solo se le questioni hanno fatto la giornalità di questi anni e dobbiamo vivere solo questo studio quando è costato, è dovuto conto che non si è fatto oggi che la giornalità di questi anni dovevo dicere una cosa loro è il suo recupero di questa costa è la non proposta probabilità la non emizione dei grandi prodotti di una struttura privata quanti pennelli producono un certo tipo delle certi danni e sono pennelli pubblici il problema è il pubblico qui i pennelli sono privati quindi i privati devono comporre a... 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 ed ecco quindi le nuove risposte dei conti ed è in quanto ora che l'ulto conto che si tratta di risorse che utilizzano risolto l'importo di una terza di un milione a tre per la necessità che neanche l'Europa resti informati io grazie 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 adesso un po' allora voglio capire adesso dell'associazione di un piano genzano c'è il nostro avvocato che mi ha capito che il paziente ha seguito tutto l'impatto che ha si fatto Antonio Giastro sulla questione del biossido da sotto Giuseppe per il bello che spero che sia un po' che sa allora io vi prego un attimo di pazienza per tutti domandati via e darei la parola a Giuseppe non ha mangiato l'ottubra perché è andato l'ottubra viene da l'ottubra e dava l'attuazione logonica alla Basilicata anche per noi lucani spostarci una volta d'altra significa avere un'ora e mezza e due ore di macchina poi c'è una cosa che lasciamo stare grazie Buonasera io mi sono a fare il mio intervento verso la fine del per cui credo che ci sia o quando ci parlo verso la fine che in una sede politica come questa provare a fare una proposta è una proposta in reposta l'avviso su tutto quello che le porta a questa decisione che in qualche modo adesso le dirò perché le ho raccontato per in tanti tempi e spero che si segua in questa decisione le pongo una domanda e nello stesso per una proposta perché il palapito radicale e non solo il palapito radicale non si fa promotore di una campagna che provi a sottrarre la gestione dei finti speciali il vero problema dei problemi di natura ambientale che coinvolge il territorio nazionale perché non provare sottoline alla propria selvaggia dell'etico del mercato mi si credo la gestione dei crisi urbani per la sua favoritosità per la sua relativa complessità da un punto di vista normativo e amministrativo adesso non chiesti ogni regione delle qualifiche dei propri risulti ovviamente con ehm con ehm normativa ehm europea e nazionale deve necessariamente avviare la raccolta differenziata il riciclo in questo senso in questo senso diventa immediatamente l'interesse del quale sono questi regioni che rispondono quali alla però ovviamente ne passerebbe non provocare oltre la passazione e su tutti il territorio nazionale che hanno c'era il regione come quello del sud che ancora non riescono proprio a comprendere proprio una logica ehm diciamo di disattenzione per l'anderezza non riescono a comprendere l'efficacia sia ambientale ma anche economica si rivolgeranno in qualche modo con le spalle e dalla dal punto di vista diventa immediatamente evidente le carenze e posso anche dire la stupidità che ehm che vi fa la padrona alla programmazione che c'è la vita dell'efficacia come il nostro quindi dal punto di vista per i tutti urbani l'attivazione non è totalmente sorpreso ma il il che è il che è il vero il vero il vero che è il che è solo lui ma quando tutti quelli che provano a deniciare diventa 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 un problema grandissimo perché il dato essenziale è un'enorme produzione speciale pericolo siano sono scelto che avevano più all'anno di rifiuti speciali che non hanno avuto non hanno avuto un ulteriore senso anche per la difficoltà che non ascoltano lo stesso visto nella raccoglia dei dati e perché perché non si vuole sottrarre assolutamente dal punto di vista normatico la gestione di questi istituti che sono strettamente collegati nel momento in cui non vengono gestiti correttamente alla salute delle persone alla salute dei cittadini diritto tutelato dalla loro condizione non sono gestibili in maniera appropriata per la assoluta criminalità istituita del governo nazionale del Parlamento italiano di cui qualcuno si è onore di partecipare al suo malgrado e non di 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 esistirla com'è possibile che un impianto di tratamento dei rifiuti speciali o di smaltimento possa avere una valorizzazione regionale e avere invece la possibilità di poter trattare gestire e emancipare i rifiuti che provengono dalla società della europea all'interno di questo processo che è a tutti i costi delle arancine il business dei rifiuti per chi è il business dei rifiuti lo si fa anche a costo di non solo incentivare i fenomeni dell'arancine ma quanto anche di sottrarre le amministrazioni locali territoriali alle loro responsabilità sia di programmazione territoriale che di gestione oggi nella regione dei rifiuti non possiamo considerare nulla nella mancava o carattiva la gestione dei rifiuti speciali perché? perché dalla regione della società non può programmare l'impiantistica e le modalità di gestione dei rifiuti speciali in quanto la normativa nazionale crede che quando io do un'autorizzazione faccio un esempio alla Sena o alla ECOAS loro sono autorizzati a rimanere tutto quello che si può rimanere il codice da qualunque posto d'Italia o di Roma semplicemente regionalizzando sottraendo quindi al libero percato questa gestione dedicatissima nel territorio dedicata strepetamente alla salute dei cittadini lo ripeto totalmente costruito frattando allo stesso punto di come si tratta nel senso di regionalizzare i rifiuti urbani sarebbero adotteremo vari simili risultati o il territorio potrebbe programmare l'investimento di e la gestione degli stessi dun potrebbero costruire e non potrebbero costruire a valutare il reale impatto di un impianto produttivo qualunque opera produttiva che uno va a proporre deve essere valutata nella sua sostenibilità della territoria giustamente e come attraverso l'analisi dell'impatto sui benefici ambientali acqua aria suono sottosuono e gestione dei rifiuti se una regione come la nostra regione come la regione ha le strutture per gestire un complesso di attività ebbene se non ce le ha forse la pubblica amministrazione potrebbe indirizzare in maniera indiretta una scelta più virtuosa di investimento produttivo faccio un esempio se la chimica pesante produce dei rifiuti che alla fine possono dir più del prodotto per cui l'azienda è costretta o a gradire il cittadamento o se deve gradire il cittadamento non farlo non farlo quel investimento non potrebbe essere dirottato in una produzione che sia più eco normativa se questo però significa essere più garancante meno liberistico però se non si affronta dal punto di vista normativo e chi stiene il parlamento alzarsi il culo alla lavorare non è il tuo caso però appunto quindi non ha caso di poco a dire no ma io forse bisognerete rivolgersi a quelli che non non è un caso che io rivolgo al partito radicale e l'altro partito radicale una proposta che è questa e credo che non sia il segno della importanza credo che non solo dopo questa battaglia trovereste la solidarietà e il consenso delle associazioni ambientaliste ma quanto anche nelle popolazioni che dalla business delle fitte ci mettono in un lato inoltre a conclusione di questo ragionamento una serie vota da proposta ma che in realtà è la lettera della proposta principale che nel luogo dell'ultimo il decreto il decreto del 27 dicembre del 2009 dell'aristitato chiude il decreto di un paradosso che non vuole appunto affrontare il problema così come scusate si così come si così come lo evidenziamo individua nella sistema sistri un un assurdo secondo me un assurdo poliziesco e perché lo spiego subito poliziesco di controllo della gestione che parirà comunque perché è affidato nelle semplici mani di un'arma di arrabiliero operata da un'arco parola del 9 e che sottrae finisce sottratere all'informazione pubblica i dati relativi alla produzione dei rifiuti al trasporto dei rifiuti alla gestione dei rifiuti trattamenti e mandamento perchè fino a un anno fa io potevo scegliere a ricertificare la carta di identità dei rifiuti a capire quali tecniche ottimizzavano le industrie per produrre le loro merci potevo individuare dove chi era la vita trascontatrice dove andava e là si scopre che era il resto delle piattaforme di trattamento si fa intermediazione come commercializzazione dei rifiuti così come lo scoperto io leggendo il modello di un'azienda che fa intermediazione tra trasporto e gestione di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un intermediazione che ha trovato nessuno non si riesce ad aver aiutato da una macchina questa parte c'è stato praticamente giuso la possibilità di poter fare un lavoro che non è usato ma ho visto essere utile per le stesse le forze degli ordini perché c'è qualcosa che penso comunque sui territori che si controlla perché ritiene che il diritto all'informazione è fondamentale e se non ho informazione non la posso fare di un'opinione e se non posso fare di un'opinione non posso neanche decidere come propria madre e come anche agitare la fiducia. Bene, io sono dedicato a presso le forze dell'ordine, ho fatto una rinuncia alla sua madre hanno riscontrato che c'erano delle anomalie tra quanto dichiarava la società che diceva di fare la mediazione tra l'apporto quanto dichiarava la società invece che faccia gli offentamenti. Sono tre numeri diversi, tre numeri diversi. Gli uniti non tornano a soccarare la possibilità di una verifica della nuova amministrativa dei cittadini e della programmazione che fanno i nostri rappresentanti ai cittadini, signi e incoverire nazioni. Non ci sono un'opinione. Non ho finito. Non ho finito. Le proposte sono molto importanti come era anche la generalità di questo gruppo. Ma però, non ho finito. Ma tu parli mettiamo via il paperismo al libero mercato perché lo ritiene anche di quello che c'è descritto, quella truffa che c'è descritto, sia corrispondente a quella del intero. Non c'è bisogno di avere un'idea che è dalla parte del vericolo del povero, perché noi siamo di fronte a troppo, quindi che il tuo rispetto ha dei business criminologici, che sono proprio fatti da criminali perché, come ho detto noi, sono finalizzati a far sì che ne avrete più di più di più di più di più di tanto che ha bisogno di più di più di più di più di più di più di più, però perché lo sm침endo d'amore di tanto che hanganato solo qui di più di più ho lato i cinque minuti. Allora, adesso la parola, l'avvocato De Marco Vinto. non credo che ci sia spazio per aggiungere altro sui guassi che sono stati descritti la qualità della mia prese colpa il inquinamento, il disastro, il reumissio e non lo farò altrimenti aspettare la stigione presenza dopo un'intervento dopo abbiamo queste analisi puntuali abbiamo vigilato le omissioni quando usciremo da questa sala? oggi lo dico, non penserà di aver risolto tutti i problemi per il minaccio per il minaccio che dovrà contare qua e questo è tutto chi chiedo, mi chiedo, e chiedo ai suoi sensi chi dico, mi mando da me dopo la terapia, dopo la diagnosi questo è quello che ha fatto agli ambici in coloro è questo il bambino è dedicato per fare nessuno è possibile tutto il bambino allora pensate, mentre non siamo ancora a discutere tre operari dell'antica e l'indeggio al magistrato con un provvedimento coronario al posto di lavoro prestano pure la bambina perché l'antica decide di non salentare questi operari in bambina segretario Zanerini ha detto che all'inizio dell'intervento che ci sono una cosa dalla rasta e che la felicità non ci troviamo in prova la violazione sistematica del regolo se ci troviamo in prova se ci troviamo in prova la violazione sistematica del regolo può credere di tutto è ancora di tutto in base di fatto è possibile saperitare il territorio e non accadermi è possibile deliberare il territorio e non accadermi è possibile inclinare il territorio e non accadermi è possibile che un magistrato metta un ordine di rete nel posto di lavoro e non accadermi ma non mi interessa magari se il magistrato ha parlato bene ha parlato male questo non mi interessa non conosco gli altri del processo non li posso assolutamente produrre ma è certo che quell'ordine del magistrato va eseguito fino a quando non viene evocato non viene modificato da altra autorità allora se le cose stanno così e vanno avanti con esempio per arrivare il punto della conclusione a una cosa che io parlo adesso parlo subito e una cosa 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 però insieme sempre in particolare tutti i bambini non ha sentito nessuno di portare questo particolare in 2005 bronzi elettorale 2010 dopo 5 anni ancora che non sa che 7 è vero però non è vero però non è vero ma non è vero le stesse persone coinvolte si riguardano il cerimento con il bronzi del bronzi sono riparati qualcuno è stata fatta occupare il cambio di discussione importanti ma voi ritenete che si possa pensare il problema dell'inquinamento se abbiamo una magistratura così lenta così distratta così ossia su questioni così importanti ma noi noi dobbiamo pensare al binambolo politico che ci sia una coscienza politica che si sveglia all'improvviso e che praticamente faccia cantare questa classe dirigente che ha la capacità di dire tutto il mondo di fare il gioco con le breccate di imparare e imparare contro l'uomo di quello che fa e così allora che potremmo il binambolo politico non credo questo binambolo politico perché è inquinato da questa classe dirigente allo stesso livello in cui è inquinato il territorio della partita non ci spugge il dossier mentre sarà mentile che lo fanno la vita allora non c'è altro che tentare la strada della regalità il rispetto dell'elettore allora perché non facciamo un rompegno di che facciamo perché poi dovremmo vedere chi si siederà per parlare di queste argomentiche scelte perché facciamo problemi sulla giustizia in base del campo io ho dovuto vedere le posizioni che non stai in campo però anche voglio dire che ci siamo dissociati anche in occasione non ci siamo quando abbiamo in punto in occasione dell'inaugurazione della religione in base del campo della Repubblica e ho qualificato personalmente il buon signor procuratore della Repubblica quando in quelle occasioni è venuto al sindacato l'operato dei pubblici ministeri che era a suo avviso ed esagerava le intercettazioni delle cose e ho dovuto ricordare al signor procuratore della Repubblica che dalla sua funzione che consentiva di condottare quel pubblico che riserva chiaramente fatto all'annuncio che il pubblico in occasione di solente un ufficiale come questo non era possibile un ufficiale un ufficiale procuratore dimenticasse di liberi che il ufficiale chiede di un ufficiale di un ufficiale a Dio abbiamo dovuto la prima del CISUS sequestro e il vi коли argomento 2 di cui mi racconto come in italiano per quello che ha detto, e dobbiamo avermi assoluto. Palenzi brevissimi, tu non hai avuto la possibilità, come qualcuno di altri cittadini, di poter sequestrare gli altri procedimenti alcolati, come hanno fatto i magistrati di Carnazzaro, con un disegno di alamorico, che ricenserebbe velocissimamente, fanno infassare questo tema un po' per essere, hanno trasferito il procuratore della Repubblica di Salerno a velocità e quindi, noi abbiamo atteso 8 mesi, vasticata, per vedere, ha testito, testito, e quindi la prima di analizzare il trasferito, noi abbiamo aspettato 8 mesi per vedere la sostituzione del dottor Puglielmo di Salerno. Abbiamo un corso di rischio che lo sostituiscono il cinofato. E che abbiamo fatto il corso di rischio di sostituzione. No. Allora, caro Puglielmo, noi, dalla cercata, i processi contro i potenti, non si fanno. Si fanno i processi, per esempio, contro i giornalisti, che erano quel top di denunciare i fatti di cui abbiamo finito a parlare in questo senso. che è un numero di ragione. La legge è parlato. Voi che l'ho visto, però, sperimentato su una nostra coppia, per cosa significa che bloccare l'attività di giornale, che, con una serietà, facciosa che venisse puntuali di fatti che non vogliono. Si fa il processo, non avete un po' niente, perché la prossima domanda. Come mai si è candidato, nella vista di A.N., un poliziotto, fratello, il mamma, le dirà di A.N., un poliziotto, come mai lo stesso poliziotto si è venuto nella sede del giornale, a fare un sequestro dentro il ponte, o a chiedere notizie in cose di questo tipo. per l'infinito, però, non riusciamo a fare il processo sui colori elettorale. Io non ho sentito nessuno toccare questo il mano del rischio, che scopre. Lo tocchiamo qui. E allora la vita è di quel attenzione. Cosa è che gli effetti, gli effetti, gli effetti. Per parlare di queste cose. E gli studiando di queste cose. L'enquinamento, la parataglia dell'enquinamento, non da dire il pane se non riusciremo a far funzionare in maniera efficiente ed efficace Grazie 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 Giuseppe Iberi Buongiorno a tutti Grazie 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 Io conto rapidamente volevo dire una cosa parto dalla questione che ci riguarda riguarda lei e riguarda Maurizio Poglietti per rispedire all'intente con sdegno e con la propria parte legalità e giustizia il provvedimento che viene visto ingiustamente sospeso per quei mesi dalle carte, dalle rivoluzioni e dalle ospite Io ricordo di leggere una cosa ben cognosa quando poi approfino spettamente come da un riconoscente su che la condotta in tutte le situazioni non è stata determinata dai interessi personali o dalla ricerca dell'inteletto progetto va rilevata la personalità costrata dall'indicato in cui viene ad un certo protagonismo non conoscerete quindi di attenuare dall'attuale e da nessun essere risultavano altrimenti ma indicata da un genere dissuasiva sottesa all'obbligazione della stessa quindi questo vuole significare che la gente non deve sapere che la convenzione di IANUS non la conoscono ma non intendono volere farla conoscere e che io non lo devo fare perché mi sono molto alla voglia di non avere tale grandissima ecco io a questo ciò che fa un massacrugisto e spero ho telefonato pure dell'olore del Sant'Avrutti di poterle fare fino alla corte europea per il malattie di questi perché la convenzione di IANUS chiuso diciamo che fa dice che tutti i cittadini devono essere messi nelle migliori conoscenze possibili per quanto riguarda eventuali ipotesi di rischio e rai 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 da solo sotto a solo per fare e vi dico di più uno dei 35 corsi che le mani compagate e le mani compagate un giudice cassazionista disse voi dovete prendere i contatti nanti eliminati come delle basi gravi per raccettare di massima sicurezza dopo quanto dovete informare la disfattura da tutti i cittadini perché dovrebbero prendere ogni misura e questo è questa cosa è un'altra cosa ma si può condannare la sensibilità per un omorizio perché i nomorizio non lo sono cercato io sia per le cadere di vita ma per un omorizio sia per fare un colore di capo io voi stessi parli si può parlare le ragazze mattine che si è la società perché sono la precaratoria perché sono stata una serie di nanti anni comunque sono stati i cittadini questo è il problema allora per fare un'altra cosa che sta succedendo in questa magistratura veramente il caso di Cattini anzi io vi grazie che sono provocato alla Commissione dei Camerati perché io voglio capire quante delle notizie di reale che sono postate mesi di lavoro e non sono approvati a nulla che fino a che non ho fatto quelle ritagini ma non vedete nulla ma non ho capito nessun momento anche investizione distruzione dove sono finito allora voglio ripartire una cosa che dice il sindaco di Dito mi permette di farlo leggere ripartiste le conoscenze di questa conferenza che avrò assenti di tante cose che sono successe il signore si deve dire non è vero non è vero che quelli dei sono di liquidità questo è un falso storico prevedente signore questo è un falso illustriale proveniente da tutta Italia è incompreso ma perché non ho capito le cose che non stanno e non sono e ne c'è di nulla perché sono un bel gruppo di quelli pesati che rispondono a tantissimo e non ce l'hanno mirato che ci sono il nostro gesto hanno detto che era che era che era che la situazione non era così che lo scuse stesso l'alto ma non ci serve l'inferno in questo caso le analisi non ce l'hanno pagare la associazione del cosciolo che nessuno non è vero perché dicevano nel 2008 senza rendere pubblico questo cioè è una cosa non c'è nante che non ce l'hanno giunto nella valga che vengono su un toro che vengono dal toro al paziente e poi la parola tipo 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 Ma che modelli potenti? Ma non sono dei dei, sono mortali e sono libri sulle spalle di tose, ma si ricordano della parola. E la differenza è stata una cosa. In un giorno ho visto un manifesto in un bar di Tosca, era il 2009, e c'era scritto. E c'era scritto, i detenti, e c'erano immagini della data. E io ho chiesto a tutti i giornalisti di pochezza, di poter vedere il numero di telefono, non inizio fuori. Per periodo di quattro l'avamo visto. Non ci conoscevamo, non c'eravamo mai conosciuti. E i detenti non sono solo, ma prima me ne erano da 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15. E guardate anche adesso. Quello è stato disegnato che ho fumato con l'idea, non ho provato di garantire con tutti gli strati del magistrato che ho parlato. E non ho fatto dire che ne dobbiamo, perché poterete un po' di tumore in passato, ma portatevi sui detenti. Saranno tutti i soldi, sono stato disegnato tutti i soldi. Nessuno ha parlato di prestigione del legato. I detenti stavano lì, non lo troveranno. Ma che cosa dovrebbero aspettare? Nessuno ha ricerca delle miracule. Ma poi è il segreto d'un ufficio. Ma poi è il segreto d'un ufficio. Il bar del pari, l'imparazione del terreno, il moro, poi anche per essere un prodotto in lei, poi per il problema che non si scatta. Dicono che sono, una funzione di delegatore, ma la paranzia, sono, per i pubblici, per i pubblici, per i pubblici, per i pubblici, gli allenamenti, è tanto lavoro. Ma scusate, parola legge. Il terreno che ci sono anche 15.28 in cui è la fase. Dici che ci sono le aree sensibili. Le aree, come le aree. Mi fai desidera la produzione. Mi fai desidera la produzione di amore. Se desidera, come le aree sensibili e come le aree. Ci sono delle disce di rispetto. Dove non guardare un'altra cosa. E quindi, che cos'è? Che non è la mia cittura del pelle. Però, la possibilità che non mi ha presentato, quest'anno, e che credo neanche l'anno scorso, guarda, è il sicilità che non è la fase. Non la presenta. Allora, io vorrei dire, veramente, ringraziando la Sardegna San Paolo, per tutto quello che ha fatto. E anche, chiaramente, il problema di aver firmato la partizione, e la partizione, scusate, la libera operazione. Qui c'è un problema di legalità, e c'è un problema di giustizia. Io posso essere d'accordo sul mercato libero o nel mercato pubblico, per quanto riguarda i rifiuti. Ma noi abbiamo dei problemi serissimi, perché molte delle riscate non si ritorno. Puoi dare un esempio per tutti. Perché io, da questo esempio, ho parlato per personale. Sì. I classificatori che vedono, vedete, il Sussalana, la Pellatina, i Sticci. Allora, nel 27, parlo con i giudici, di Nicola Maria Ravace, che è stato tornato in una tuta del calcio. Lui era la calcio. Con il suo maggio, non è che si è portata. In cui si è presentata, in solito il giorno di chiamato. Ci stavano messaggi sui. E mi raccontava, di venire, 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 di venire. di gas mercano, che si era ripeto, dei nuovi corsi. E poi, il tempo, un minuto, un po' tra la Pena, con quei 10, che ci stavano dentro. Poi ci va per preoccuparsi, ma per preoccuparsi, se ne è una differenza. E allora, prima ancora, diventate il primo ricassificatore. Poi, qualche volta, si era assicurato, in mani, si era un mese, in tre mese, se non c'essero di rivoluzione, e si era preoccupato, e si era preoccupato, sul secolo. Chiudo, dicendo una cosa, che, diciamo, ci tengo, perché, un comitale, con l'associazione di libri, dei cittadini, quindi, che non vede, ma che, bianco, se, già, ha proposto una reddizione, e questa reddizione, contro il paravaggio, e nessuna trasparenza, su tutti i reali, in materia mentale, che accadono, in base di data, abbiamo già superato, le 5 milioni, eh. Perché noi, la nostra strada, è quella che venga riconosciuto, in base di caravaggio, per i due ragazzi, la massima trasparenza, e la massima totoprensibilità, uno è la nostra strada, per sapere, se era un problema o un altro, c'è, un problema di tutti, e quindi, questa è una battaglia, che è molto in avanti, in vivo, dice, se non erano le persone animati, ma erano le parti, per dare passare, anche i presenti, se qualcuno vuole arrivare, ci sta anche nell'ordine, che è uno studente, che fa parte di persone, come il padre, e che è una battaglia. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Dalla parola, all'Avvocato, se c'è ancora, spero di sì, Daniele Sturfi, c'è la parola. Daniele Sturfi, non c'è. E allora, la parola, a da Antonio, di Castro, grazie a Antonio per la presenza. Io sono un gruppo, del connettino, della parola, della parola, che è il pubblico, che ha riuscito a portare, che è il pubblico, 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 che è il pubblico. Ho cominciato a occuparmi di queste cose in occasione del, dopo aver scoperto, che il pubblico, aveva problemi di, 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 di allogia. Ehm, tutto nasce, dalla, dalla pubblicazione, del, 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 del. europee. Anche in bascicata, come in tutte le regioni in Italia, il monitoraggio è stato affidato all'Arba per la Volcata. I primi due anni di monitoraggio, la divisione era quasi sempre rivolta al famoso PM10, ma c'erano anche negli altri inizianti da tenere sotto controllo. Speramente, i primi due anni ci sono avuti dei superamenti in due città, mi sembrano Melfi e Valermo, anche se c'erano molti giorni nuovi. Nel 2007, stranamente, l'arie in bascicata torna, diciamo, regolare, in coincidenza con il cambio di dirigenza dell'Arba. All'improvviso, i dati comunicati sul sito dell'Arba ci entrano nella più perfetta normalità. Ovviamente, siccome si sappiamo tutti che i giganti che causano il momento dei valutti per il PM10 sono rimanenti dal traffico vetticolare, siccome il traffico vetticolare non è diminuito, è strano che il PM10 sia, diciamo, migliorato. Perciò, a 2007, a 2010, c'è un milagroso miglioramento dell'Arba. per l'Arba, per l'Arba. Mentre, per il vostro, un altro ordinante che, da un paio di anni, sotto la lente di cittadino, grazie all'ambiente con il sito valare, ci siamo accorti che in bascicata siamo particolarmente confini da questo fenomeno. E vediamo che, in realtà, il decreto di missione A60 prevede che, anche se i valori non sono eccezionati, la popolazione deve essere avvertita quando ci sono i giorni con 19 anni regolare. Siamo sicuri che l'Arba avverte, dicono, con un fax, con un uomo in cui avviene il superamento. Però non si ha la notizia di un'alerta, come prevede la legge, prevede che quando ci sono i superamenti, bisogna rispondere alla popolazione. Ci sono persone sensibili, bambini anziani, malati di asma, che in particolare un giorno non devono esporsi, non succederemo, devono illecalità accettata. Un altro inquinante che non viene assolutamente demolita è la calcina, gravissima. La calcina, la eretta, chiunque nei litori, e per per dire, noi abbiamo tre casi, ma la lorosa, la, la ferniera che sta più vicino, la famosa demicina, di cui abbiamo già detto tutto, è la geneteria in materia, che fino al 2008, lunga anche i copertori che è inviato. Fa lunga, lunga corrispondenza con l'ex assessore all'ambiente della Pacifica, apriamo una parentesi, in Pacifica, la regione Pacifica, e anche non abbia locale con i cittadini che chiedono notizie. Bisogna ricordare al difensore civico, invocare la legge 249 i giornali che hanno la sensibilità del pubblico e si svegliano poco. Tutto più fa, vorrei passare sopra il tuo diritto, mi ha dichiarato, ufficiale, che in Pacifica, la parte di Ossina, non viene con i giornali. Mi sembra sbagliato, no? Abbiamo questo impianto qui che fa danni e danni, adesso abbiamo avuto la notizia del ferro radioattivo. Mi ricordo che quando è sviluppo l'ingegnettore di potenza, che adesso non è l'ingegnettore di infusione, ci sono stati casi accertati di rapporti umani, nascime di animali malformi, feti, una tragedia che è con una condanna della magistratura. Voglio cercare di attivarlo. Perciò è specificata ufficialmente, ma D'Ussina non viene qualità, altra, nulla, in realtà. Però la cosa per cui Maurizio mi ha pregato di essere qui, ci riguarda l'immonito braccio del biossido di azzolo in paltaggio. Qui c'è una pazza in vetta dell'opio e dell'unito braccio. Ci sta là il fatto che l'ente, di cui io ho parlato, che è il cometo per il patrimonio braccio, c'è il supporto di un altro, di un'altra parte di subenaginale, la Ropius, che come missione di occuparsi di agricoltura di eccellenza, gli hanno attribuito queste competenze per monitorare la vantaglia nelle zone che si estrae in petrolio e si è affetto a un doppio comito braccio per alcuni inquinanti, fra cui il biossido di azoto. Mi sono accorto, quando provando i dati, che a lungo dell'anno progette, che nei mesi di giugno e luglio dell'anno scorso ci sono stati dei seguimenti eccezionali. Mi sono visto la storia dell'anno precedente, le rete, una cosa impressionante. In due mesi si sono bruciati diciotto giorni, ammissibili per il giugno di valori, cioè il biossido di azoto, non lo ha superati duecenti microgrammi sul metro cubo per diciotto giorni in un anno. I pallati in due mesi lo assumeranno venticinque voti. Da un cittadino chiesto spiegarsi alla chiesa madre, sessorata da Pietro e anche a Pallani. Per tre giornali, intervento del difensore civico, mi arriva la risposta dalla difensore civico, istruzionario dell'ufficio ambiente, addosso alla responsabilità della provincia. Due picche, città, una peggio, tutte copre la provincia. Chiediamo a Pallovicci. Dicembre 2009, chiediamo a Pallovicci. Sono leggi, non usano niente, solita. Traferiti, il difensore civico, mettere il giornale, si decidono a rispondere. Ma la provincia ribatte il tutto. Quattro raggi, effettando leggi, contro leggi, decreti, guarda, 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 che dove va a fare dei miei raggi? Oh, madonna, io ci volevo così. Fanno appena più poco. Divo a chiedere, a chiedere, a chiedere, a chiedere, in 90% la legge sulla trasparenza dei freddenzi sugli altri dettagli, ho avuto l'onore di avere una risposta dalla portavoce del Presidente di Dirlipo. E' un altro padre, tutto l'apositismo di Resalti, non divideremo qua, ma c'è un po' libero, 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 si è stata messa troppo vicina alla stazione Fubinanti. E' assurdo che dobbiamo avere queste risposte, un'accertata migliorazione di legge, fatta passare come una leggezza nelle monete. Scusate se c'è questo problema. perché fare male i moni non hanno un cellulite, e perché voglio fare a compiere se non ha anche il crisi, ma non è una difficoltà? Perchè lo vedete. Grazie a tutti. 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 Volevo dire. Ieri per telefono mi ha maltrattato, mi ha detto, guarda, forse vengo con l'intervenza perché vuoi andare con l'intervenza a contare i bambini. E lui addirittura deve occupare, buttando quel telefono, e non lo scopo e non lo faccio niente. Non gli dico la quantità di capire che dovrà pagare, diciamo, ci sono fatto, ma è un'unità. Allora, a Piatona, in genere io, con la seguita generale, sono chiamato a fare interventi di carattere tecnico. Sono quello che mi racconta le cose come sta, farò un verimento a dati, pregressi, a studia, in fegge. Stasete voi? Non mi vado. Mi sono scocciato di parlare a Sanca ogni volta a raccontarvi i possibili disastri. Con il tempo quasi che oramai abbassare sarà in questo tempo. Perchè poi i ragionamenti essendo pari è più che ci sono sempre distrutti. E' stato interessante ascoltarvi, è stato interessante ascoltarvi soprattutto Marco Marnello, a quali ero guardato come uno dei paralizzati di quel po' che è rimasto da noi. Però devo dire che molti ragionamenti mi sono sentati troppo... troppo sulle le punte. Io non sono voi, ma io sono quei ragazzati. Scusate, ma il figlio non aveva pensato in evocato più volte per questa cosa. Non aveva pensato in evocato più, ma non aveva racconto per secondi. Botti con questa cosa d'altro. Però, guardate, avete una cosa cresciuta. Ma ci guardate che avete. Ci sono un bel pari. Beh, quello è un bel pari. Cosa succede? Cosa succede? Cosa è un bel pari? A fare la cosa saranno andati i ragazzini a giocare. Avranno messi il ballone là. Beh, in quest'area così carina, questo un bel pari, era stato sequestrato da un po' dalla polizia, dalla polizia, dalla polizia. E' stato sequestrato un'altra volta, non più tardi di... meno di un paese del pari fa. Sospetto che sia stato sequestrato anche perché, nei giorni precedenti, era uscito qualche articolo di stampa che trattava la polizia. Quale è il motivo del volontario? Beh, in questo bel pari dove vanno i ragazzini a giocare alla polizia, tutti felici, a avere la polizia di soggette, da un bel frutto, un bel fatto di color rosso, aparatico, scatenziato di variante materiale che sono moltiplicamente delle caratteristiche di carbonio. Voi dite, ma è già un esempio. Io non mi sono dire che cosa sia. Non mi sono dire che cosa sia stato finito. Non mi sono dire che cosa sia stato finito. Non mi sono dire che cosa sia stato finito. Farà bene? Può essere. Certo. Perché era chissata se nei due anni... Sarà bene che l'avano riscaldato solo e ci hanno lavorato solo. Alla polizia non restava da sempre strana. I malati sono stati fatti degli accettamenti. E ancora non si sa da nulla che cosa sia successo. Ancora i ragazzi dovevano a giocare a favore, a capire da quattro soggetti. Siamo dire che non mi è per cazzare. Mi viene a cazzare il parericchio, perché in gioco tra le ragazze ci dovrebbero essere in piedi. Come dire, ho prestato un piacere che qui è un riscidio di ovazioni per noi, per noi. Per noi, scusami. E' stata un'attività che non si è potuto prendere l'attenzione che c'è stato quel problema con i primi. Stai a che si stava detto? Sicuramente il Presidente della Regione ha detto che qui tutti sulla sedia di esponenti di porte comuni che appoggiano il Presidente di Filippo ha detto che è una mica la popolizia polizia. Ci sono venuti a prendere il cumo e a fare una macchetta qui dicendo Siamo tutti per voi. Non manca che avevano un'inversale rispetto ai prodotti e ai padronosi radicali per la conquista delle vere sociali. Si signora, però, vediamo, non si sono visti ed essenditi all'interno delle associazioni regionali e all'interno della rappresentanza regionale nelle assemblee costituite. Non si sono visti ed essenditi quando si è trattato di presentare il programma politico delle loro presenze nazionali. Chiudo con una piccola cosa. A provvido che ci sono dei parlamentari, spero che Marco Pallella dalle banche di banche iniziare a contare, C'è un'altra cosa, la mamma è un'altra, e poi lo spettro. Mentre noi siamo qui a giocare, a dimentirci, a fare, diciamo, i vendicatori mascherati, qualche volta che facciamo questo quadri, perché siamo dei torpedoni, io, lui, tutti i vendicatori mascherati da zone, ma abbiamo dimenticato l'ultima volta di vedere Cimantello, che l'avrebbe fatto molto più, ma sarebbe stata molto più divertente. Nel nostro paese ci sta un tablo che si sta rosicchiando letteralmente gli spazi di demograzione e gli spazi di civile condiverezza del nostro paese. Questo tablo si chiama lega. attraverso il potere che questa forza dominica, che è l'espressione di larga parte del settore dell'unità che io, da altra parte, quella che mi sento, non ho sento, è stato passato da un modello generale, è stato passato da un posto del generale, costruito per effettuare una nuova operazione di neoccolonialismo, è stato passato da un amministratore che fondamentalmente lo vince in sud, è stato passato da un provvedimenti di incontro dell'università che fondamentalmente porteranno risorse da sud in questo periodo. Questo mi sembra realmente un problema sul quale è necessario che chi, da anni, dagli anni di qua, è il punto della voce della rivendicazione dei rivici civili del nostro paese. Si fa giacato. Io aspetto di sentire la voce alta, la voce di Darchia, la voce di Marco Bartella, e la voce di Alorevole, su questo problema. Che, finalmente, sentire qualcuno che non cerchi di blatire questi cani che combattono strutturalmente il territorio che non ha avuto tutto il interesse del nostro paese. Ma che dica chiaramente, padre a padre, e vini a vino, che i fascisti sono fascisti e che forse sarebbe il caso che se ne tornassero uno scandinato lo ha parlato di tutti. Grazie. 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 Gl rivNDATE. Ricoya. Grazie. Rebeck. べck on to the li Parlo a uno sforzo. 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 sarà il conto di voi. Questo può essere la voce e la sospensione degli avvocati, ma quello che noi chiedevamo non è la dieste delle prosciorti, né che sapevano benissimo che non potrebbero indagare per quattro anni sulla vicenda. Noi chiedevamo semplicemente che benissimo processarvi. Cioè se necessitano processarvi, non ci potete tenere appesi con intercettazioni telefoniche per anni. E quindi concludo, sostenendo la richiesta dell'autore Vito, un convegno su della giustizia e dei pazificati, dalla propria di questi temi, ed entreremo in tanti e altri tanti in particolare, è una cosa, secondo me, indispensabile, se ne vogliamo superarci dei problemi, non come giornalisti, ma se ne potrebbero citare i tanti di cui parlavo di una panamera. Siamo stati limitati quando abbiamo segnalato alla Guardia di Finanza che c'erano degli operai russi, cioè dei russi, nello Stato di Vimento Baradilla, che stavano smontando le agenzia da fume comprate nei fondi del terremoto dell'Ottanta, e li stavano trasportando in Russia dove li hanno trasportati a Trasmo. Ma ci hanno risposto, beh, adesso è tardi e non ci possiamo muovere. Poi fate la Guardia, cioè fate la Guardia allo Stato di Vimento, quando adesso, come us, ci chiamate, quando adesso con questa operazione, ci chiamate nel mio intervento dei miei anni. Noi abbiamo fatto la guardia, abbiamo fatto la notte, siamo stati di guardia, io andavo volendo il giornalista, la mattina dopo alle 5, a parte del container, e li chiamiamo. Vi guardate che è stata parte del container con le attrezzature finanziate con i fondi del terremoto, che stanno andando a vivere dall'Alvalide, lo stabilimento era chiuso da 9 mesi, e ci rispondono, diciamo, adesso è il loro congresso per l'organizzazione della scuola. Tanto, mica, mi chiescono a mandare tutto con un solo container. Poi, continuate a fare la parola. Alla prossima, stai di soli ci chiamate. Adesso, in parte della nostra comunità, nella zona industriale dei Piscicci, dove c'era una fabbrica che lavorava a Mianco, la Manderit, la fabbrica era aperta e Mianco era aperto, come diceva, un buono aperto un po' a presentare. Noi avevamo voluto inseguire la cazzella dei carabinieri, perché dopo aver imparato un segno, ampeggiandolo, indicando, i carabinieri se ne sono scappati, i carabinieri e i carabinieri. Io avevo una macchina che saremmo diseguiti con la macchina, siccome avevo una macchina più veloce della Pampagnola, gli avevo sopra a strada, gli avevo portato la strada, e ci sono tutti per le mani i carabinieri. Ma, scusate, ma perché non nemmeno più delle mani, li stiamo facendo un segnale, perché volevo un segnale, per piacere non ci mettere dai quali. Questa è la quasi lenta data di cui bisogna parlare. No, 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 chiudo, chiudo, non è per questo esempio. Ritorno, di questi fatti ne potremo arrabbiliare, dateci la opportunità, aiutateci anche in questo a porre la questione in termini, diciamo, Diciamo, non sono terribili così uomini, quella di quelli che raccontiamo, chiaramente i terribili di parati laraggici. Scusate, sicuro sono stata in vacanza per sei giorni, come dice Giuseppe Panamera, le vacanze fanno male, quindi non è vero, ma non è vero. E per questo, non è vero. Dicevo, voglio ringraziare e ammigliare tutti voi per questo pomeriggio e questa serata che è trasmessa in diretta dalla Revalità, quindi si va da tutti quanti siamo qui e ancora in un c'era comunque a seguire questo dipartito, da quale sono una marea di informazioni e a un certo punto io mi sono quasi un po' preoccupata. Certo, se uno va sul sito di momenti sopravvoli, se uno va sul sito dei ricavi, se fa vedere le intervenzioni di Isabetta Zampalotti, o quello che c'ha scopo di voi, fa sul territorio simbolo, però il dato dell'ambientale e dell'inclinamento, secondo me, questo è un po' simbolo, molto simbolo, in cui c'è magari una... come si fa su Facebook, no? Invenzarsi in un gruppo sull'ambiente, sulla salute, sul rinclinamento, in basilica e sistematizzare io un po' inizio, perché io vedo che i cittadini tutte le cose che voi avete detto non le conoscano nella loro tradizionale perché? Perché c'è un sistema, una circostazione che punta sistematicamente a come disinformare allo scopo i cittadini. Ma qui c'è materia, non so l'avvocato si è d'accordo con me, beh, ha tentato la salute pubblica, cioè, anche, io credo che c'è materia per presentare fior denuncia a proprio circostanziare una denuncia, cioè, per un mezzo che seguono qui in Basilicata un po' sbrigarevo, appena uno si trova a dire o non qualcosa qualcosa ecco che le forze delle produttive non hanno a tener prescite, cioè, il metodo dell'intimidazione, ma a me sembra chiaro che se si fa unione, se si fa forza, beh, non è che possono andarci tanto facilmente a commettere questi che sono veri e propri reali, perché quando si arriva la vendibilazione per impedirti di far conoscere, per impedire, per venunciare, per dare mani in un tuo lavoro di denuncia, beh, siamo di fronte a, a mio appiso, a veri e propri reali, che qui in queste reattive non vengono persino, sia l'avvocato Pinto che il terente di Pello hanno usato due parole che secondo me sono due parole che hanno il carattere dell'essenzialità nel momento che stiamo vivendo in Italia che è un momento di dura dei 60 anni non è che oggi stia riuscitato per tutto, è qualcosa che si è preparato nel tempo con una volontà di arrivare a questi punti oppure con l'incoscienza di chi non si è reso conto di quello che stava preparando per che accade anche questo le 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 servizio queste sono le parole che voi avete usato e sono parole essenziali che devono segnare il nostro cammino vedete come partito l'arcale transnazionale non chiedere chiedere le cose italiane ci siamo risconti che non è più possibile restare ristretti perché non ci sono gli spazi per agire confronti di un sistema che ha livelli di conclusione ormai difficilmente affrontati terremo a barcelona 3 a 5 il consiglio generale delle mani radicali transnazionale perché a forza di questa ricerca perché conoscenza e informazioni significa anche ricerca a forza di fare queste ricerche queste sperimentazioni sono venuti fuori docenti come il professor Romano che ci hanno indicato tutti i livelli della giurisdizione internazionale presso i quali si può intervenire per presentare un problema come quelli ambientali che voi oggi avete puntualmente descritto questo sì certo noi paghiamo il prezzo di una proposta che non aveva più un dettacolo al parlamento europeo perché se vi guardate bene con una parola ma certi temi riusciranno a poi ma ci sono anche altri esempi che possono essere sperimentati vedete in questi giorni voi vedete tardi ma ti capita di incontrare un cittadino che saluta la pannella che dice va bene andiamo a queste emizioni ma alcuni lo dicono così finalmente ma andiamo via per lo scuro non sappiamo per avere che cosa un po' all'opposto di questo e altri lo dicono perché vogliono fino alla gente che per le scuole si rafforza si rafforza ciò lo dicono da questo punto di vista è che è un sistema corrompo perché anche il colore che si presenta come il mondo che sono stati scelte dalla regime per essere loro l'opposizione artificiale c'erano le battaglie un secondo che hanno si fa io vi dico una piccola cosa che è guardato la nostra delegazione di carne ma in pachi anni nessuno alla carne dei deputati che ha chiesto la lista dei progettori che riposcono la carne che sta andando fuori delle cose esclusive nel senso che i pizzi svegli l'eca compresa l'eca tutti i tu compresa hanno favorito le imprese che gli davano non so che cosa però quando uno vede che l'imprenditore palazzinare romano scarpe grino svega nel giro di 10 11 anni quasi un miliardo di euro pezzo uno scominciato a preoccupare ci sono cittadini abiti ristorazioni e combinazioni senza fare una gara allora questo è notato come esempio però siamo aperti che il regime si sceglie gli ufoscuri quelli che non vanno a scavare il filo in fondo e così continua come appatto intervento per 60 anni non è un caso e concludo che noi abbiamo avuto regalamenti viti come quello sul finanziamento del gruppo di partito come quello sulla responsabilità civile di magistrare proprio per parlare di giudizia anche la l'azione delle carabiere per lo scopo che ci parla solo io e non ci apprezzare che non ci pensarà mai stare facendo un belenato sulla giustizia non è un caso che i terreni sono stati letteralmente sceppati dalle mani dei cittadini quanto un regime sicuramente questo nessuno nessuno non c'è stato un presidente della repubblica che si è scandalizzato per questo che ha detto una parola per questo quando la scheda preferentaria è stata sottratta dalle mani dei cittadini io credo che ci si va a preoccupare ma non per dire ormai sono misperati di no per trovare le strade noi ci troveremo a una cittura per fare quello che non ci sa grazie siccome dalla inizio che mi ha sentito la prima ho avuto anche la 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 di seguita dal punto di vista l'ocerenza del libro che parte della metacarata di conseguenze per i termini che ci sono stati però se torniamo a vedere quello che succede adesso siamo alle ore delle 40 alla potenza alla paracolet non diciamo lo potete ritrovare sulle registrazioni isolate quello che ha accaduto per molti di noi da arrivare qua per due ore le cose da dire abbiamo che fare a 3,5 chilometri ma siamo un'azienda d'occhio una sessantina e le più volte di parte i nostri colori hanno avuto chiedere all'organizzazione paracolet di niente le nuove stessi è proprio perché si sta si sta da stretti e si è ineritanti questo ha significazione di quello che sono stati gli interventi io devo dire ho scontato tutti gli interventi e quello che ho appreso è che vi avete trovato qui una testimonianza di di saravere di volare cioè noi ci ritroviamo da anni ormai inizialmente con un'avanzo con lo chiede ma adesso con un'avanzo di casetta della carabia della pubblica a confrontarci noi nelle nostre grandi milioni di grandi comunità nazionali in cui affrontiamo le nazionali e le nazionali a parlare di fosforogessi di impario di una serie di di evidenti che personalmente ancora oggi faccio difficoltare di conoscere ma che ci hanno consentito proprio dai singoli i nostri compagni di cani di apprendere qualcosa di canire come noi il 27 del mercato dobbiamo perdere la realità del rispetto delle regole perché le uniche riqueze sono le più debole beh ci siamo così in conto che facendo sussimilente si torna ad essere ambientalissima viene benestrì come nessuno in questo momento finale sarebbe rivolare a camionapistola è il minimo comune eliminatore di questa giornata sarebbe rivolare che Rita da Berlantini a Capadopeia a Sottotolo Piazzo grazie all'anno di cani hanno potuto avere 100 200 300 delle persone magari durante queste giornate ci saranno le reddite ci saranno la possibilità di ascoltarli e di vedere di e anche un'occasione di resistenza perché quella è una un'occasione di ma quella di tutti che si intervinuti la maggior ragione di chi qua è presente senza essere intervenuto è una testimonianza di resistenza che a questo punto dovremmo trovare in modo di organizzare cioè da un detto all'inizio della Basilicata perché la Berlantini è il momento qui con i suoi libri con la roba la terra perché la Basilicata è un caso non è caso nazionale non è stato detto dalla ripresione le istituzioni sono delle libri qui come in Italia hanno rispettato le loro stesse regole lo ha raccontato il dottor Montemuro con quella magistra della luna spesso alla morte la luna in senso opposto alla dove uno si aspeterete così come l'analutica latina ecco allora di fronte a tutto questo l'avvocato ha vinto il problema che cosa ha quando sono in risultato qual è la terapia un risultato l'abbiamo già ottenuto che accresce della conoscenza e degli altri fuori di noi ma soprattutto anche la conoscenza tra chi è più dentro c'è come si è rendito che le analisi non solo con l'inizio ma anche anche il comitato dell'emergenza democratica le analisi qui in Basilicata da cittadini non bisogna aspettare o attendersi di le faccia l'arpa o le restituzioni qui è probabilmente riguardo il settore dipendo che è stato lo spesso dovere l'eccesso del protagonismo un settore abbiamo un'agenda questo spesso del processo del protagonismo e comunque eseguiti in Italia l'attuale capo dell'antiterrorismo l'attuale capo della città o della prima della polizia l'attuale coordinatore dei servizi segreti l'attuale responsabile principale dell'analisi dell'ex sims dei servizi sfruttativi sono condannati per le anni gradissimi e interventi delle pubbliche uffici e nessuno ha preso non un lobedimento ma anche la sua impressione sull'opportunità che rimanessero in quei posti e noi abbiamo il dipendolo che viene sospeso per il certo del protagonismo si fanno cominciare a trovare nuove formule più organizzazione anche dei primi io ho per un po' di tempo mi prestavo nelle list dopo lo computer dovete vedere quelle che possono essere degli strumenti di organizzazione a ragione dei crisis quando dice che molti sono vicini a forze politiche che poi alla fine sostengono chi va in regione non si pone niente da questi problemi qui beh dobbiamo come al solito succede e sul gesto in Italia con le iniziative dei cittadini le iniziative quanto più possibili istituzionali mentre le pressioni e le proprie agachite vediamo su cui non abbiamo più speranza cioè quella base politica anche quella bassificata che possa magari interventire magari le convenienze per provarci io ho visto ad esempio magari non è inizio dell'affare ma c'è che può fare quindi in bassificata con 8.000 la firme il bello scritto della raccorte 5.000 magari è stato un punto più difficile fare con i piatti delle procedure delle 10 ma con 8.000 la firme si può fare un regno in bassificata sia di 500.000 per un elettore si tratta del 1,5% avremmo la possibilità di fare istanze precise che è composta da un volto dell'inconozione regionale ad esempio che è la nostra che ha capato di essere davvero azzata valutti è la nostra che ha dovuto perdire le risorse dell'inconozione per iniziare a fare che cosa quello si riguarda il piano di politica da Piede del Poscano da Pasento e da San D'Alberto di Piede il fatto che ci sia la madre che ci possa andare avanti altre che ne vengono anche da altre regioni noi avremmo voluto chiamare anche i ringrazio i nostri compagni radicali che si stanno occupando anche loro su questi addomini di venere industriali e politici in Puglia in Campania in Calabria e abbiamo canali proprio perché magari se vogliamo parlare dell'iniziativa che sia dell'iniziativa che sia del referendum che sia di manifestare affinché magari quello procuratore che è da 20 anni e quindi magari sia il caso che venga sostituito o venga o venga in qualche modo supportato da altre forze nuove beh noi lo stiamo chiedendo e magari si può immaginare una stagione di cui per qualche settimana o un mese le persone da altre regioni dalla Calabria dalla Calabria e poi perché no magari proprio dal nord dell'America quel nord dell'America silenziosa degli ambiti che ci sono silenziosi che esistono e possono cadattarsi qua nei crenci dipenderà da noi sarà necessario organizzarci io credo che qui tra queste volte c'era professore che vi hanno visto c'era una nuova parasse dirigente anche questa classificata nuova l'opera perché i giovani è proprio libera dagli interessi probabilmente del fede e con la passione per quello per cui si vuole lasciare proprio il figlio semplicemente al futuro della propria generazione e proprio per questo la loro io vi ringrazio vi ringrazio tutti vi ringrazio tutti vi ringrazio tutti e vi chiedo ovviamente sono di fare ancora della vostra attenzienza di aspettare qualche minuto perché vi vorrei chiedere proprio ai nostri compagni un compagno per la pugna un compagno per la carabia un compagno per la campagna di fare una sorella presentazione pochi minuti ciascuno il mondo mi fa capire che anche loro hanno gli stessi poter iniziare così a riconoscerci e rinnovarci alla stanza di sede di male di giorni se è possibile per la valenza insomma forza la cuore a tutti quanti non spero che vi sia il caso di lasciare una speranza io credo che dalla destra sarà nasce oggi la possibilità di una speranza di capire a basificare i primi per l'italia vita di Marchese di Calabria dell'Alcalde se è inà se è inà di poter intervenire il 5 del 10 marzo se ancora non c'è Marco Marchese ritardo la pandemia dell'Europa Marco Marchese si tratta da 15 minuti per conoscere il tempo anche di risultare che qui Marco Marchese nostro compagno dell'Associazione Calabria del Calabria. Grazie. Grazie Mario. Io sono disegnato in Calabria del Calabria, ma per me potrebbero dire che noi ci occupiamo anche dell'ambiente in Calabria o se devi dire a 360 gradi con le nostre iniziative. I problemi della Calabria non sono differenti da quelli della nostra sindacale a Contrario. Noi abbiamo fatto un'assemblea straordinaria della nostra associazione nel mese di giugno, dove abbiamo presentato diverse relazioni, in una di queste relazioni tra la parte del argomento mianto. E adesso stiamo studiando insieme anche all'amministrazione comunale del comune dove noi vi sediamo in una cittadine di provincia di Catanzaro nel centro storico di questo comune c'è un gravissimo problema del mianto perché diffusissimo lettere un quasi 70% dei tempi del centro storico sono di coperti di ESA in una situazione veramente grave e che conoscendo gran parte della Calabria l'hanno visto in nessun altro paese posso avere un problema del mianto che è molto diffuso ad esempio su tutta la costa Ionica come anche in tutta la provincia di tipo Valencia e a Reggio Calabria in particolar modo. Allora insieme a questa l'amministrazione comunale stiamo incominciando ad attivare un dialogo che si stanno incominciando anche delle aziende private e stiamo puntando a portare su questo territorio un'iniziativa come incominciando anche l'Expo che sono delle aziende che non occupano di energia dove laddove c'è anche un privato cittadino che dà la propria che ha il problema della politica dell'energia e dà la propria disponibilità praticamente affittare per 20 anni a questa azienda il proprio letto allora c'è questa azienda che trova si incontra nella disponibilità con questa azienda a finanziare la politica dell'energia e questo viene anche in un'ottima maniera per risolvere alcuni problemi in determinati posti perché non è quando si parla di età perché è una cosa più diffusa da una cosa che riguarda l'amianto in Italia non è soltanto il problema della politica un privato cittadino con un tetto di 200-300 centri quadri magari rispette alcune migliaia di euro 5.000 6.000 euro per politica ma il problema non è la politica il problema che potrebbe che vi resta perché è un'opera e quindi hai bisogno di 25-30.000 euro che per rischiarlo quindi che è per il problema e allora un po' unire queste risorse la disponibilità delle amministrazioni che possono favorire molto anche i procedimenti amministrativi per arrivare a ripristino dei detti ad esempio dove ci possono essere dei detti che sono esposti non assoluti per cui non è conveniente installare il fotovoltaico allora magari con delle procedure più serbificate senza variazioni significative le malte possono essere esposte più facilmente in modo più favorevole e quindi si agevola questo processo di unione tra cittadini che hanno questo problema da risopere e anzi entri che cercano dei detti d'attività e questo è quello di cui ci stiamo occupando e ci sto dicendo che se riusciamo in questo contesto a creare un po' ordinamento tra noi radicali e tutti gli altri che vorranno fare un pezzo di strada insieme a noi e noi siamo favorevoli e siamo lì come abbiamo fatto oggi a prendere la macchina per formare la rivoluzione per sapere la regio calabria a vedere qui come sono sicuro che poi dopo troverò bene e poi con le ruote gli ottimi compagni che riparanno e girano la strada inversa vi ringrazio saluti e poi chiederei alla segretaria di dire la situazione di la casetta Luca Pove in parale in parale di una situazione a casetta come vedete è stata anche molto grazie a conoscita conoscita ma che manco la cura degli aspetti da risolvere soprattutto c'è tanti gli aspetti che mi hanno una norma dove c'è di casetta in piccolo caso un comune di poco più di 5 mila alcalante calandiano dove il sindaco ha detto il genitile con la forza comunale la questione dei rifiuti quello comune è stato assotto perché la interventura dell'eserda dell'economia la gestione dei rifiuti va da un consorzio provinciale non ci dobbiamo neanche l'invalorzio alla paroligia del consorzio provinciale non ci sarà di sono proprietari di ciriologie ma la ciriologia si rischia intanto quello comune dove il racconto di differenziali funzionale 35% è stato asciotto quello è stato piccolo locale della provincia di caperta noi con gruppo di regali di caperta stiamo conoscendo tanto le nostre forze sono due elementi italiani il primo con i regali cittadani non forse la sua artificiale che interessa da parte tutte le province della capana ma dove in provincia di caperta si parla di inquinamento palastrutto fino alla cittadani di regali da un parale sotto del terrestre dove si poteva anche pescare dei caratteretti di fune purtroppo la nascita avevano organizzato quella del lungo e ripresa una fisca di per se lo sento noi avevamo fatto un piccolo giro in quelle zone con una piccola delle canne per fare dei piccari avevamo usato l'apicurto negli latini dunque caracazze di altro addirittura in quella zona dove l'attività del conservato di mule nelle municipali gli agricoltori bucano le caracazze che viene mano direttamente in quella corso d'acqua allora l'alberatore contiene solamente solo delle vigni e delle pupole i nazi che ammazzano e le buscan le distanze la propria di una campagna ha cambiato migliaiai di euro per passi funzionare i manipulatori e è trovato in gestione con un'azienda questa azienda si 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 e anche di trovare tutto, naturalmente di tutto. Il risultato è che si è sostificato, dicendo che abbiamo raccogliato i soldi dalla ragione Campania, la ragione Campania, che allora era amministrativa dalla pastolinea, noi che la abbiamo dato, si riesce a capire che era una cosa assurda, cioè che sono stati spaventati, compiati un euro e non si capisce chi la raccoglierebbe. Un altro problema che andiamo affrontando è quello delle cave. Non c'è, non c'è, non c'è, ma non c'è, non c'è, ma 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 non c'è. Ma non c'è, ma non c'è. Allora, Mandalone e Casetta, Mandalone è un comune, aveva passante il portale dalla provincia di Casetta, e ci sono gli interagenti, iniziali, la gente, che non ha mai, è l'anno che comprote le nuove tifatine. Negli ultimi anni ha chiesto anche, per adesso, di lavorare l'aschio per restare le nuove tifatine. Dove è solo che muoverà il patrimonio, così, i ponti lavali, che sono dei ponti che portano l'acqua dalla penna metano alla scala della legge di Casetta. Il comune di Mandalone e Casetta, inizialmente, erano contrari a questo avviamento delle agenti, ma, purgamente, non sembrano nella stessa idea. Noi, come giù, per la ricetta di Casetta, stiamo preparando un testo da proporre, un petto che è presentato, da proporre contro l'ambiamento delle agenti della fine comune di Casetta. Per quanto riguarda bene gli anni, invece, stiamo conoscendo da cuore un figlio, del comitato, ma abbiamo una cosa per difficoltà, non ricordo che abbiamo mai, per quello di dire, per quello di dire. Noi ci siamo a fondamentali degli amministratori di quei comuni. L'unico comune che ci ha risposto è stare a costa del futuro. Anche perché poi i comuni, ciò da cui diceva che era stata più difficile, erano ormai assolto da l'anno per l'ambiamento delle magistrati. Noi, con l'unico emozio, speriamo di avere comunque un apporto e un apporto dell'amministratore, perché abbiamo bisogno di risposte. Abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di come ne vengono governarie, come ne vengono gestiti. Questi soldi che vengono gestiti, che ci sono, ma lo troviamo nelle tassi e le tassi e le tassi di ragazze del genere. Grazie. Passiamo all'ultimo, veramente, che è il segretario di Sidi Salerno, la sua regione, promossa e rivolta dal segretario dei Pianti, il segretario del Sidi Salerno, che è qui presente. Vi saluto con un grande affetto. Allora, per favore. Allora, per favore. Io ringrazio Mario per essere sospeso che si potesse pensare ancora un po' della vostra attenzione. e quindi, sostanzialmente, qual è il nostro impegno? Il nostro impegno è quello di salvaguardare, come dice il nostro nome, se il Salerno, se abbiamo saluto le tre province, di Frizi, Taranto e Lecce, dal modello del tutto tenuto di Pecchini e Porni. Cioè, noi stiamo stupendo con una penetrazione dei grossi progetti di fotovoltaico e di eolio industriale sui nostri territori. Noi ci siamo in posto di una semplicissima domanda. Per qual è il motivo? Non vediamo il fotovoltaico sui detti delle nostre case, sui partiti pubblici, sugli edifici di pertinenza comunale, ma lo vediamo nelle nostre campagne. Per qual è il motivo? E quindi voglio fare una citazione rispetto agli interventi che sono stati fatti in precedenza. Se parliamo di giustizio per me, se parliamo di paradossi. Noi nel Salento viviamo in un grossissimo stato di giustizio per me. Vale a dire, per rispondere qua, si parla di questo Salento, gustone delle tradizioni, capace di innovare la sua cultura materiale, di valorizzare il suo territorio, e però poi abbiamo questo fotovoltaico che si sta mangiando con questo inveneso consumo di suolo le nostre campagne e le nostre stesse testimonianze della civiltà vissuta. quindi sostanzialmente l'impegno è questo, l'impegno è questo, l'impegno è di capire quale forma, come ha appena detto Isabetta D'Ancorotti, sta facendo la fine forma nel nostro territorio, di capire per quale motivo stiamo diventando bravissimi a costruire dei parchi eolici, come succede sulla sera di giugianello, dove ci sono delle testimonianze civiltà al peste. Quindi noi non stiamo costruendo lo stato attuale dei parchi eolici, stiamo costruendo con il mio padre dei parchi eolici. Cioè c'è questa contraddizione che noi facciamo fatica a capire. Quindi con l'assemblea costituente del 20 giugno 2010, noi ci siamo andati a una nozione grazie per l'impegno a questi termini. E' una battaglia per contrastare effettivamente sul territorio questi grossi progetti di situazione. Questa battaglia passa attraverso momenti di informazione di attraverso le istituzioni di convegni. Dico che si può complementare la nostra nozione già per fare un primo passo di condivisione a quello che può essere il coordinamento interregionale. E quindi convegni e quindi le istituzioni una grande repubblica delle progetti industriali di eolio, di fotocontale. Noi vogliamo capire di più, non vogliamo capire solo il titolo del progetto del torno della battaglia di progetti. Vogliamo capire qual è la capitale sociale della composizione delle amministrazioni di queste società che vanno ad ottenere l'utilizzazione. Vogliamo capire per quale motivo la società di capitale sociale di 10 mila euro senza di nuovo necessario per costruire questi grossi impianti sono le prime a ricevere l'utilizzazione e poi vendere l'utilizzazione immediatamente. Vogliamo capire se per caso queste piccole società sono delle società di intermediari, sono delle società di politici imprenditori e quando a caso poi ad una prima per l'utilizzazione si scopre che purtroppo sono anche politici in un certo partito a popolazione di maggiorità, mi riferisco ovviamente al Partito Democratico. Noi quindi andiamo a bloccare... Ovviamente, passiamo anche dalla regione, che ha raggiunto la loro sufficienza energetica, quindi noi stiamo già a prendere l'energia nelle altre... C'è la nostra in penale, se dite che gli spazi nostri ne vengono privatizzati, a voi da chi mi letta la teme dell'arca politica, e quindi... ovviamente raccolgo lo stimolo che ho presentato quindi ci impegniamo affinché la legislazione regionale e l'operato politico, la politica del Governatore sia più coerente rispetto a questa grossa narrazione che lo ci viene proponendo e che è sempre capace di allegrare quindi dobbiamo per forza una confrontazione in questa situazione in Italia. Quindi, chiudo. Noi ovviamente non vogliamo andare da giro solo a livello di referendum comunale del bloccale dell'emergenza, vogliamo anche portare dei ricorsi che eventualmente siano in grado di superare anche la giudizia nazionale, quindi cercare di grado di precedente a livello solo nazionale, a livello europeo, andando a vedere cosa si può fare per quanto non c'è una ruota di giustizia per cercare di grado di precedente e bloccare questa sorta di invasione di mondo che sta accadendo nel nostro territorio. Quindi, chiudo. Per noi questa battaglia è importante perché, a mio modesto parere, questa battaglia può essere capace di creare il nuovo tessuto connettivo nella militanza delle carni. S'ha detto che è ancora molto, diciamo, disperse, quindi noi accorgiamo fortemente questa battaglia per ricostruire e approfondire questa militanza e anche per creare il tessuto connettivo a livello interregionale e per portare avanti in nuova politica, diciamo, in più da questo stile. Grazie. 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 e a tutti i partecipanti alla prossima.